signori consiglieri per cortesia accomodatevi inserite le tessere signori vogliamo iniziare i lavori per cortesia grazie grazie bene consiglieri per cortesia consiglieri per cortesia consiglieri per cortesia consiglieri per cortesia signori volete accomodarvi per cortesia consiglieri martino consiglieri a cardin bene va bene buonasera a tutti chiedo al segretario se c'è il numero legale c'è il numero legale dichiaro aperta la seduta del consiglio comunale nomino scrutatori consiglieri elio rossetto francesca cardin Dario Zanut risulta assente la consigliera Isena Peresson scusate arriverà in ritardo il consigliere Matteo Loro e Riccardo è il consigliere Piccinato comunico che la alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiglieri si è deciso il seguente ordine di lavori verranno esaminate tre interrogazioni in inizio lavori dopodiché si affronteranno la delibera numero 46 e poi la delibera numero 42 fino al loro esaurimento se rimarrà del tempo poi verranno trattate le emozioni chiusura dei lavori alle 22.30 salvo che serva più tempo per le deliberazioni chiedo al sindaco ci sono comunicazioni? non ci sono comunicazioni bene allora iniziamo con le tre deliberazioni interrogazioni scusate consigliere Piccinato non c'è allora interrogazione del consigliere lo perfido al signor presidente del consiglio comunale di Pordenone oggetto continui blitz non autorizzati associazioni immigrati e preghiera musulmana in cossede del consiglio comunale rilevato da organi di stampa locale come per l'ennesima volta l'associazione immigrati che è anche membro dell'osservatorio per i problemi sull'immigrazione del comune di Pordenone ha organizzato un blitz non autorizzato presso la sede municipale contravenendo alle norme che disciplinano le relazioni tra cittadini ed istituzione come nella circostanza di questo blitz un partecipante cittadino extracomunitario verosimilmente di nazionalità pakistana ha utilizzato l'aula consigliare per professare il proprio credo come riportato dalla foto sotto riportata riportato come l'associazione immigrati in quanto destinatario ai contributi pubblici dovrebbe adottare funzioni e comportamenti consoni e rispettosi della legge in quanto membro dell'osservatorio per i problemi dell'immigrazione del comune di Pordenone ha tutti gli elementi per entrare in contatto con l'amministrazione che in qualità di interlocutore intermediario con gli ospiti del nostro territorio dovrebbe essere il primo precettore nei confronti dei cittadini stranieri ad educare rispetto della legge italiana nel rapportarsi con le istituzioni e dei principi della nostra convivenza civile basata sulla laicità delle istituzioni la città delle istituzioni peraltro che è alla base della pacifica convivenza tra i cittadini ed ospiti della nostra comunità occidentale in generale il professore credo musulmano nella sala consigliare del consiglio comunale di Pordenone abbia profondamente colpito dal punto di vista simbolico l'opinione pubblica che proprio in questi giorni Galli della Loggia sul Corriere della Sera riporta le seguenti parole chi crede che le ripetute minacce del califo contro Roma o che le immagini di San Pietro su cui sventolano le bandiere dello Stato Islamico siano scherzi non ha capito nulla facendo intendere l'importanza dei simboli nel rapporto con altre culture soprattutto quelle non secolarizzate il sottoscritto chiede all'amministrazione se in seguito alle ripetute intemperanze e violazioni delle norme è intenzione di questa amministrazione prendere provvedimenti nei confronti di una situazione che dovrebbe essere organo di mediazione tra istituzioni ed ospiti della città nel rispetto della legge e delle consuetudine italiane ma che invece continua a contraddistinguersi per il non rispetto della legge se quanto avvenuto presso la sede consigliare senza alcun intervento da parte dei membri delle associazioni immigrati e dei rappresentanti del Comune di Pordenone è segno di condivisione e approvazione da parte dell'amministrazione comunale o se invece, non condividendo, è intenzione di codesta amministrazione intervenire presso le sedi più opportune per educare il rispetto della legalità e della laicità Firmato Emanuele Loperfido, gruppo consigliare Popolo d'Italia, Fratelli d'Italia Prego, signor Sindaco Grazie Presidente, grazie anche al Consigliere e dividerei la risposta in modo secco in due parti la seconda domanda che è relativa alla preghiera e a quel momento nella sala consigliare è stata qualcosa che noi abbiamo toccato in un'interrogazione precedente se vuole glielo ripeto dove avevamo anche fatto un po' la cronistoria di quello che era successo quel sabato pomeriggio comunque ripeto la posizione che se non sbaglio nell'ultimo Consiglio Comunale avevo manifestato che era di fatto non vedevo che l'atto di per sé fosse stato una blasfemia questo non voleva dire che ci fosse una ma avevo detto così quindi lo ripeto e non vedevo diciamo un insulto alla laicità di questo posto di questa sala consigliare che credo sia un valore che abbiamo ampiamente provato in questi anni quindi sì lo shock per la cosa di per sé lo trovavo ingiustificato né era una negazione delle nostre radici questo era quello che avevo detto l'altra volta circa invece l'atteggiamento dell'Associazione per gli Immigrati dispenderei qualche parola in più lei sottolinea correttamente che l'Associazione degli Immigrati alla fine è un organismo che diciamo proprio nel suo DNA ha come obiettivo quello di facilitare i rapporti questo lo dobbiamo calare magari qualche tempo fa ma insomma tra gli immigrati che lavoravano nel nostro territorio e la parte comunale l'amministrazione ma non solo l'amministrazione comunale in genere o l'istituzione un qualche cosa che è stato espletato con diciamo nei limiti del normale per alcuni anni è chiaro che nell'ultimo periodo con un arrivo così massiccio di profughi quindi con la tensione insomma basta andare ci sono altre interrogazioni che parleranno anche di questo ma voglio dire in generale sul tema dei profughi il ruolo di questa associazione che forse è confluita in quella che si chiama la rete di solidarietà ha assunto un questo parlo degli individui di alcuni degli individui che compongono questa associazione a volte ha creato un interrogativo se effettivamente la interlocuzione con queste persone a cui io do il credito della buona fede non dico che non siano non abbiano nelle loro intenzioni il fatto di aiutare queste persone però alla volte alle volte mi viene sempre il dubbio che il risultato della loro azione diventi addirittura un negativo nei confronti delle persone che noi cerchiamo con tutti i mezzi possibili a nostra disposizione soprattutto con il coinvolgimento della prefettura di trovare una sistemazione decente quindi io approfitto di questa interrogazione per sottolineare due cose certo le modalità bisognerà discutere con cui confrontarsi andando avanti ma soprattutto è un appello quello che faccio approfittando proprio della sala consigliare visto che a noi preme risolvere i problemi non acquirli invito tutti quelli che hanno in modo genuino in modo appunto in buona fede hanno nelle loro azioni come obiettivo quello di aiutare queste persone di venire e parlarne con noi costantemente non di contrapporsi all'amministrazione comunale né tantomeno agli altri organi istituzionali che si occupano del tema grazie signor sindaco prego consigliere Perfido può dichiarare se si ritiene soddisfatto siccome l'aveva citato l'altra volta volevo essere sicuro che ci fosse ancora grazie presidente grazie signor sindaco per la risposta vede per sgomberare subito il campo da equivoci qua nessuno ce l'ha con la persona che è entrata qua e non conoscendo probabilmente ancora dove siamo in che realtà in che tipo di culture in che tipo di istituzioni in che tipo di nuovo mondo visto che arrivano da paesi completamente diversi siamo è giusto che ci siano queste associazioni di immigrati che aiutino a far capire cosa si può fare dove si può svolgere determinate funzioni dove si può a chi si deve rivolgere per reclamare i propri diritti e soprattutto le modalità per reclamare i propri diritti ecco allora che quando durante un consesso durante un evento organizzato dalle istituzioni tra l'altro completamente separato dalle tematiche legate alle problematiche dell'immigrazione ovvero la presenza di un campione del calibro internazionale come sottomaior si approfitta di questa situazione per fare un blitz non autorizzato all'interno della sala consigliare quando l'altra volta lei ha detto chiunque può entrare in consiglio non è propriamente così ovvero quando noi facciamo un consiglio comunale ci sono anche come in questo caso i vigili che possono decidere chi può entrare o non entrare proprio perché certamente possono anche allontanare qualche persona quindi ecco e infatti se si comporta male se qualcuno non è autorizzato si comporta male e va fuori da quest'aula e in questo caso questi membri dell'associazione di immigrati che dicono agli immigrati di venire andare a dormire nel parco dicono agli immigrati di venire a Pordenone perché li sappiamo accogliere e li mettiamo soltanto in grave difficoltà li facciamo dormire al freddo dentro le tende queste persone che fanno parte dell'osservazione di immigrazione del comune di Pordenone dovrebbero essere coloro i quali dovrebbero fare da facilitatori dovrebbero saper mettere a proprio agio le persone che vengono nel comune di Pordenone dovrebbero dirgli guarda che tu hai tot orario alla settimana per poter andare al comune e chiedere determinati diritti chiedere determinati documenti se invece sono proprio questi a forzare la legge sono proprio questi a calcare la mano a infischiarsene di quelle che sono le direttive che lei signor sindaco dà ecco allora che iniziamo a dare un cattivo esempio a queste persone che invece di venire nel nostro paese e iniziare a rispettare le regole dicono ma se l'associazione di immigrati mi dice che posso anche non rispettare le leggi anzi posso anche violarla e fare blitz non autorizzati beh allora per quale motivo io devo iniziare a chiedere certificato rispettando la legge devo comportarmi rispettando la legge nel comune di Pordenone posso posso fare quello che voglio perché tanto se il primo esempio è l'associazione degli immigrati allora tanto vale posso fare quello che voglio nel comune di Pordenone e non è questo l'esempio che noi vogliamo che si dia del nostro comune per quanto riguarda il fatto della preghiera quello è un discorso legato sempre a una questione di opportunità l'altro giorno avete detto c'è il crocifisso ma è proprio grazie a questo crocifisso che la nostra cultura millenaria permette alle persone di credere di non credere di manifestare liberamente manifestare contro di lei o contro di me e e ma quando parla i bianchini fa interferenza quindi grazie anche alla cultura che proviene da quel crocifisso che noi possiamo vivere tranquillamente tutti quanti all'interno di questo stato all'interno di questa regione all'interno di questo comune poi io ogni volta mi levo il sassolino nella scarpa cioè siamo un paese che vive di turismo la maggior parte dei monumenti dell'arte della cultura l'architettura è legata alla chiesa insomma prendere le distanze così perché ormai bisogna prendere distanze dal presepio bisogna prendere distanze della musica bisogna prendere distanze da tutte le nostre tradizioni mi sembra che sia una forzatura un po' esagerata ma detto questo detto questo scusi detto questo sarebbe stato anche sufficiente che il membro delle associazioni immigrati dicesse guarda puoi farlo dove vuoi ma non nella sala consigliare la sala consigliare è una cosa a parte la sala consigliare dove si discute dei tombini delle scuole dell'assistenza anche a loro si discute delle politiche sociali si discute di tutto ma per quanto riguarda i gesti religiosi quello magari si può fare tranquillamente anche nella saletta consiglieri si poteva fare ma non nella sala del consiglio comunale ecco quello che avrei gradito da parte dell'associazione di immigrati non dire no queste cose non puoi fare vale a fare a casa tua non è assolutamente questo però ci sono tanti luoghi dove poterlo fare ma almeno un luogo dove non farlo ed era proprio questo e allora che nuovamente questa associazione degli immigrati invece di cercare di dare un esempio delle direttive per dire in Italia si vive così nuovamente è contravenuta le regole principali del vivere nella nostra cultura ovvero ciò che è stato è stato ciò che è religione è religione e vengono separate detto questo e concludo rapidamente presidente io chiedo signor sindaco che lei intervenga fermamente nei confronti di questa associazione degli immigrati nel momento in cui sta facendo soltanto danni soprattutto a danno degli immigrati dei clandestini dei profughi come vogliamo chiamarli cioè gli si dice venite tranquillamente e poi se stanno a dormire al freddo al gelo vengono a rompere le scatole l'istituzione comune di Pordenone che deve trovare una soluzione di urgenza spendere anche soldi per questo e tutto questo per una associazione immigrati completamente incosciente non con i piedi per terra e che invece di fare assistenza sta facendo soltanto dei danni a coloro i quali che dice di proteggere grazie grazie consigliere passiamo l'interrogazione numero 63 interrogazione del consigliere Matteo Loro quali soluzioni per l'accoglimento dei profughi accampati presso il parco San Valentino premesso che un gruppo di profughi si trova da molti giorni all'addiaccio al parco di San Valentino sottoscritto interroga il sindaco per sapere quali sono le competenze del comune di Pordenone in merito all'accoglimento dei profughi in città quali sono le soluzioni e le strategie adottate per risolvere la situazione attuale e per fornire adeguata assistenza ai profughi accampati firmato consigliere Matteo Loro gruppo partito democratico la parola all'assessore Romoro o al sindaco l'assessore Romoro prego allora il comune non ha nessun obbligo rispetto agli immigrati che sono in attesa di permesso di soggiorno e quindi dal punto di vista legale non c'è nessun nessun dovere sta di fatti invece che per la sanità c'è un compito ben preciso che è quello di intervenire dal punto di vista sanitario nel caso dell'emergenza attraverso l'afflusso alle strutture pubbliche questa è la risposta San Valentino è già superato per cui io non penso San Valentino 1 chiamiamo è superato San Valentino 1 è superato dopo vedremo perché ho imparato in questi mesi che le certezze proprio non ci sono anche se riusciamo a prevenire a prevedere riusciamo fino alle 24 ore riuscire a prevenire tante volte siamo stati smentiti anche all'interno delle 24 ore quindi la situazione è in questi termini diverso il concetto dello SPRAR quando gli immigrati entrano nella struttura SPRAR quello è un accordo ANCI Ministero degli Interni per cui ci sono dei riferimenti che vengono considerati come cittadini residenti punto per il resto non ci sono obblighi grazie sessore prego consigliere l'oro scusa non mi ha visto è un tema caro anche ad altre foto no non c'è problema premessa io nella mia interrogazione infatti ho sottolineato appunto a differenza insomma dell'interrogazione presentata dal collega Piccinato che nel nostro caso non parliamo di clandestini ma appunto di profughi e richiedenti asilo che ricordo in quest'Aula sono tutelati anche dalla Convenzione di Ginevra per cui ricevono una tutela diciamo così sovra anche nazionale che appunto poi è stata recepita anche dall'Unione Europea e poi anche dal nostro ordinamento statale pertanto fatta questa premessa lei mi ha risposto per quelle che sono le competenze appunto del Comune esatto che appunto era la mia domanda e mi ha confermato che non c'è una competenza di obbligo legale la considerazione che faccio personalmente ma questa è una considerazione da un punto di vista politico che ci contraddistingue poi anche come amministrazione di centro-sinistra quindi con i temi della solidarietà insomma che puniamo nel nostro agire politico come fondamento mi sento di dire che questa è un'emergenza perché anche dormire una sola notte fuori per ciascun essere umano sappiamo che appunto anche da un punto di vista medico è qualcosa di diciamo così di difficile proprio da un punto di vista umanitario per cui sottolino che il problema non è situazionale ma è un'emergenza che appunto si rivela strutturale cioè noi dovremmo fare i conti con quello che non sarà un fenomeno circoscritto o che è stato circostritto per un periodo limitato ma è un qualcosa appunto che nel tempo ci vedrà impegnati su questo fronte e per questo anche stigmatizzo diciamo anche le dichiarazioni che sono state fatte da un membro della giunta quando ha dichiarato che togliere la corrente è un deterrente per impedire nuovi arrivi ecco credo che questo non sia non ci faccia molto onore diciamo così proprio per la nostra cifra politica ma non sia neanche appunto utile per la solidarietà che vogliamo esprimere nei confronti di queste persone come anche sottolineo il ruolo svolto dagli istituti religiosi cioè l'istituto religioso è un atto caritatevole che esso fa ma non ha alcun cioè non gli si può chiedere di più perché appunto non hanno un obbligo legale di agire e di accogliere queste persone comunque io personalmente per quello che ho visto insomma nonostante gli sforzi fatti dall'amministrazione apprezzando anche diciamo così il fatto che lei molto francamente mi ha detto che non abbiamo delle competenze quindi mi ha dato una risposta da un punto di vista legale vorrei che si facesse di più da un punto di vista politico e pertanto non mi ritengo soddisfatto visto il caos insomma di questi ultimi giorni che la situazione ha preso insomma grazie grazie consigliere passiamo ora all'interrogazione numero 63 del consigliere no scusate del 64 del consigliere Dalmas sulla mozione numero 8 2014 sottoscritto consigliere comunale premesso che con la mozione in oggetto accolta come raccomandazione nella seduta del consiglio comunale del 3 novembre 2014 il signor sindaco si impegnava a vigilare sulle caratteristiche del presidio ospedaliero di Pordenone sia in termini di dotazione di posti letto pari agli attuali sia sotto il profilo delle effettive funzioni hub rispetto agli altri presidi ospedalieri sia infine all'assegnazione di funzione di struttura e al loro effettivo coordinamento che la regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la delibera sulle funzioni e sulle strutture definendo l'attività possibile e il livello delle stesse nell'ambito della rete ospedaliera e del sistema sanitario regionale che è stato in questi giorni presentato l'atto aziendale dell'azienda A5 un tanto premesso il sottoscritto consigliere chiede di sapere alla luce delle deliberazioni regionali richiamate in narrativa e del recente atto aziendale dell'azienda A5 quali funzioni risultino assicurate all'ospedale di Pordenone nei termini di cui divisati dalla richiamata mozione dalla richiamata mozione prego sindaco le do i dati i dati pervenuti di risposta al controllo che noi facciamo come auspicato da lei ogni tanto cerchiamo di capire la situazione con delle domande precise che facciamo al direttore generale o al direttore sanitario e ci viene garantito che la dotazione dei posti letto del nuovo ospedale di Pordenone sarà di complessivi 508 suddivisi in 466 di degenza ordinaria e 42 di degenza diurna da tale conto sono esclusi i letti tecnici quali l'osservazione breve e intensiva i posti letto per la dialisi le culle per la neonatologia i letti per la recovery room per la gestione dell'immediato postoperatorio la dotazione dei posti letto dell'ospedale di Pordenone per il 2016 quello che abbiamo detto su era per il definitivo quello che diciamo adesso per il 2016 è di complessivi letti 483 dei quali 435 di degenza ordinaria e 48 di degenza diurna ricordiamo che nel 2016 verranno riconvertiti ed è previsto proprio nell'atto aziendale i 30 posti letto di medicina interna e di postacuzia attivi a Sacile sostituiti dalla degenza della struttura intermedia polifunzionale computati oggi nella somma dei diletti dell'ospedale di Pordenone le funzioni garantite dal nuovo ospedale ci riporta il direttore generale sono esattamente quelle previste dal DGR 929 del 15 maggio 2015 questo è quello che siamo riusciti a ottenere da come dati in risposta al controllo sull'evoluzione dell'ospedale nuovo io ho finito come dati prego sindaco volevo completare la risposta lanciando anche un'idea concreta visto che il progetto definitivo dell'ospedale è stato presentato cosa un mesetto fa forse un po' di più due mesi fa credo che sia arrivato il momento di avere qui in questa sala consigliare una presentazione non giornalistica ma per noi per noi non intendo dire necessariamente solo il consiglio ma approfittare di questa sede per far sì che ci sia un momento di comunicazione con tutta la città ma che alla fine venga fatta qui e quindi si possa invitare le persone a partecipare e a vedere i contenuti quindi la mia intenzione sarebbe in uno dei prossimi consigli necessariamente a gennaio nella parte chiamiamola delle comunicazioni dedicare uno spazio consistente per avere questa presentazione e quindi non solo rispondere a domande puntuali come quelle che sono state poste questa sera dal consigliere dal MAS ma insomma allargare il dibattito a tutti i contenuti ecco qui adesso io non vorrei fare una gaff di tipo organizzativo dovremmo forse passare prima in commissione ma a mio modo di vedere un argomento come l'ospedale se viene affrontato con questo con questo tipo di approccio cioè allargato non riguarda solo l'ospedale ma anche in generale la discussione su quelli che sono i servizi le funzioni secondo me dovrebbe interferire con più commissioni e forse è meglio decisamente avere una presentazione a cui poi può seguire una commissione ma avere una presentazione del progetto qui nella sala consigliere quindi vi arriverà in modo specifico quando in funzione del calendario dei nostri consigli e sarà mia premura farvi avere una specie di agenda della presentazione stessa grazie signor sindaco prego consigliere dalmas può dichiarare se si ritiene soddisfatto assessore Romoro lei ha chiesto al direttore dell'ospedale quale lei ha risposto che no no cambio riarticolo è assolutamente insoddisfatto risposta incompleta insufficiente evidentemente frutto di una scarsa propensione e attenzione nei confronti di questo problema tant'è che questa ma del ben lo sa benissimo questa giunta regionale ha già fatto quest'anno la delibera sulle strutture sulle funzioni l'atto aziendale e ha detto esattamente cosa ci sta e cosa non ci sta e lei mi ha risposto dicendo che il direttore le ha detto che in relazione alla delibera sulle funzioni c'è la delibera sulle funzioni ma sostanzialmente nulla si cambia in realtà l'emozione che avevo presentato io era molto più articolata allora noiosissima quindi che non sto a ripetere quanto lo sono io e quanto lo è il mio umore in questo momento ed era articolata al punto tale che partiva da un dato fondamentale guardate prima di tutto qui hanno tolto l'azienda ospedaliera hanno inserito l'ospedale di Poldanone dentro una realtà che è quella territoriale con il le conseguenze che oggi chiunque parli con gli operatori della sanità dell'ospedale di Poldanone sanno benissimo questa sorta di omogeneizzazione che c'è stata è avvenuta a discapito in danno di ciò che è rimane e ciò che voleva essere l'ospedale di Poldanone il problema non è solo il problema di posti letto 430 o 500 posti letto il problema è che quella riforma che è stata fatta in regione doveva poteva avere avrebbe potuto esplicare un esito riconoscibile e avere anche il nostro appoggio qualora partissero prima sul territorio quelle strutture che in realtà non ci sono noi abbiamo prima chiuso ritarato ridimensionato la realtà ospedaliera pordenonese di cui il centro di riferimento è l'ospedale di Poldanone e poi faremo il resto nel territorio la realtà caro assessore e gliela racconto io qual è e cioè 25% in meno di strutture all'ospedale di Pordenone quindi vengono chiusi dei primariati può essere anche giusto strategicamente questo se nel frattempo tu mi fai le altre cose anzi prima avresti dovuto attrezzare il territorio alla risposta del non ricovero cosa che non hai fatto cosa che si vedrà di fatti la riprova di questo caro assessore Romor è che il cosiddetto contenimento dei numeri di primariati in questa regione non c'è stato perché è stato bilanciato da un altrettanto numero circa 60 strutture complesse che sono andate nel territorio abbiamo chiuso gli ospedali e li abbiamo messi nel territorio tanti psicologi tante funzioni amministrative tanta gente che stava praticamente non a contatto diretto con il paziente l'abbiamo messa a dirigere strutture complesse questa è la impostazione di una filosofia la realizzazione della filosofia che ha voluto il partito democratico a guida Serracchiani per il friù di Venezia Giulia il risultato è che Pordenone non ha un'azienda ospedaliera il risultato è che si chiudono all'ospedale di Pordenone sette credo strutture complesse una medicina una chirurgia un'ortopedia una medicina nucleare un'oncologia benissimo l'oncologia sarà fatta dal Croc ma avevamo un'importante tradizione dell'oncologia abbiamo così chiuso per decreto in 24 ore qui nessuno ha detto niente lei doveva stare in prima linea difesa della struttura e della funzione che dopo tanti anni è stata riconosciuta al nostro ospedale non è solo una questione di etichetta è una questione di complessità generale che non ha più questa città la quale abbiamo rinunciato nell'ospedale e nelle altre cose siccome qui ormai ho finito non intendo dilungarmi anche perché dovrei essere antipatico più di quanto non lo sia già di mio e chi me lo dice questo lei e la risposta niente assolutamente insoddisfatto insoddisfacente incompleta frutto di una visione approssimativa che non tiene conto di ciò che i medici stessi avevano detto a suo tempo guardate prima attrezzate il territorio poi pensate a quello che fate nella struttura ospedaliera e il risultato sarà questo progressivo declassamento di tutto ciò che abbiamo e insiste in questa città benissimo poi faremo regolamento sui beni comuni e saremo tutti contenti ma la filosofia che poi arriverò al punto sarà la stessa per cui un comitato decide che cosa si deve fare con delle conseguenze causa anche la complicità che ha avuto da parte della stampa nella narrazione indecente di tutta questa vicenda indecente ci sarà un momento in cui verrà ristabilita la verità di questi fatti incominciando dall'accordo di programma sull'ospedale di Polterone mi incaricherò personalmente di ricostruire la verità di queste cose e allora evidentemente ci sarà un momento in cui le bugie di una narrazione distorta vergognosa che è stata fatta in questa città con la complicità anche dei giornali sarà finalmente sarà un esercizio puramente dialettico e retorico non importa lo vedremo ma sicuramente risponderà alla mia coscienza va bene grazie bene tre interrogazioni le abbiamo usurite passiamo ora alle deliberazioni esaminiamo la proposta numero 46 approvazione del regolamento per il contributo per il pagamento di reti e di servizi residenziali a ciclo continuo residenziali a carattere temporaneo e semi residenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale la parola all'assessore Romoro prego sessore no dovrei averla provata eccola allora e dai e dai e dai e dai e dai grazie grazie ci troviamo di fronte all'argomento integrazioni rette in poche parole regolamento per il contributo per il pagamento di reti e di servizi residenziali a ciclo continuativo residenziale a carattere temporaneo e semi residenziale per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale noi abbiamo in questo momento la necessità per norma di approvare un regolamento nostro comunale entro il 31 dicembre che predisponga un regolamento una norma per poter distribuire queste integrazioni alle rette delle persone che abbiamo prima elencato adulti fino al 65esimo anno e anziani dopo il 65esimo anno la relazione l'abbiamo anche tenuta in sede di commissione terza e il concetto fondamentale qual è la mission è questa è stata la legge la norma dice che deve essere applicato per il calcolo nuovo dell'integrazione rette il sistema ISEE e la legge prevede anche che eventualmente ai criteri di base previsti dal sistema ISEE possono essere aggiunti dei possono essere apportati dei criteri aggiuntivi da parte degli enti locali come si procedeva si procedeva tuttora si procede attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con un modulo previsto dove venivano dichiarate tutte le domande a cui l'utente doveva rispondere attualmente l'ISEE deve essere applicato alla norma dell'ISEE ma è una regola l'ISEE che non è elastica è un po' rigida e può creare delle situazioni di disparità tra i vari richiedenti tanto da dover escludere in alcuni casi delle persone che hanno invece diritto ad avere l'integrazione l'ISEE si interessa al reddito del nucleo familiare del richiedente e comprende i soli figli non compresi nel nucleo familiare e i redditi sono legati all'imponibile di due anni prima quindi ci sono delle situazioni che non verificano lo stato attuale del richiedente ci possono essere delle imprecisazioni tale per cui il sistema potrebbe non essere equo l'amministrazione comunale ha inteso intervenire per correggere queste disequità attraverso un regolamento che questa sera vi proponiamo per appunto superare queste fasi di disequità il regolamento studiato e proposto ve lo espliciterà la funzionaria qua alla mia destra che sinteticamente vi proporrà quello che l'amministrazione comunale secondo i termini di legge ha proposto allora Gemma Romano la parola per dare inizio a questa esposizione grazie buonasera a tutti allora questo regolamento come ha già detto l'assessore è un regolamento obbligatorio determinato dalla nuova legge dalla nuova norma sull'ISEE e deve essere per norma approvato dopo entro un anno dall'entrata in vigore della norma sull'ISEE e quindi entro il 31 di dicembre fino ad oggi l'amministrazione comunale era dotata di un regolamento che riguardava le integrazioni rette il quale chiaramente non utilizzava come strumento di valutazione economica per l'accesso al beneficio lo strumento dell'ISEE naturalmente e come ha detto già l'assessore noi fino ad oggi ci basavamo sulla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dove l'interessato e i suoi soggetti tenuti i suoi parenti tenuti agli alimenti ex articolo 433 del codice civile dichiaravano redditi e proprietà quindi patrimonio mobiliare ed immobiliare in possesso e sulla base di questo veniva valutata l'opportunità o meno della compartecipazione da parte dell'ente pubblico al netto di quella del diretto interessato laddove ci fosse ci fossero margini anche di eventuali soggetti tenuti agli alimenti preciso che rispetto ai soggetti tenuti agli alimenti si effettua una contrattazione con questi perché chiaramente la misura degli alimenti non può essere fissata dall'amministrazione ma è una misura che può essere fissata esclusivamente dal giudice qualora il diretto interessato dovesse chiamare in giudizio i propri tenuti agli alimenti finora non abbiamo mai avuto grandi problemi la contrattazione ha comportato sempre un accordo tra l'amministrazione e i tenuti agli alimenti con relativa sottoscrizione di un impegnativa di versamento e finora in tanti anni grossi problemi non ce ne sono stati per quanto attiene alla normativa relativa all'ISEE la legge prevede la possibilità da parte degli enti che intervengono di aggiungere degli ulteriori criteri accanto a quella di base prevista dall'ISEE per la situazione di specie l'ISEE previsto dalla normativa la normativa prevede cinque tipologie diverse di ISEE per quanto attiene a questa materia prevede che venga presentato un'ISEE socio-sanitario residenziale e già qui abbiamo il primo problema in quanto l'ISEE socio-sanitario residenziale che cosa comporta comporta la necessità da parte dell'utente di avere già certificata una situazione di non autosufficienza minima media o grave ci sono tante situazioni perché altrimenti il programma all'interno del quale viene caricata la DSU per poter poi avere l'elaborazione dell'ISEE non ti fa andare avanti ora ci sono delle situazioni in cui i soggetti che hanno la necessità di essere inseriti all'interno delle strutture non sono ancora in possesso di una certificazione sanitaria relativamente a un'autosufficienza le motivazioni possono essere un repentino deterioramento della situazione fisica o psichica dell'interessato per cui ha necessità di essere inserito in struttura in tempi brevi e i tempi invece per richiedere la verifica da parte dell'accertamento da parte della competente commissione per la non autosufficienza per inabilità ha dei tempi diversi magari da quelli di cui necessita l'interessato così come potrebbe anche essere che magari l'interessato non sia in grado di presentare delle istanze di questo tipo perché magari non è più in grado di intendere di volere quindi si rende necessario la nomina di un tutore piuttosto che di un amministratore di sostegno anche questo richiede dei tempi però il ricovero deve essere effettuato la retta qualcuno la deve pagare e qui già interveniamo con la prima con il primo criterio aggiuntivo inserito dall'amministrazione che è proprio quello di dire quando ci troviamo in questi casi noi interveniamo anche in presenza di un ISEE ordinario ovvero in assenza di ISEE fatto salvo che nel momento in cui ci dovessero essere le condizioni a quel punto lì andiamo a recuperare eventualmente questo risultasse dai dati in nostro possesso andiamo a recuperare quota o interamente quanto abbiamo anticipato quindi interverremo a titolo di anticipo rispetto a queste situazioni e questo è già il primo criterio aggiuntivo che è stato inserito ci sono situazioni rispetto all'ISEE dove dal momento che l'ISEE sociosanitario residenziale prevede che ci sia una componente aggiuntiva ma la componente aggiuntiva che viene richiesta per completare l'ISEE del richiedente è soltanto quella di eventuali come vi ha detto prima l'assessore di eventuali figli che non fossero iscritti graficamente all'interno del nucleo familiare del richiedente figli sono i figli ma bisogna tener conto della famiglia che questi figli hanno da un lato dall'altro sempre per una questione di equità bisogna anche tenere conto che potrebbero anche esserci altri soggetti tenuti degli alimenti ai sensi del codice civile una nuora un nipote che hanno capacità compartecipativa che invece non verrebbero fotografati attraverso la presentazione del semplice ESE e anche qui quindi abbiamo previsto dei correttivi ci potrebbe essere la situazione in cui la valorizzazione dell'ISEE viene data comporta un importo relativamente alto perché magari viene data una grande valorizzazione a un bene immobile di proprietà dell'interessato che magari la sua casa di abitazione ma potrebbe esserci anche la situazione in cui questa casa in realtà sia occupata anche da altri componenti in nucleo familiare e non si può pensare che l'interessato venda la sua casa per mandare in mezzo alla strada moglie e figli come potrebbe anche essere che semplicemente la casa ha una valorizzazione di un certo tipo però il reddito non ne produce e quindi l'interessato non ha capacità liquida per intervenire nel pagamento della retta allora anche in queste situazioni noi abbiamo previsto l'amministrazione ha previsto dei correttivi dove si vanno a regolamentare queste situazioni per cui una delle cose si dice l'interessato naturalmente non dovrà versare nulla di più di quanto non abbia effettivamente di liquidità possesso di liquidità perché potrebbe aver avuto un reddito derivante da una liquidazione di un'indennità per un incidente perché fotografa come abbiamo detto il reddito di due anni precedenti rispetto a quello in cui si sta presentando la richiesta di intervento e ormai questi soldi magari sono finiti però dentro all'ISEE questi soldi appaiono ma se lui non li ha più perché li ha spesi viceversa potrebbe succedere invece che uno all'epoca non avesse la pensione di invalidità o l'assegno di accompagnamento e che invece a distanza di due anni l'abbia ottenuto quindi è giusto che questi redditi li versi per il pagamento della retta o perlomeno per quota parte della retta per cui anche a riferimento a questo sono stati aggiunti dei correttivi la norma parla per qualsiasi inserimento in una struttura di presentazione dell'ISEE sociosanitario residenziale ma ci sono delle situazioni anche di ricoveri che non sono dei ricoveri di tipo definitivo per esempio una persona potrebbe entrare come in casa Serena che c'è un pensionato soggiornisti che è un inserimento temporaneo all'interno di una struttura non possiamo pensare o l'inserimento in un centro diurno non possiamo pensare che uno che va a un centro diurno o va temporaneamente per due o tre mesi all'interno di una struttura si venda la casa per esempio o dobbiamo comunque tener conto che magari deve pagare l'affitto deve pagare la luce il riscaldamento di quella sua abitazione che se viene inserita all'interno di un centro diurno comunque la sera e il fine settimana è a casa sua deve comunque mantenersi e ecco che entra in campo un ulteriore correttivo ci sono anche le situazioni in cui uno magari entra in una struttura si residenziale ma di tipo semiprotetto come potrebbe essere il centro sociale per anziani di torre che mette a disposizione degli ospiti un appartamento con luce di scaldamento e manutenzione ma la persona poi deve mangiare all'interno di questo appartamento deve sostenere comunque ulteriori spese oltre la retta per cui quando noi andiamo a fare il calcolo della sua capacità compartecipativa dobbiamo tenere conto che ha la necessità di sostenere ulteriori spese oltre la retta quindi come vedete le sfaccettature dei possibili inserimenti si diversificano la platea degli utenti si diversifica molto per cui l'amministrazione non poteva non intervenire con dei criteri aggiuntivi che andassero a ritoccare alcune delle norme obbligatorie imposte dall'ISEE e in ultimo c'è una deroga sostanziale che verrà utilizzata in situazioni eccezionali fatta salvo a una approfondita relazione e motivazione da parte dell'assistente sociale di quei soggetti che non sono assolutamente in grado di presentare un'ISEE possiamo pensare la donna maltrattata che è costretta a essere allontanata di casa che ha dei problemi di tipo psichico che viene inserito all'interno in una struttura di sostegno psicologico che chiaramente non mi può presentare l'ISEE perché magari il reddito del marito dal quale sta scappando e al quale non si può far sapere dove viene ricoverata dove viene inserita in che struttura viene inserita ci possono essere delle situazioni molto molto particolari per cui siccome l'assistenza è un diritto che deve essere garantito a tutti abbiamo previsto anche queste possibili eccezioni ecco io qui in linea di massima direi che ho fatto un'illustrazione ho cercato di essere sintetica un po' più sintetica di quanto non sia stata in commissione consigliare volevo soltanto precisare che a fronte dei segretari assessore a fronte di due di due richieste che erano state fatte in commissione sono stati presentati due emendamenti e quindi mi pare che questi rispecchino quello che era stato richiesto in commissione eh sì mi ricordo di lei consigliere De Bortoli prego gli emendamenti sono soltanto queste due richieste che erano state fatte in commissione una era quella di togliere la postilla in relazione alla codice la citazione del codice sulla privacy mi era stato chiesto se si poteva mettere in evidenza invece che come postilla in evidenza all'interno del testo per cui c'è un'apertura di parentesi attualmente la norma che regolamenta la privacy è e viene citata la norma che è esattamente quella che era scritta in postilla invece è stata portata sopra l'altro emendamento era relativamente all'articolo 5.1 lettera C dove si dice il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente alla quota di compartecipazione alla spesa a carico dei soggetti tenuti di alimenti essenzio articolo 433 del codice civile siccome più avanti ci sono delle eccezioni a questa affermazione c'era stato chiesto se potevamo mettere per inciso un fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4 lettera B che appunto prevedeva queste possibilità di deroga dall'applicazione di questa norma di questo articolo del regolamento quindi queste sono le due e dopo non so rispetto a quella richiesta che aveva fatto il consigliere De Bortoli di informarsi sui controlli se lo richiede si si ha chiesto in commissione una lo diamo spiegazione adesso di una domanda fatta in commissione allora io ho l'avevo detto che era un po' difficile questa cosa comunque io ho fatto mi sono informata vuoi con il luogotenente Renna della della guardia di finanza vuoi poi successivamente sul suggerimento con il dottor Mancini dell'ufficio territoriale provinciale dei controlli dell'agenzia delle entrate sostanzialmente le forme di collaborazione tra stati esteri riepilogo velocemente la richiesta che mi aveva fatto il consigliere era rispetto a uno che ha una proprietà all'estero che sia questo italiano piuttosto che straniero perché comunque non cambia che ha una proprietà all'estero come facciamo a controllare se effettivamente l'ha dichiarata o non l'ha dichiarata era questo che mi si chiedeva dunque la guardia di finanza e l'agenzia delle entrate entrambi mi dicono certo ci sono delle forme di collaborazione tra stati che si possono attivare soprattutto in riscontro alla locale autorità fiscale per il discorso di dire ma rispetto a certi redditi se di tasso io non li tassi tu eccetera dice ci sono anche degli accordi di collaborazione per scambi di informazione chiaramente da questi sono esclusi i paesi della black list perché si sa che questi non sono collaborativi però non è una cosa così semplice per esempio anche già nella comunità europea ci sono alcuni stati con un forte segreto bancario i quali fanno difficoltà a darti delle informazioni dopodiché degli accordi ci sono in questo senso non mi ha identificato i paesi perché dice in realtà sarebbe con tutti esclusi quelli della black list fatto salvo che siccome sono degli accertamenti anche particolarmente onerosi insomma si attivano laddove si configuri effettivamente l'opportunità prego bene avete completato bene allora adesso diamo inizio alle richieste di chiarimenti come già anticipato in conferenza capigruppo e chiedo che ogni consigliere contenga le richieste di chiarimenti nei 5 minuti questo per cercare di bene consigliere l'opportunità penso di riuscire a stare anche in meno di 30 secondi per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti intanto grazie per l'esposizione andando a vedere il regolamento che ci viene sottoposto quindi deduco che successivamente al successivamente al decreto noi dobbiamo mettere un regolamento e in questo regolamento c'è scritto gli interrogatori possono prevedere accanto l'ISEE criteri ulteriori di selezione di identificare specifiche platee di beneficiari noi come comune di Pordenone abbiamo identificato delle ulteriori specifiche platee di beneficiari o ci atteniamo semplicemente a quello che è previsto dalla norma grazie grazie consigliere Daniello prego sì grazie brevissimamente che cosa volete dire cioè che cosa significa tempestivamente all'amministrazione cioè al punto scusi all'articolo 4 punto 6 ultimo capoverso a tal fine il soggetto chiamato a presentare c'è c'è sì sì cioè cosa significa presentare tempestivamente cioè il giorno dopo entro 24 ore il prima possibile sì il prima possibile cioè sapete benissimo che il la la persona che ha prende a carico e in carico questa questo soggetto non è che ha tutte le carte immediatamente neppure se neppure il il tutore ce le ha subito quindi eh dovete restringere il campo o allargarlo secondo me allargarlo perché altrimenti tempestivamente cosa significa poi escludete uno perché non ve le porta entro 24 ore cioè questo tempestivamente dice tutto e dice niente poi il in commissione vi avevo chiesto se riuscivate per almeno tutela a tutela di queste persone che sono le più deboli sul territorio se riuscivate anche in base al fatto che la determina 2704 del 212 2015 non esclude che il comune possa fare raccogliere il DSU o fare l'ISEE come peraltro avete fatto finora prevedendo le prossime costituzioni delle UTI se per queste fasce o almeno per le fasce più deboli tipo delle donne maltrattate anche lei mi ha detto non arrivano tantissime ma arrivassero vi ponete il problema vi potete prendere a carico queste problematicità e dire va bene ci pensiamo noi grazie grazie consigliere consigliere De Bortoli sì io chiedo all'amministrazione se questi servizi che noi diamo con l'ISEE sono soffribili da tutti quanti cittadini che sono nel territorio provinciale comunale nazionale non so non capisco come funzioni per quanto tempo devono essere residenti per avere questi servizi uno ha una difficoltà motoria presenta la domanda di presentare l'ISEE chiunque lo può fare quanto tempo deve essere residente nel nostro territorio per poter ottenere questo risultato qui poi parliamo di italiani se l'italiano ha una casa Andreis o Erto magari non abitabili viene considerata come patrimonio personale della famiglia viene considerata come patrimonio della famiglia parlo di una casa ad Andreis ad Erto o a Bibione a Caule cioè una casa non abitabile nel territorio anche vicino sei considerata come patrimonio della famiglia e noi a colui che ha bisogno o i familiari vicini che devono provvedere al suo bisogno e in questo caso l'ISEE fa l'accertamento cioè colui che fa l'ISEE mi pare che avete fatto una convenzione con alcuni con alcuni CAF no? mi diceva 5 CAF hanno fatto la convenzione 4 e per cui per fare l'ISEE chiedono i documenti catastali c'è un sistema oppure documenti sotto giuramento no? giusto? no? sì che dichiara davanti al funzionario che non ho niente no? previa magari i primi accertamenti fatti sul territorio di nascita di provenienza di residenza stabile cioè noi possiamo anche se uno fa una dichiarazione di sotto giuramento dove dice io non ho niente noi siamo in grado con la sua storia avuta qui nel nostro paese almeno a fare una tacciabilità per vedere se ha detto il vero abbiamo questi strumenti per farlo e se invece non è cittadino italiano o non è sufficiente residente nel nostro territorio e giura che non ha niente quali sono i metodi che avete per poter parificarlo al cittadino italiano cioè chiedo parità non privilegi che anche questo oggetto come fate a parificarlo al nostro cittadino che naturalmente essendo nato qua vissuto qua è facilmente rintracciabile perché poi con i passaggi anagrafici sappiamo che è nato Andreis è nato a Vittoria a Cordenone è arrivato a Pordenone lo seguiamo un attimo e sappiamo che cosa ha e dunque dice ah no lei ha una casa Andreis una caurle che ha lasciato suo fratello allora deve venderli perché lei ha proprietà patrimoniale ecco cioè allora vedere come portiamo a parificazione tutti i cittadini che ormai accogliamo e che hanno necessità delle prestazioni in cui stiamo in oggetto va bene evitare di fare diversità vogliamo almeno la parificazione su questo per adesso basta così grazie grazie consigliere del ben prego grazie una premessa per non essere frainteso a Pordenone i servizi sociali anche questi sono di buona qualità punto adesso posso dire tutto il resto quello che volevi conoscere è qual è stato per l'anno 2014 l'impegno economico del comune e quale ne è la sua proiezione adottando questo regolamento per il 2016 prima cosa seconda ho sentito che alcune scelte derivano anche dalla graduazione sanitaria della non autosufficienza premesso che io sono più incline a graduare l'autosufficienza non la non autosufficienza perché quando c'è è non autosufficienza per definizione quali sono o direi di esplicitare i criteri di questa graduazione e chi come dove quando questa viene fatta poi andando avanti penso un'annotazione per dire tecnica io penso che l'amministrazione comunale con i suoi funzionari abbia la competenza per individuare i regolamenti che vengono aboliti allora piuttosto che chiudere con un'osservazione come qui è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti io riterrei che sarebbe corretto di indicare uno due tre regolamenti ho sentito che ce n'è uno vigente e dire che quello è abrogato oppure quando si fanno l'abrogazione non dire dei regolamenti ma delle norme che sono incompatibili con questo che è fatto quindi c'è una specificazione tecnica per dire che questo regolamento non abroga tutti i regolamenti comunali ma fare una situazione specifica e ovviamente non ha senso mettere un abrogare su un allegato quando come in questo caso la parte della delibera stabilisce l'abrogazione grazie consigliere Piccin prego grazie presidente in parte alcune osservazioni e chiarimenti che volevo fare volevo chiedere sono stati come dire anticipati dal collega del BEN perché appunto non avendo partecipato alla commissione non essendo quella la mia commissione e volevo chiedere appunto ma adesso in qualche modo l'ho compreso credo se queste norme che adesso noi questo nuovo regolamento che noi andiamo a fare era ricompreso in parti di altri regolamenti comunali e mi sembra che sia così la necessità di adottare questo regolamento deriva è stato detto da una fonte normativa che credo sia quella che voi richiamate in delibera cioè il decreto del presidente del consiglio dei ministri 159 del 5 dicembre 2013 allora la domanda che faccio è formulata in modo un po' diverso ma che però insomma nel 2013 pardon nel 2014 è entrato in vigore questo poi di fatto essendo di dicembre e noi siamo stati senza regolamento comunque con dei pezzi di regolamento durante tutto il 2014 e durante tutto il 2015 che oramai è terminato perché questo entrerà in vigore dal primo gennaio 2016 allora volevo capire la motivazione per la quale noi abbiamo ritardato l'approvazione di un testo organico rispetto ad una normativa di tipo nazionale che è di fine 2013 e anche io volevo avere i dati in merito al 2014 se ci sono e 2015 ma sono già stati chiesti dal collega del Ben sull'impegno economico che il comune ha dato in questa materia poi volevo chiedere per quanto riguarda il testo proprio del regolamento all'articolo 4,5 è prevista sono previste alcune ragioni d'urgenza di persona assistita che non ha la possibilità di presentare i documenti e così via e si dice il comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di 180 giorni trascorsi i quali in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi ecco qui viene aperta una parentesi e si dice la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'ente allora io volevo capire in questo ambito siccome è una cosa come dire l'insindacabile giudizio dell'ente non è che io ho dubbi nei confronti di questo ma volevo capire se non era possibile o se non era già sufficiente ciò che era stato messo qui per esteso cioè degli elementi oggettivi dice non è possibile perché perché la persona è ricoverata perché la persona non lo so per una serie non è in grado di produrre i documenti e così via quindi secondo me questo tipo di discrezionalità totale pone non vorrei dire un'ombra ma insomma pone una trasparenza un po' inferiore rispetto ad una serie di elementi oggettivi che secondo me in fatti così importanti dovrebbero essere contrassegnati poi nell'articolo capo secondo articolo 5 no perdon sì articolo 5 comma sì è solo il comma 3 allora qui si dice che si parla di isee elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile e quindi sostanzialmente chi percepisce una modesta pensione e ha dei beni che deve in qualche modo smobilitare nel tempo e ci vuole del tempo allora mi chiedevo perché qui poi è evidenziato dice resta fermo che il ricavato derivante dall'alienazione e utilizzo di eventuali beni mobili o immobili deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta è corretto e io aggiungerei e al rimborso delle spese preventivamente sostenute dal comune perché se il comune se il comune ha preventivamente pagato e c'erano 500 euro di pensione no e 5 milioni di euro di beni e il comune per un anno ha anticipato 1000 euro al mese è corretto a mio modo di vedere che quei 1000 euro vengano restituiti quindi chiederei o un emendamento insomma non lo so come volete formulare credo sia corretto questo poi sempre all'articolo 3 coma 4 si prevede l'isente grato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio allora io volevo capire calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi avuto riguardo delle necessità del nucleo familiare e così via allora qui volevo chiedere se questa compartecipazione la percentuale è già prevista da qualche parte per legge se la stabiliamo noi se ci sono degli scaglioni cioè come avviene questa formula di compartecipazione o se il caso dei figli sì in caso di presenza di figli del beneficiario della presentazione non inclusi nel nucleo familiare si cita l'articolo 6,2 del pgm 159 2013 magari lì è già inserito scusatemi non l'ho guardato adesso mi è venuto in mente ho infine una cosa che credo di non riuscire a comprendere io ma l'articolo 7 fa riferimento alla misura al limite di intervento economico integrativo comunale cioè l'integrazione se capisco bene articolo 7 l'integrazione che il comune dà in termini monetari allora leggo la percentuale di compartecipazione è massima per ISEE uguale o superiore a 20.000 euro e poi nessuna compartecipazione per ISEE minore o uguale a 8.000 euro me lo spiegate perché diamo compartecipazione massima quando ci sono tanti soldi e nessuna quando ce ne sono pochi è il contrario è da emendare è sì è da emendare avevo capito giusto allora perché voi dite più soldi ci sono più soldi ci sono più soldi ci sono più soldi ci sono fate come volete no non è un errore ma immaginavo che non fosse un errore però ho bisogno di una spiegazione grazie grazie consigliere consigliere Cabibbo prego allora io purtroppo ero assente in commissione quindi non so se farò delle domande che sono comunque precise ma che sono già state in parte affrontate in commissione la prima è questa cioè che cosa si intende per nucleo familiare cioè se si rende se si considera la famiglia anagrafica quindi un nucleo di persone che convivono nella stessa una stessa residenza uno stesso indirizzo o se si intende coniugi quindi con un matrimonio o anche conviventi se conviventi anche persone dello stesso sesso eccetera quindi qual è cosa si intende per nucleo familiare poi per quanto riguarda l'articolo 5 che è un po' il nucleo di tutta la la questione premesso che la questione dell'ISEE è una questione piuttosto anche complicata e complessa anche dalla complessità sociale che sempre di più ci si deve trovare ad affrontare per cui famiglie più o meno allargate la difficoltà anche di trovare dei criteri oggettivi quindi mi rendo conto che anche stabilire dei criteri è ovvio che rischia di scontentare sempre qualcuno qualcosa perché vi è una complessità enorme in più in più a questo ci dobbiamo anche aggiungere e qui non possiamo certamente nascondercelo anche la difficoltà di poi di verificare le dichiarazioni ISEE che vengono presentate cioè non è che le amministrazioni che devono erogare i contributi hanno dei poteri di indagine per cui possono effettivamente andare a fondo nelle varie questioni quindi un po' si devono fidare e anche i controlli ovviamente non possono che essere controlli a campione perché non è che possiamo controllare tutte le dichiarazioni ISEE ci ho detto però all'articolo 5 comma 3 si dice che in caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile il comune potrà procedere a specifici accordi con l'utenza in merito agli interventi per il pagamento della retta di cui trattasi quindi volevo chiedere se questa valutazione è stata anche messa in relazione ad esempio alla costante giurisprudenza che dice quanto a liquidità o a capacità del soggetto di adempiere i propri obblighi ad esempio alla corrisponzione dell'assegno di mantenimento per esempio nel caso di separazione o di mantenimento dei figli eccetera la giurisprudenza è granitica nel dire che comunque la mancanza di liquidità non rileva cioè se io ho l'obbligo di versare il mantenimento ai figli o alla moglie sono un padre separato e non ho liquidità questo non è da un punto di vista ad esempio penalistico una scusante diciamo con un termine non giuridico che mi esime dall'obbligo e quindi infatti su questo diciamo che c'è una critica e c'è un dibattito e c'è una critica esatto c'è anche una critica su questo però è così quindi mi chiedo come conciliare questo cioè la mancanza di liquidità con invece questo orientamento e qui si collega poi col secondo punto che volevo che venisse chiarito e cioè questo panagrafo in cui si dice resta fermo che il ricavato derivante dall'allenazione di eventuali beni deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta cioè come l'amministrazione può vincolare il ricavato di una vendita al pagamento della retta cioè in quale modo si pensa di poter attuare questo perché è chiaro che se c'è un accordo cioè se c'è un impegno del soggetto nulla a questo o c'è un obbligo anche civilisticamente rilevante ma nel caso in cui il soggetto non stipuli un contratto chiamiamolo così con l'amministrazione che cosa succede cioè com'è che il comune può rivalersi nel caso della vendita e quindi del ricavato ecco perché poi nel punto successivo si dice appunto che qualora l'utenza non consenta la stipulazione di si fatti accordi e quindi c'è un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo detta integrazione e pagamento integrale della retta è da considerarsi quale anticipazione comunale con conseguente titolo di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria cioè questo titolo da dove lo si prende come viene configurato da un punto di vista poi anche della possibilità e della effettività di recuperare queste somme ecco questo diciamo al momento mi interessava sapere grazie grazie consigliere prego consigliere freschi grazie solo un inciso perché è la stessa punto che ha toccato la consigliere Piccin ne stavo parlando con il segretario io ho l'impressione che il capo terzo articolo 6 articolo 7 non è ben esplicitato perché l'articolo 6 il soggetto è l'amministrazione l'articolo 7 è così come è impostato se l'amministrazione ancora la cosa non regge cioè il cittadino che partecipa al 100% nel momento in cui ha un ISEE superiore ma messo così sembrerebbe il contrario per cui forse bisogna in qualche modo chiarirlo insomma grazie consigliere consigliere ribetti prego grazie grazie presidente io volevo un chiarimento sul punto 3 dell'articolo 5 direi dove si parla di affronta di una modesta liquidità mensile il comune potrà procedere specifici accordi con l'utenza in merito agli interventi cioè forse quello che era stato accennato prima da qualche altro collega cioè che cosa avete in mente tipo chi ha la casetta lontano di prenderla quali sono gli strumenti pratici e tecnici che avete in mente e come volete farli convivere giuridicamente grazie consigliere consigliere franchin prego grazie grazie presidente una domanda velocissima la cosa che non ho capito leggendo il regolamento è se di fatto questa queste rette per non autosufficienti residenziali noi le consideriamo consideriamo il fatto di fornire un servizio come un servizio dovuto o scelto dal soggetto cioè mi sembra che questa cosa andrebbe specificata cioè se la comunità si fa carico di non autosufficienti il problema del contributo alla spesa si pone uguale e lo dico perché questo è un problema quotidiano per la mia professione di chi non partecipa alla spesa sanitaria avendo i diritti per non partecipare cosa che è sempre difficile da stabilire ma le spese a cui andiamo incontro noi per quello che faccio io costano tantissimo molto di più di questa specifica attività e le nostre sono controlli secondo me abbastanza superficiali insomma non le esenzioni alla spesa o per patologia va bene ma per reddito intendo dire diventano difficili allora la cosa che volevo chiedere è se l'amministrazione intende questo servizio come un servizio dovuto diritto alla salute e alla grazie 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 nessun altro iscritto pertanto do la parola all'amministrazione per le risposte prego allora le platee dei beneficiari sono quelle che abbiamo specificato in oggetto e anche all'interno dei destinatari nei primi articoli del regolamento quindi stiamo parlando di soggetti anziani anziani si intende che abbiano già compiuto i 65 anni di età ovvero soggetti adulti quindi dopo i 18 entro i 65 quindi la platea dei beneficiari è questa la platea dei beneficiari è questa ma selezionata qui darei una risposta forse all'ultimo all'ultimo quesito che mi è stato posto nel senso che eh sono persone che si rientrano in questa categoria come fascia di età ma persone in riferimento alle quali una unità di valutazione distrettuale o multidisciplinare per l'endica insomma dipende da da quale è l'organismo che valuta valuta e quindi è una commissione composta da assistenza sociale personale sanitario il medico curante piuttosto che il medico dell'azienda sanitaria lo psicologo eccetera che valutano la necessità per questo soggetto di avere un'assistenza in forma continuativa e vicino a questo c'è una relazione del servizio sociale che ci dice che questa assistenza che viene richiesta che è dovuta non può essere erogata presso il domicilio dell'utente ma che l'unica struttura cioè l'unica eh soggetto che può erogare correttamente l'assistenza richiesta dall'unità di valutazione distrettuale sia la struttura X piuttosto che la struttura X Y piuttosto che comunque una struttura con determinate caratteristiche perché anche qui ci sono soglie di strutture con interventi di assistenza e di tutela diversi se stiamo parlando di un soggetto psichiatrico a bassa soglia non entra in una struttura di tipo sanitario riabilitativo entra in una comunità alloggio per soggetti psichiatrici del dipartimento di salute mentale piuttosto che gestito da altri soggetti dove quello che noi andiamo a pagare naturalmente è soltanto il costo quello che viene richiesto diretta è soltanto il costo alberghiero della prestazione e non il costo sanitario come peraltro in tutte le strutture se uno invece ha una necessità di un'assistenza continuativa importante perché ha una totale non autosufficienza e ha bisogno di prestazioni che riguardano le attività quotidiane il bagno l'essere imboccato la somministrazione di terapie eccetera magari si suggerisce una struttura come può essere una casa di riposo dove queste prestazioni vengono erogate in toto se uno ha un problema di tutela socioeducativa assistenziale di bassa soglia si possono prevedere anche delle altre tipologie di strutture diverse per esempio il centro per anziani di torre dove abbiamo detto viene messo a disposizione del soggetto un appartamento la situazione di questo soggetto viene monitorata dal personale ma all'interno della struttura non ci sono dipendenti quindi la platea dei beneficiari e chi entra e se il servizio è dovuto è la conseguenza di queste due categorie e delle valutazioni prima di tutto dobbiamo capire se questa persona ha necessità effettivamente dichiarata di entrare in una struttura e da quel momento in poi iniziamo a ragionare gli redditi rispetto a nì ma poi man mano ci arrivo è parte della risposta quell'articolo 4 tempestivamente forse il termine è un po' forte tempestivamente è un termine poco preciso volutamente poco preciso nel senso che significa appena tu amministratore di sostegno piuttosto che tutore che hai preso in mano la situazione che sei stato identificato ti inizi a muovere e a darti da fare in maniera tempestiva per recuperare tutte le informazioni e portarmi tutti i documenti che servono per sanare la situazione perché io sono intervenuta anticipando dei quattrini io amministrazione e quindi non te la puoi prendere noi abbiamo avuto situazioni di amministratori di sostegno che dopo un anno ancora dovevano portarci l'analisi del rendiconto delle proprietà e dei beni degli interessati poi è capitato l'amministratore di sostegno è venuto a mancare allora cercano e via avanti e le cose si dilungano allora il tempestivamente era un termine si è voluto intendere un termine che desse l'urgenza dell'intervento ma senza definirne dei tempi in maniera precisa perché ognuno ha bisogno dei tempi che servono ma tempestivamente sta a significare fai le cose in fretta portameli subito quanto prima questa era raccogliere la DSU in comune io veramente credevo di averlo già detto l'altra volta in commissione ma non è un problema lo torno a ripetere l'amministrazione comunale non ha mai raccolto le DSU finalizzate alla presentazione dell'ISEE raccogliamo dichiarazioni sostitutive atto di notorietà finalizzate fino a oggi alla integrazione delle rette perché utilizziamo una metodologia che non è quella fino a oggi utilizziamo uno strumento che non è l'ISEE da domani che l'ISEE diventerà obbligatorio l'ISEE lo raccoglierà chi noi abbiamo incaricato di farlo al posto nostro abbiamo sempre avuto esternalizzato il servizio le garantisco che fino al dicembre del 2014 ne avevamo in piedi 3, 4, 5, 6 prima anche 10, 11, 12 convenzioni con CAF diversi del territorio che erano convenzionati con noi per fare questa cosa per noi al posto nostro per cui se qualcuno ci chiede in quanto ente tenuto a farlo e non siamo solo nei comuni naturalmente avevo già detto anche l'altra volta le province le aziende sanitarie chiunque tutti identificano il comune ma non è l'unico soggetto l'IMS e via avanti così come l'IMS ha delegato perché prevede la legge ha delegato ai CAF l'amministrazione ha inteso fare la stessa cosa quindi la competenza dell'amministrazione in termini di raccolta della DSU di inserimento e caricamento della DSU è stata affidata a questi 4 CAF identificati da quanto tempo deve essere residente a Pordenone se è usufruibile da tutti i cittadini allora sì tutti i cittadini che siano residenti a Pordenone ovvero che siano stati residenti a Pordenone prima del ricovero nella struttura per la quale chiedono l'intervento questa è una previsione della legge 328 del 2000 e poi recuperata dalla legge regionale 2006 2006 Friuli Venezia Giulia per cui l'intervento non prevede che tu sei residente a Pordenone da un anno piuttosto che da 24 mesi come altre norme di intervento assistenziale anche un giorno ma nello stesso modo uno potrebbe allora è competente a intervenire il comune dove avevi la residenza prima del ricovero nella struttura per la quale mi chiedi per assurdo io da Pordenone vado a ricoverarmi a Udine mi arrangio a pagare la retta a Udine prendo la residenza poi mi trasferisco e vado in una struttura di Trieste a quel punto non ho soldi a sufficienza perché la retta costa di più a chi chiedo al comune di Udine perché era l'ultimo comune dove tu avevi la residenza prima del ricovero per il quale mi chiedi eppure provenivi da Pordenone nella stessa maniera può capitare il rovescio quindi è sempre competente non ha importanza da quanto tu fossi residente questo lo dice la legge 328 nazionale lo riprende pari pari la legge regionale 6 se la casa non è abitabile viene considerato patrimonio allora se la casa non è abitabile il discorso se ho una casa Andreis piuttosto che dove allora noi facciamo autocertificare nel senso che non noi l'ISEE fa autocertificare il possesso di eventuali beni immobili poi noi valutiamo a seconda della contrattazione che andiamo a fare con l'utente perché gli viene valorizzato questo bene all'interno dell'ISEE sulla base di questo io gli dico versami tutti i soldi che risultano dal valore dell'ISEE non è proprio così perché poi avete visto ci sono una serie di abbattimenti di altre cose di restituzioni anche allora se questa persona mi dice sì ok io per poter intervenire devo prima vendere la casa però la casa non riesco a venderla gli faremo firmare un'impegnativa dove lui e i suoi redi e i suoi redi si impegnano non appena hanno proceduto e siano stati in grado di procedere all'allenazione del bene di restituire all'amministrazione cosa? quanto dalla stessa anticipata in misura non superiore a quanto anticipato l'amministrazione e comunque per un valore corrispondente a quello del bene alienato è mai di più e andremo per le vie legali perché se abbiamo fatto firmare un'impegnativa di pagamento e poi uno non paga è come chiunque altro che ti dice pagherò si impegna a farlo e poi non lo fa si va per le vie legali entriamo con equità li andremo a fare una riscossione coattiva se non riesco a risolvere in altre maniere queste sono le forme di recupero che ha l'amministrazione la verifica della verifica se uno ha firmato un'impegnativa di pagamento dove dice che si impegna a versare naturalmente noi gli mandiamo una serie di solleciti cerchiamo di capire quali sono i motivi perché siamo pur sempre servizi sociali e laddove ci siano dei motivi validi li valuteremo l'abbiamo fatto in tante occasioni abbiamo previsto deroghe abbiamo previsto interventi aggiuntivi laddove invece semplicemente è determinato da una non volontà a rispettare i patti dopo i vari solleciti si preavvisa che sarà inserito in sarà iscritto al ruolo e si procede con l'iscrizione al ruolo questa di norma è la modalità quando se poi questa è la modalità classica dell'amministrazione poi può darsi che ci siano delle situazioni di specie diverse e si può sentire con il nostro servizio di avvocatura però normalmente la modalità del recupero è questa la verifica della vericità delle dichiarazioni rese allora rispetto a questo una parte di verifica già viene fatta a monte dall'agenzia delle entrate e dall'inps perché come ben sa in DSU la parte di autocertificazione diretta dell'utente è soltanto una parte dell'intera dichiarazione che viene fatta sulla base della quale viene elaborato l'ISEE i redditi e una serie di altre informazioni vengono inserite direttamente dall'Inps e dall'agenzia delle entrate e sono già queste che vanno ad incrociare una serie di informazioni per esempio adesso ci stanno già arrivando comunicazioni da parte dell'agenzia delle entrate che facendo una serie di incroci rispetto a delle persone che hanno dichiarato di avere dei conti correnti bancari uno magari dicono no veramente a me risulta che è anche in quella banca in quella in quella in quell'altra manderemo a chiamare le persone gli faremo dimostrare e dichiarare eventualmente interviene la guardia di finanza tutt'al più la guardia di finanza combina la multa nel senso che dice ok devi restituire il dovuto se tu hai fatto se hai avuto il beneficio a fronte di una dichiarazione non veritiera se invece l'hai avuto la dichiarazione non veritiera non ha inciso è chiaro che nulla si fa se hai ottenuto il beneficio grazie a una dichiarazione non veritiera adesso non solo restituisci il beneficio ma paghi pure la multa che è prevista noi l'abbiamo fatto in più di un'occasione abbiamo una convenzione con la guardia di finanza e queste cose le facciamo come andremo a fare i controlli invece per la parte che riguarda noi verosimilmente andremo a farli a campione come prevede 445 che dice la selezione di una campionatura andremo a dichiarare quali saranno le modalità di campionatura per cui il 5% almeno deve essere fatto adesso l'amministrazione sta ancora valutando rispetto all'ISEE come si muoverà perché fino ad oggi il controllo sull'ISEE non ci spettava i metodi se fuori dal territorio italiano glielo ho detti prima nel senso che quanto ci ha detto la guardia di finanza e l'agenzia delle entrate è che si muovono sulla base di questi accordi internazionali che però non è poi così facile nel 2014 la spesa dell'amministrazione comunale allora io qui adesso lavoro a memoria nel 2014 noi abbiamo avuto circa un 670 mila euro di integrazioni rette per gli anziani 670 680 di cui però una parte circa un 300 mila euro erano coperte dalle entrate di compartecipazione dei privati perché noi paghiamo la fattura per alcune strutture paghiamo la fattura intera e poi i privati versano direttamente a noi quindi diciamo sui 370 380 mila euro e circa un 200 200 qualcosa per quanto attiene agli adulti quindi più o meno la quota di spesa dell'amministrazione è questa abbiamo avuto circa 40 utenti poco più sull'area anziani 40 utenti che poi possono essere anche di più nel senso di 40 rette pagate nell'anno ma in termini di anno perché ci possono essere poi le sostituzioni di qualcuno che magari ahimè sono persone anziane e decedono e subentra qualcun altro quindi una media in carico di 40 persone mensili e circa tra i 10 e i 14 utenti adulti e con questo regolamento noi prevediamo di mantenere comunque questo trend nel senso che gli interventi che sono stati fatti fino adesso sono stati rispettosi dell'utenza detenuti agli alimenti ma nello stesso tempo anche mirati a far partecipare comunque alla spesa a chi ne aveva la possibilità e quindi prevediamo nel 15 nel 16 a meno che di un mega boom di mantenere più o meno questo trend fatti salvi gli aumenti delle rette che ci saranno nelle strutture perché quelli difficilmente vanno di pari passo con l'aumento della capacità compartecipativa delle famiglie o dell'interessato perché insomma l'aumento sulla pensione è minimo la gradazione sanitaria della non autosufficienza come si interviene quali sono i criteri no in realtà rispetto a questo è semplicemente per è una cosa che prevede l'ISEE la norma sull'ISEE prevede una graduazione sulla non autosufficienza in base a questa graduazione c'è un abbattimento una franchigia prevista per il disabile che può arrivare fino a 7000 euro e viene graduata in base alla non autosufficienza franchigia che peraltro noi chiediamo comunque di riversare perché 1000 euro per il semplice fatto di essere pensionato già vengono abbattute in ISEE quindi quelle rimangono giustamente in tasca dell'interessato per le piccole spese come è sempre avvenuto fino adesso la parte invece della franchigia viene comunque riversata in contoretta e quella il livello di non autosufficienza serve solo a determinare quella franchigia fatto salvo che abbiamo detto naturalmente il livello di non autosufficienza determina l'identificazione dell'istituto più idoneo e quindi magari con una retta più bassa indicare il regolamento vigente segretario io credo che non sia un problema darlo a identificare c'è un regolamento unico in questo momento che era quello dell'assistenza economica dell'amministrazione che ormai non valeva neanche quasi più per una serie di altre cose perché fa un regolamento di ambito interviene si scrivere qual è la delibera di consiglio comunale con la quale regolamento è stato approvato non è un problema e dire qual è l'articolo che viene abrogato non è un problema neanche questo io se lei è d'accordo segretario non è un problema specificarlo c'è proprio bisogno che io adesso me lo ricordi a memoria no no è vero no no sì però non ho gli atti dietro per per sapere di qual era penso di capire il pensiero il pensiero del consigliere del ben che non essendo i regolamenti è giusto condivido la sua impostazione che si abrogano non i regolamenti ma le norme con cui si attuavano questi procedimenti per me va bene si abroga la norma è sufficiente così allora è abrogata ogni altra disposizione ogni altra norma relativa norma comunale in merito in merito all'integrazione di rete in merito a questo regolamento dunque dove sono arrivata indice i 180 giorni per la deroga ulteriore per quell'incarico non mi ricordo che me l'ha chiesto comunque questi 180 giorni che sono stati scritti sono per quei soggetti che noi abbiamo già in carico ai quali abbiamo già chiesto portateci di sé non ce l'hanno portato e quindi noi diciamo tempo ultimo chiaramente fatte salve le deroghe che sono già state previste cioè voglio dire l'utente che non ha né arte né parte non ha nessuno che sia in grado di possiamo applicare anche la deroga però gli altri dove semplicemente i familiari diretti interessati non si sono occupati e preoccupati noi gli diciamo vi lasciamo questi 180 giorni ultimi perché capiamo che stiamo entrando nella scadenza nel periodo di scadenza di tutti gli isecci sarà la ressa per cui 180 giorni o beh me li porti o beh io non ti ho più in carico e hai il tempo no? 180 giorni per la deroga no la domanda la domanda era come mai adesso arriviamo dopo il 2013 no quella quella era era un po' più avanti allora sui 180 giorni non è che io chiedessi perché 180 giorni io chiedevo perché era stato messo la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'ente e chiedevo quali erano le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione o i tecnici insomma a scrivere questo in relazione al fatto che credo che siano invece cioè l'insindacabile giudizio dell'ente non fa riferimento a dei dati oggettivi mi spiego e quindi chiedevo qual era la motivazione il discorso del 2013 per la quale voi avevate messo la prima domanda questa era la seconda domanda la prima domanda era noi recepiamo una normativa di dicembre 2013 come mai approviamo oggi ed entra in vigore nel 2016 e siamo rimasti senza regolamento o comunque con un regolamento parziale nel 2014 per tutto 2014 2015 punto di domanda il discorso dei 180 giorni dell'insindacabile giudizio è perché forse non sono riuscita a spiegarmi è perché ci sono noi le conosciamo le situazioni che abbiamo in carico chi ce li ha portati chi non ce li ha portati i motivi per cui ce li hanno portati e non ce li hanno portati allora se stiamo ragionando di soggetti che non ce li hanno portati perché non sono in grado mi viene in mente il barbone che vive sotto i ponti i cui tenuti gli alimenti non lo conoscono praticamente perché noi sappiamo anche chi sono ma non sono sicuramente soggetti che hanno più avuto a che fare con questa persona a lungo tempo quindi non è in grado l'interessato non siamo ancora pronti con la nomina di un possibile amministratore di sostegno eccetera gli altri è il termine ultimo perché sapevate di doverlo portare ve l'abbiamo detto mille volte vi abbiamo sollecitato non li avete portati ultimi 180 giorni poi noi non paghiamo più la retta trovatevi un altro posto dove mettere le vostre persone non è bello però 180 giorni è un tempo sì però è un tempo congruo rispetto a delle persone ok mi sono spiegata adesso il discorso del regolamento che mentre voi parlavate non so se mi avete visto cercare tra le carte perché non riesco a trovarlo però in realtà la norma sull'ISEE entrava in vigore col primo gennaio del 2015 e dice vi lascio 12 mesi per emanare i regolamenti per l'applicazione della norma quindi siccome l'ISEE nuovo è entrato in vigore il primo gennaio del 2015 l'anno di tempo per applicare i regolamenti scade col 31 di dicembre nel frattempo noi che cosa abbiamo fatto abbiamo dovuto andare a raccogliere una serie di informazioni per fare le simulazioni e non riesco a trovarlo ma poi faccio a vedere si 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 è stato pubblico non riesco a trovare è entrato in vigore il vostro federale del 2014 e questo stabiliva che a sua volta sarebbe entrato in vigore la relazione generale di un'isola si 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 soltanto che mi dispiace semplicemente in questo momento perché per ascoltare le varie richieste non riesco a trovarlo ma poi glielo trovo perché c'era una delibera anche fatta dalla giunta che richiamava questo passaggio è stata fatta il 20 febbraio del 2015 proprio in sintonia con quello che prevedeva il decreto e diceva entro il 31 di dicembre nel 2015 il regolamento deve essere approvato anche perché è soltanto questo che poi in realtà mancava gli altri tutto al più devono essere gli altri regolamenti dell'ente devono essere soltanto adeguati quello dell'articolo 7 l'ho riletto quello dell'articolo 7 dice lei un altro che ha rimborso le spese preventivamente sostenute dal comune dice che non soltanto non soltanto ci sono altri passaggi leggendo l'intero testo si dovrebbe rilevare perché in realtà noi diciamo è a titolo di anticipazione me lo devi rimborsare tutto quindi è pacifico la percentuale dei figli allora quando sì sì stavo seguendo infatti stavo seguendo la traccia dell'endicolo mi avevate posto le domande allora la percentuale dei figli in realtà è una quota che già l'ISEE aggiuntivo cioè quella componente aggiuntiva che è prevista dalla modulistica automaticamente quando viene viene presentata inserita in DSU va ad aumentare l'ISEE del diretto interessato quindi tu la deduci con facilità perché dentro lo stesso dentro la stessa dichiarazione ISEE trovi dichiarazione ISEE dell'interessato e poi la dichiarazione rivista con la componente aggiuntiva quindi per differenza quella dovrebbe essere la quota di compartecipazione del figlio del figlio però poi noi sul fianco aggiungiamo non so se aveva visto anche eventuali tenuti agli alimenti perché ok e sull'articolo 7 l'ho riletto l'avevo detto sì poi l'ho detto no poi l'ho riletto la percentuale di compartecipazione dell'utente massima ne convengo con lei sì accettiamo anche questa assessore se è possibile dell'utente perché sì sì sopra sì sì l'ho riletta sì la famiglia anagrafica qualcuno mi chiedeva come è costituita la famiglia anagrafica è prevista la costituzione della famiglia è prevista proprio dal decreto il decreto dice che cosa si intende per famiglia anagrafica come rispetto alla presentazione di un ISEE sociosanitario era lei? sociosanitario residenziale infatti guardavo giusto sociosanitario residenziale come la famiglia sì sì ce l'avevo qui il segretario ma non l'ho trovato l'ha trovato lei? sì comma 5 le prestazioni sociali egevolate in costo di erogazione sulla base di disposizione continuano a essere erogate secondo disposizioni medesime fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni presenti nel decreto e comunque non oltre 12 mesi dalla data di cui al comma 1 è il comma 1 primo gennaio 2015 grazie segretario e non lo trovavo in questo momento dicevo che la normativa proprio identifica l'accezione nucleo familiare e poi nel sociosanitario residenziale c'è la possibilità per l'utente di identificare se vuole rappresentare il nucleo familiare anagrafico ovvero un nucleo ristretto il nucleo ristretto sempre la normativa sull'isetti dice che deve essere composto dal coniuge dai figli per cui se nel tuo stato di famiglia ipotesi c'è anche la nuora piuttosto che il vicino di casa o la nonna del neppone non lo so tu puoi scegliere di fare un nucleo anagrafico ristretto dopodiché dovrai utilizzare sempre questo nel bene o nel male nel momento in cui fai un sociosanitario residenziale e quindi ti dice qual è la composizione del nucleo familiare lo dice già la norma quindi non facciamo altro che applicare la norma più ti aggiunge la componente aggiuntiva dei figli che non fanno parte del nucleo anagrafico quindi come anagraficamente costituito al momento in cui vai a renderli sé famiglia anagrafica articolo 5 la liquidità del soggetto per adempire i propri obblighi ah sì cioè che cosa si intendeva per se non ha sufficiente liquidità rispetto a quello che risulta a fronte di una modesta liquidità mensile allora questa è la conseguenza anche di anni di lavoro su questa materia dove noi ci siamo ritrovati in situazioni dove non è bello a dirsi però sono dati di fatto e quindi è inutile c'è la persona anche che ufficialmente c'è un certo tipo di reddito con ingenuità fidandosi di alcune persone gli ha contestato per esempio il conto corrente piuttosto che gli ha dato in mano il proprio bancomat perché magari è quella persona quel conoscente che ti va a fare la spesa che ti fa i piccoli servizetti servizetti a tutto tondo per cui noi abbiamo trovato i conti prosciugati allora quando dichiari devi dichiarare i tuoi depositi bancari che sono la dichiarazione che ti rende la banca della giacenza media nell'arco di un anno no? e quindi risulta un dato dopodiché vai a chiedergli e non ci sono più questi soldi però ufficialmente sono stati prelevati col bancomat o da un contestatario del libretto allora voglio dire a un certo punto se riusciamo laddove possiamo noi siamo anche insomma un po' attenti a queste cose dove riusciamo dove capiamo dove possiamo intervenire normalmente lo facciamo se qualcuno è stato più furbo dobbiamo prenderne atto ma non posso pretendere di avere dei soldi che figurano sulla carta ma che in realtà l'utente non ha e la stessa cosa era il discorso della valorizzazione del bene ti risulta che hai una proprietà di un bene che in realtà non ti sta dando nessun reddit magari dentro quella casa ci abita anche tua moglie ma se tu da quel bene non ricavi soldi come faccio a dire la componente dentro l'ISEE lo considera ma come faccio a dire che me li devi versare se c'è una pensione di 1000 euro al mese e da l'ISEE mi salta fuori che me ne devi versare 1000 e 3 ma se lui quei 300 in più non ce li ha come posso fargli li versare allora le motivazioni possono essere diverse ovvero magari aveva un debito gli sono arrivati dei soldi e ha pagato il debito i soldi non ci sono più prego la famiglia anagrafica come prevista proprio dalla norma sull'ISEE anagraficamente è costituita al momento della domanda che può essere anche un nucleo ristretto perché su socio sanitario residenziale è prevista la possibilità anche di di selezionare il nucleo familiare tenuti gli alimenti se non pagano e sugli eredi se non pagano allora intanto abbiamo detto che noi verifichiamo la capacità di compartecipazione alla spesa se verifichiamo che tra interessante tenuti gli alimenti si riesce ad avere l'importo che equivale al costo della retta noi semplicemente rispondiamo all'interessato non ravvisiamo i presupposti che giustificano un intervento con denari pubblici là dove invece arriviamo ad un accordo per cui vengono firmate delle impegnative quello che abbiamo detto prima tutt'al più andiamo con l'iscrizione al ruolo se invece uno si rifiuta proprio di firmare pur avendo la capacità normalmente noi interveniamo comunque perché in ogni caso noi abbiamo l'obbligo di tutelare la persona disabile è non autosufficiente e quindi dobbiamo garantirgli l'assistenza dopodiché noi facciamo una segnalazione alla nostra avvocatura che procederà magari per le vie legali dove ritenga che ci siano i presupposti questi sono i nostri metodi per recuperare tutti i tentativi naturalmente fa più vero chiaro sempre il buon senso viene sempre prima tante volte si riesce anche in forma bonaria a recuperare delle persone che magari in un primo tempo avevano magari non pagano perché hanno un problema allora hanno firmato un'impegnativa perché erano in grado in quel momento di versarti 100 euro al mese dopodiché gli è capitata qualche situazione particolare ce la vengono a rappresentare ripropongono il loro esè il loro esè si vedrà che si è modificato il reddito e prendiamo atto e revochiamo l'impegno che hanno assunto insomma si può anche rivalutare questa cosa punto 3 articolo 5 credo che fosse l'ultima cosa che mi chiedevate punto 3 dell'articolo 5 ah è sempre quella no? quella della modesta io credo no poi c'è l'accordo di libertà quale accordo servizio dovuto a chi? allora Franchini è stato risposto rimetti non mi ricordo più la domanda ecco l'ho fatto vero? si io credo di aver risposto a tutti i quesiti adesso non lo so grazie bene abbiamo dato risposta a tutte le richieste di chiarimenti pertanto posso dichiarare aperta adesso la discussione prego consigliere De Bortoli allora intanto ringrazio i tecnici che hanno spiegato per la seconda volta dopo la commissione ma noi sui tecnici non abbiamo dubbi sono preparati attenti a tutto ciò che chiediamo ma sono altrettanto attenti alle indicazioni che dà la parte politica perché qui stiamo parlando di un consiglio comunale e di dienti che hanno il compito di tradurre un pensiero politico poi in fatto amministrativo perché qua altrimenti noi metteremo un consiglio di amministrazione lì e si risolverebbero tanti problemi invece abbiamo gente che viene eletta dal popolo e va lì ad amministrare ma amministrare non vuol dire che va lì ad applicare le leggi italiane va lì a dare indicazioni come si amministra ai tecnici che ha a disposizione i tecnici dopo queste indicazioni le tramutano in normative allora questa amministrazione ha deciso che non bastava l'Isecom era deliberata ma ha dovuto aggiungere cinque elementi che il tecnico prima ha detto di complemento prendere la cosa ancora più semplice cioè più difficile ma questo perché perché si ha la sensazione caro Assessore che ultimamente questa amministrazione si è allineata con le amministrazioni dallo Stato regionali dove si tenta a far pagare al cittadino tutto ciò che è pubblico ma non che è necessariamente funzionante ma si scarica addosso al cittadino tutte le spese possibili e immaginabili perché a livello centrale non vogliono mettere le mani in tasca gli italiani le scarico nei livelli decentrati e questo è un esempio palesiano su questo e lei cosa fa quindi giorni fa ci ha provato qua una delibera dove dice che una ASP deve fare bilancio a pareggio mi pare che abbiamo approvato questa cosa qua giusto? Sì ma un'azienda bilancio in pareggio dunque però l'ASP non è un'azienda che fa lavatrici caro collega dal MAS l'ASP è un'azienda che cura le persone anziane bisognevoli di assistenza e di attenzione particolare perché come diceva prima il collega Franchini diceva qui non si sa più di diritto qua si parla di necessità cioè qua se domani uno prende un aereo e arriva dall'Arabia Saudita qui e è un disabile è messo male viene ricoverato in una casa di riposo nostra e gli cittadini italiani provvederanno alla sua assistenza e noi nulla chiederemo allo Stato dell'Arabia Saudita che ha i dollari che vengono fuori dalle parti perché ce lo carichiamo noi e quando parliamo di noi vuol dire che i cittadini italiani faranno questo chiaro su questo per essere molto chiari perché una volta noi ragionevamo sullo Stato italiano dunque avevamo stati con i confini sapevamo che la nostra popolazione era quella la contribuzione era quella l'assistenza la davamo e la paragevamo con i bilanci alle nostre necessità oggi abbiamo una sanità che taglia il bilancio però accoglie centinaia di immigrati nel territorio allora io cerco di capire come si fa a tagliare il bilancio e poi dare assistenza a centinaia di perché io non ho nulla contro questi soggetti che arrivano qui non preventivati allora si devono fare dei fondi più duttili su questo perché oggi io chiedo una visita una visita cardiologica e mi dà la visita dopo sei mesi sei mesi io ho la visita il 22 febbraio che sta a ottobre e mi dico stai abbiamo tanta qua dobbiamo fare gli screening questo è quello che poi succede ma voglio lasciare parte della sanità che una volta c'erano le compensazioni io facevo le 111 per andare in Francia quando avevo bisogno di una prestazione la Francia chiedeva il costo all'Italia vero Franchini oggi noi abbiamo tanta gente che arriva qua senza 111 e ci accogliamo la spesa sanitaria che non è proprio una spesuccia non è una spesuccia la spesa sanitaria oggi perché il mondo si è evoluto la gente si sposta velocemente come la gente comunica velocemente e colui che è abituato ad essere non stanziale quando io comunico a uno guarda che qua c'è questo 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 siccome non c'è la stanzialità che può avere un italiano che è legato al territorio qui ti arrivano dei soggetti dove dice lì danno questo 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 lì non lo danno andiamo lì tanto ce lo danno ma questo crea se non ci sono delle d'utilità sui bilanci crea certamente uno scompenso di servizio perché questo è evidente se le preverazioni sono quelle non posso pensare che noi possiamo dare assistenza al mondo su questo fatto qua allora dico torno a prima è bene che si sappia questo discorso che ha fatto il tecnico prima lo abbiamo evidenzato su tutta la parte sulle mie domande di chiarimento noi abbiamo io dico solo questo io non voglio essere diverso io voglio che se siamo in questo territorio nazionale tutti siano trattati la stessa maniera cioè se io vengo da Torino e vengo l'intrazzato che ho una casa a Torino l'ISEE me la marca io non ho più diritto perché sfondo l'ISEE e i miei familiari pagano per me nel bisogno ma questo deve essere uguale per tutti perché lo si fa con lo Stato purtroppo abbiamo già visto e poi ci lamentiamo perché le case popolari perché questo è quello di fatto che si ripercuote nel territorio le case popolari guardiamo le gradatorie la maggior parte vanno a cittadini che non sono italiani che hanno diritto per carità perché sono umani anche loro ma scalzano coloro che sono il nostro territorio alla grande ma questo perché perché noi abbiamo il controllo sul territorio specifico e abbiamo l'apparato finanziario che va molto molto preciso una volta che è codificato a verificare che questo qui ha la macchina così la casa colare ha editato la casa al mare e via dicendo non ha diritto anzi paga anzi gli diciamo anche guarda la casa la puoi mettere in vendita a guardate proprio passando sopra al fatto che la sensibilità umana dove uno dice questa casa noi abbiamo visto quando dobbiamo fare l'UMI a Borgomeduna l'UMI l'unità minima di intervento è ancora lì Borgomeduna dove c'è la piazza tutto quel diloccamento non l'abbiamo potuto fare perché le anziane signore dicevano questa casetta l'ha fatta mio marito in Belgio lavorando in miniere prendendoci la silicosi per cui a me non importa se voi mi date tre appartamenti si faccio buttare giù questa casa vecchia ma questo è il prodotto di mio marito che è morto per questa casa qua noi oggi invece diciamo tranquillamente non ti preoccupare tua mamma la porti in casa di riposo gli vendi la casa perché tanto magari è cosciente ancora non è autosufficiente ma è cosciente vai a dire a quella signora anziana guarda che ti vendiamo la casa immobili portiamo su un pacchetto ti vendiamo la casa perché devi pagarti devi pagarti il soggiorno io non so se noi facciamo un bene assistendola dandogli da mangiare e poi diciamo ti vendiamo la casa lo scompenso psicologico di quella persona io sono convinto che è enorme enorme è un danno che gli facciamo quella persona ma questo succede soltanto alle persone che sono praticamente nate e vissute qua quando invece basta un giorno un giorno mi ha detto il tecnico che una persona non da un altro comune italiano non da assessore ma dall'oltre confine un giorno arriva qua e siamo obbligati a dargli per la necessità che diceva la collega Bianchini siamo obbligati a dargli il ricovero in casa di riposo e la comunità paga tutto paga tutto paga tutto capisce un giorno mi arriva dall'oltre confine qua e ci mette 40 minuti arrivare qua e la comunità è qua parliamo di qua ma potremmo pagare di Trieste potremmo parlare di confini con la Svizzera potremmo parlare di tutti i confini perché questa zona li ha come le zone del sud le hanno proprio lì sul mare dunque uno arriva e dice ah guarda io c'ho il mio babbo che lo mettiamo in casa di riposo e paghiamo 2000 euro al mese diretta la comunità si fa carico di questo ma vede si fa carico la comunità nel momento in cui lo Stato centrale lo Stato regionale ti taglia perché se lo Stato centrale e lo Stato regionale dicesse le spese di coloro che non sono ma che non possono essere verificate noi provvediamo a mandare il conto non a paesi poveri come la Bulgaria parliamo di paesi del Medio Oriente ricchissimi ricchissimi che comprano Milano ma i loro cittadini li mandano qua perché resistiamo noi e questa è l'incongruenza che io vi voglio sollevare perché capisco se vengono da paesi dove non c'è neanche l'acqua ma quando vengono da paesi dove hanno grattacieli e comprano mezzo a Milano e noi ci dobbiamo accollare l'assistenza questo comincia a darmi fastidio perché non possiamo in qualche modo fare le convenzioni a livello internazionale dove io ti assisto il tuo ma siccome tu sei un paese ricco tu gli paghi le spese mica tu puoi comprarmi mezzo d'Italia e noi ti assistiamo i tuoi cittadini che sono poco abbienti perché bisogna che arriviamo nel momento in cui noi verifichiamo che lo spostamento migratorio è così importante quanto tempo potremmo ancora farci carico dell'assistenza al mondo come Italia che è in questo centro mediterraneo non penso tantissimo e voi cosa fate? integrate le sei cinque norme che vanno tutte a salvaguardare principalmente non i cittadini italiani non i cittadini residenti anche se non italiani ma quelli che arrivano qua di passaggio che potrebbero domani mattina cominciare a venire qua grazie a queste norme grazie a queste norme per questo è il fatto perché qui abbiamo una posizione che non è che l'Europa è tutta quanto uguale l'Europa ha delle difficoltà allora vediamo che Svizzera non possiamo vedere i conti di là non possiamo vedere le case però qua se arrivano qui dobbiamo dargli l'assistenza come se fosse un cittadino nostro e invece al nostro cittadino dobbiamo massacrare le famiglie che hanno lavorato una vita principalmente il soggetto ha bisogno gli dobbiamo fare levare la casa tutto quello che ha tutto magari se ha anche quattro medaglie d'oro che le facciamo vendere perché deve mantenersi in casa di riposo lui principalmente poi andiamo a dei figli che se hanno due soggetti a lavorare superano sicuramente i 20.000 euro oppure basta che un pensionato abbia peccato la liquidazione di 40 anni di lavoro l'ISEE gli salta gli schizza via perché con un deposito di 40.000 euro che sono 40 anni di lavoro questo qui deve levarsi la liquidazione e pagarsi la retta perché lui ha lavorato 40 anni in Italia capisci qual è il problema ma come fa affrontare quando un figlio dice ma no perché dobbiamo pagare la retta cioè il nostro papà perché gli vendiamo la casa noi abbiamo l'ospicio e l'obiettivo che il nostro babbo torni a casa e che se per caso si autoabilita e domani chiedi di tornare a casa gli diciamo guarda la tua casa l'abbiamo venduta perché il comune abbiamo pagato ci ha anticipato dei soldi abbiamo pagato il comune cioè questo è quello che poi perché noi qua facciamo grandi paroloni di articoli di controarticoli ma guardiamo la realtà dei fatti guardiamo la realtà dei fatti veramente queste cose hanno bisogno quando arrivano al terminale della vita ci sono veramente da 18 a 65 ma la maggior parte dei soldi sono da 65 in poi assessore vero? ecco 65 in poi possibilmente chi ha stato in pensione l'altro ieri hanno preso 40.000 di pensione di liquidazione e li hanno messi in banca perché il curatore non li può spendere perché come si chiama quello che la gestisce l'amministratore di sostegno li prende e le liquidazioni la mette in banca poi va a fare l'ISEE 40.000 di liquidazione ha schizzato oltre i 20 devi pagare tutto e dunque ti restituisce allo Stato ciò che si è guadagnato in 40 anni ora io non so se questo qua è corretto moralmente io non credo allora per quello io questa norma noi mi pare che poi dopo gli interventi ma siamo molto 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 scettici su quanto non tanto perché se poi la norma nazionale io posso capire che decidiamo di assistere tutti ma lo Stato la Regione deve fare la sua parte deve darci la parte che noi non riusciamo come comunità territoriale a poter destinare una quota a parte di bilancio abbastanza fluida per poter coprire ciò che non sappiamo che ci può capitare perché noi oggi non e il sindaco lo sa bene l'ho detto anche prima noi non possiamo preventivare quante persone ci arrivano che siano bisognose o no dopo lo decideranno non tanto ci arrivano e guardate che quell'accoglienza che facciamo come si diceva prima non rende merito l'Italia non rende merito l'Italia perché la facciamo quasi di nascosto perché sappiamo e tutti sappiamo che questo fenomeno che durerà e come dicono più di qualche anno più avanti va e meno potremo sopportarlo e affrontarlo perché non abbiamo gli strumenti noi in territorio nazionale anche se abbiamo la volontà come Italia ma non abbiamo gli strumenti noi e non abbiamo la volontà europea per fare questo problema qua non riusciamo perché nella comunità europea si parla di banche si parla di finanza ma non si parla che sono paesi io mi sono opposto il problema ma se io fossi un cittadino della Nigeria oppure un cittadino del centro Africa ma andrei nel Qatar andrei nel Romano sono paesi dove hanno una ricchezza infinita hanno la mia religione la mia lingua il mio cibo e il mio sistema di vita perché devo venire in Europa perché solamente perché in Europa c'è la libertà cosa che non c'è in quei paesi questo è il dato di fatto perché altrimenti io andrei in Oman dove c'è un foro di lavoro e sono italian desi che lavorano in Oman perché vengo in Europa questo è quello che noi dobbiamo cominciare a pensare non è una cosa molto semplice ma per adesso facciamo finta di non vederla e pensiamo solamente a tante altre cose ma soprattutto in questo modo stiamo danneggiando i nostri cittadini e quando non parlo solo di italiani ma parlo di tutti coloro che hanno sono già assestati per vivere in questo paese grazie consigliere consigliere Ribetti prego grazie presidente io mi scuso per il tono di voce però sto poco bene infatti abbandonerò l'aula subito dopo l'intervento beh parto da una riflessione il consigliere De Bortoli forse a modo suo forse a volte sconfinando un po' fuori tema però ha detto qualcosa su cui non si può non convergere non si possono non condividere certe riflessioni almeno per chi siede in questi banchi del consiglio comunale più di qualche volta l'abbiamo detto l'abbiamo detto l'abbiamo evidenziato che forse la politica di questa amministrazione a volte di propria volontà a volte dico io anche perché imposta da direttive sovraordinate al nostro modo di vedere al mio modo di vedere è una politica forse troppo discriminatoria nei confronti di chi su questo territorio è nato più di qualche volta ci avete dato ripeto a volte non per colpa vostra ma molte altre volte proprio per vostre scelte e direttive politiche ci avete dato a noi ma più che a noi i cittadini pordenonesi e cittadini italiani in genere l'impressione di avere un occhio di maggior riguardo nei confronti di chi in queste terre non è nato ricorderete l'interrogazione sul kebab i nostri poveri mangiano quello che trovate quelli che vengono qua esigono il kebab gli date il kebab ne faccio un esempio unico il collega Bianchini potrà parlare subito dopo me lo guarderò da casa in streaming quindi quindi non mi interessa molto quello che dice anzi non mi interessa affatto ecco e perché dico questo dico questo anche ragione veduta assessore voglio partire proprio da un caso concreto in quest'aula abbiamo qualche tempo fa credo qualche mesetto fa abbiamo abbiamo affrontato un'interrogazione presentata al sottoscritto dove si parlava proprio di casi di bisogno un'interrogazione che ha fatto chiudere l'aula siamo stati dentro lei ha sviscerato tutto un insieme di dati però vede per come la intendo io quella era una situazione di caso di bisogno e come ha risposto la mia amministrazione a quella situazione di fatto io non sono stato per niente contento io sono sicuro e conclusi la mia dichiarazione di voto la mia dichiarazione di soddisfazione dicendo che se quella famiglia al posto di essere una famiglia di italiani fosse stata una famiglia con la pelle diversa questa amministrazione sarebbe corsa in un comportamento tutto diverso perché quei cittadini lei mi rispose assessore che vi eravate tranquillizzati perché la vicina di casa aveva assicurato che i bambini dormivano al caldo perché li ospitava lei allora vede io non posso accettare che voi che la mia amministrazione mi dia una risposta girandola sul soggetto privato vicino di casa intendo non posso accettare che quella situazione di bisogno a fronte di quale quei siano le motivazioni perché lei mi disse guarda che quelle persone hanno già avuto tanto dal comune beh quelle persone hanno avuto tanto dal comune ma lei mi lascia un bambino di due mesi una bambina di due anni a dormire al freddo a febbraio perché magari ma perché magari no quella è una situazione di bisogno assessore quella è una situazione di bisogno a cui la mia amministrazione deve dare una risposta no ha dato risposta alla Caritas assessore perché quella volta era stata legata all'interrogazione quindi tutti i colleghi ed è ancora reperibile sul sito la bolletta l'ha pagata la Caritas voi avete rifuso la Caritas un mese dopo e se la Caritas non pagava la bolletta quella famiglia quella famiglia era al ghiaccio al freddo per un mese lei mi dirà lei mi dirà lei mi dirà ma cosa c'entra questo con l'ISEE perché un passo di quell'interrogazione si parlava anche dell'ISEE perché un passo di quell'interrogazione se si ricorda era stato detto a quel cittadino italiano bisognoso che non aveva ancora i dati per poter richiedere e produrre l'ISEE portarlo al caffè gli era stato detto da qualcuno gli era stato detto guarda fai una dichiarazione così quello che conta conta gli assessore lei sa una versione io ne conosco assessore lei conosce una versione io ne conosco un'altra gli era stato detto a febbraio basta vedere le date in interrogazione ed è dato di scienza che in quelle date i documenti non siano presenti quindi come vede è abbastanza credibile quello che era stato detto era stato detto tu fai una dichiarazione a caso poi vediamo al massimo la rettifichiamo ecco chiedere a una persona di fare una dichiarazione sotto sanzione di legge a caso non è una risposta che io vorrei sentirmi dare se fossi una persona in stato di bisogno allora quando vede lei mi chiede sono partito da questo caso specifico perché il regolamento di per sé è qualcosa di apprezzabile come non come non non volersi porre il problema di chi è in stato di bisogno come non voler decidere come aiutare però vede la decisione poi si scontra con quelle che sono gli uomini che queste decisioni prendono in questo caso la parte politica scusate consiglieri se dovete chiacchierare per cortesia dovete uscire dall'aula perché non riusciamo a continuare non si riesce a sentire l'intervento lo sto dicendo al consigliere Daniello consigliere Daniello consigliera Daniello scusi non ho detto niente prego è una colpa di non so chi comunque voglio dire non possiamo interrompere il consigliere grazie grazie presidente quindi vede e quindi il regolamento è un regolamento utile però il regolamento utile nel momento in cui si vengono si predispongono degli strumenti in linea generale che valgano per tutti e che valgano che valgano per tutti e vengono date delle direttive chiare e precise da quella che è la parte politica ma queste direttive l'assessore non devono scontrarsi a mio modo di vedere lo ripeto chiedo scusa con una sorta di ritrosia verso chi su questo territorio è nato voglio toccare un esempio voglio riprendere un esempio che ha già toccato il consigliere De Bortoli ed era una delle domande che mi ero preparato immaginato di fare stasera perché pensavo di avere delle indicazioni sono venuto a chiedere anche adesso al banco una specificazione e questa è qualcosa che non trovo molto chiara nel regolamento invito l'amministrazione a rifletterci sopra se ci siano dei vincoli di risorse da destinare all'assistenza nel senso che mi spiego è chiaro che di fronte a situazioni di bisogno è un non senso prevedere dei limiti non è che posso dire i primi dieci che arrivano li aiuto l'undicesimo non lo aiuto perché io devo aiutare devo cercare di mettermi nella condizione di aiutare tutti gli undici che hanno bisogno però alla risposta dipende dipende anche dai capitoli di bilancio dipende da quello che è destinato a associare allora a quel punto qualche problema me lo pongo me lo pongo in che senso perché se io inizio a avere delle risorse che diventano risorse vincolate delle risorse date chiuse che non posso andare ad ampliare allora devo capire e devo prevedere che le domande possono assorbirmi e possono superare le risorse che ho a disposizione in quel caso come crede l'amministrazione di far fronte a questa ipotesi se l'amministrazione non mi dà se l'amministrazione se l'amministrazione non mi mette di fronte a una scelta non mi dà un criterio non si dà a priori un criterio per dire attenzione nella denegata ipotesi in cui quello che veniamo a stanziare non fosse sufficiente e ci dovessimo trovare in situazioni assolutamente di emergenza finanziaria di bilancio non riusciamo a farci fronte dobbiamo regolare dobbiamo decidere ma adesso non dobbiamo deciderlo dopo quando si avversa il caso perché se no dopo si sfocia nell'arbitrio e nella soggettività nella guerra tra poveri secondo me il regolamento dovrebbe dirci adesso cosa succede nell'ipotesi in cui il capitolo di bilancio non dovesse rivelarsi sufficiente a coprire domande devo dire io adesso se devo dare la precedenza alle famiglie con figli alle famiglie con un figlio con dieci devo dare io dei criteri magari riprendendoli da quelli che sono i criteri della normativa nazionale e io trovo lacunoso il regolamento in questo senso un regolamento che secondo me qui dovrebbe dire qualcosa perché io non posso dopo farlo a posteriori perché dopo a quel punto ripeto mi sforza nell'arbitrio perché tu hai preferito lui e non me e allora se poi ci vogliamo richiamare e dovete fare un criterio di selezione di disciplinare in qualche maniera a chi dare dei punteggi in ipotesi di risorse date di risorse contratte allora a quel punto e mi ricollego qui a quello che ha già detto il collega De Bortoli allora si che ci troviamo di fronte a un problema che diventa anche politico perché è stato fatto l'esempio delle case popolari dell'Ater spesso le graduatorie vengono fatte sulla base del criterio dell'Isee si chiede abbiamo secondo me un grosso problema in Italia perché noi abbiamo ci troviamo a dover gestire delle risorse che nella maggior parte dei casi sono risorse che provengono da cittadini italiani che nella maggior parte dei casi sono risorse che provengono da chi ha fatto la ricchezza di questi territori e che molto spesso invece vengono destinate a soggetti che su questi territori l'ha detto anche De Bortoli prima magari sono appena arrivati non hanno contribuito a creare quella ricchezza che adesso ci assorbono allora io invito l'amministrazione a fare una riflessione sto dicendo no vede vede Assessore che ha lei dei preconcetti io l'ho detto prima l'ho detto all'inizio del mio intervento proprio perché sapevo che siamo arrivati in un punto in cui qualcuno mi avrebbe detto vuoi discriminarli no si aiuta tutti bisogna aiutare tutti però bisogna mettere delle regole bisogna mettere dei criteri è chiaro che se io devo decidere chi aiutare Assessore perché l'ho detto prima ho detto o voi mi dite però me lo dite il regolamento che le risorse ci saranno sempre e che quindi non si porrà mai un problema ma allora mi state dicendo un'affermazione che dovrete anche garantire un domani però altrimenti dovete darvelo un regolamento dovete decidere voi come andare a fare una graduatoria perché quando i soldi non bastano quando i soldi non bastano le graduatorie vanno fatte inevitabilmente allora se dovete fare una graduatoria per quanto possa essere antipatico per quanto possa essere forse contrario allo spirito della norma della norma di quello che andiamo a votare io ritengo che la graduatoria debba tener conto la graduatoria ritengo voglio rispondere alla sua domanda assessore che non voglio discriminare però ritengo che la graduatoria che dovete fare il regolamento debba tenere conto di chi la ricchezza ha prodotto e debba soprattutto tenere conto di situazioni analoge perché vede noi come Stato siamo uno Stato fantastico e ci inventiamo le cose più assurde spesso per comodità e ci siamo anche preoccupati di chi su questo territorio ha deciso di venire a stanziarsi per mille motivi sia scappare da una carestia sia scappare da una guerra sia per una scelta di migrazione economica miglioramento della vita quello che vogliamo poi ci inventiamo anche il ricongiungimento familiare perché è giustissimo non è normale non è normale che qualcuno viva lontano uno è arrivato con la barchetta uno è arrivato seguendo i confini di terra uno è riuscito ad arrivare qua regolarmente è giusto che si porti dietro la moglie i due figli i tre figli e fin qua sarebbe giusto paragonare sarebbe giusto paragonare assessore situazioni di fatto una famiglia con due figli formata da cittadini italiani nostri concittadini con una famiglia di due figli con madre padre e due figli che provengono da un paese qualsiasi dell'Africa la cosa che trovo però meno corretto nel mio modo di vedere è poi andare ad ampliare e andare ad ampliare e dargli maggior reddito chiedo scusa maggior peso a livello ISEE perché io stato gli dico sai cosa ti dico è giusto che tu abbia vicino i tuoi familiari quindi ti faccio venire papà e mamma del genitore maschio papà e mamma del genitore femmina quindi abbiamo la famiglia proveniente migrante chiamiamola così così usiamo un termine caro a molti la famiglia migrante che si trova sul territorio dove c'è uno che magari lavora in fabbrica e collega di quello della famiglia italiana e versi i contributi per uno per sé però a carico del servizio sanitario a carico della collettività non c'è solo lui con la sua famiglia come la famiglia italiana però c'è anche quelli che lo Stato gli ha detto venite a portare a casa vede che si vanno a falsare i valori in gioco perché il cittadino italiano che è nato su questo territorio che ha la fortuna di avere i genitori qua suoi e della moglie ha un suo nucleo familiare hanno pagato tutti quanti le tasse hanno contribuito alla ricchezza a questo territorio ma deve vedersi superato nelle graduatorie da chi da chi ha una stessa condizione però per una scelta precisa di politica tramite il ricongiungimento ai familiari gli andiamo a creare un maggior valore un maggior peso ecco io credo spero di essere riuscito a far passare il mio concetto io sono preoccupato soprattutto da questo a parte essere poco contento della gestione di questa amministrazione sul sociale ma per un'esperienza di fatto che ho riportato l'ho voluto dire su molte guardi il caso assessore non ci siamo sentiti qualche volta per le esperienze che io su quel caso concreto specifico sulla questione del kebab finora io dalla mia amministrazione non ho avuto le risposte che speravo dal punto di vista dell'aiuto e del sociale mi auguro che possa ricredermi da qui alla fine della tornata amministrativa però è una cosa che mi preoccupa è quello che ho detto il non vedere previsto nel regolamento in ipotesi di risorse contratte voi non ci dite niente a riguardo allora a quel punto io mi preoccupo perché se le risorse non bastano la scelta su chi ricadrà su chi prenderà il suo posto chi sarà il suo posto in quel momento su chi sarà il posto di Mazzer che dovrà fare i salti mortali per trovare un capitolo di bilancio non lo so ritengo che sia molto lacunoso il nostro regolamento il regolamento che volete votare da questo punto di vista io nello scusarmi col presidente a cui ho mandato anche una mail però non sono convalescente quindi adesso abbandonano l'aula lascerò la dichiarazione di voto al collega Loperfido che la farà a nome del gruppo concluso grazie grazie consigliere non interviene non vedo nessun altro iscritto passiamo al secondo intervento prego nessun iscritto dichiaro chiusa la discussione chiedo all'amministrazione se vuole replicare prego allora intanto io voglio ringraziare il personale tecnico che mi ha aiutato a formulare questo regolamento che non non facile perché ha dovuto tener conto delle legge nuove ma ha apportato con grande maestria tutta l'esperienza che aveva accumulato in tanti anni di servizio per cui sono state apportate tutte le condizioni più frequenti e anche più eccezionali sono state cercate le motivazioni per poterle introdurre e poter dare delle risposte più adeguate possibile e penso che questo sia lo spirito vero di questo regolamento un regolamento che nasce da un indirizzo nazionale che è stato arricchito da tutta l'esperienza portata nel nostro territorio e di questo io sono convinto che abbiamo fatto un passo avanti molto importante il discorso fatto dal consigliere De Bortoli e dal consigliere Ribetti sono sui principi generali che di politica nazionale regionale e anche europea io capisco la loro difficoltà capisco anche che però questi argomenti devono essere indirizzati a un livello superiore del nostro noi sappiamo che se facciamo un regolamento che non sia in accordo con i principi europei nazionali e regionali potrebbe anche essere cassato come è stato come è successo anche non a noi in passato alla regione Friuli Venezia Giulia il regolamento che abbiamo fatto consigliere Ribetti a parte la posizione diversa che io e lei abbiamo sulla persona che abbiamo aiutato ma questo non c'entra non voglio tirarlo fuori però le dico l'osservazione sua è corretta nel senso che quella sul budget fino a quando ce lo siamo chiesti mille volte anche noi fino a quando ma non abbiamo fatto un regolamento presuntuoso noi pensiamo che questo sia un regolamento sperimentale iniziale che potrebbe essere anche perfettibile quando quando avremo i dati per poterlo verificare per poter dire abbiamo fatto bene dobbiamo puntualizzarlo dobbiamo correggerlo questo lo potremo sapere fra un anno faremo il primo bilancio e glielo potremo anche dire e quindi sotto questo aspetto accetto la sfida perché anche per noi è importante verificare se abbiamo colto nel segno se abbiamo fatto il centro al primo colpo è difficile far centro al primo colpo però noi ci speriamo perlomeno di andare intorno alla mus centrale per il resto io non ho nulla da dire passo la parola al presidente ah scusate per gli emendamenti li facciamo dopo presidente facciamo subito subito allora per quanto riguarda gli emendamenti l'emendamento della consigliere Piccin quello da aggiungere all'articolo 5,3 secondo periodo dopo le parole deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta vanno giunte le seguenti parole e al rimborso delle spese preventivamente sostenute dal comune dove la consigliere Piccin è scappata ma comunque questo viene accettato direttamente fatto proprio dalla giunta come l'amministrazione come vengono fatti propri naturalmente sono auto emendamenti i primi due sono auto emendamenti che vengono accolti dall'amministrazione il quarto emendamento è quello del consigliere del Ben sulla trasformazione della parola cancellare disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti comunali con ogni altra norma comunale in merito l'ultimo emendamento anche questo fatto proprio dall'amministrazione presentato dal consigliere Piccin in riferimento all'articolo 7 secondo capoverso in cui c'è scritto la percentuale di compartecipazione è massima 100% con la percentuale di compartecipazione dell'utente dell'utente è massima 100% quindi abbiamo corretto prego sono stati credo siano emendamenti presentati durante l'intervento si sono emendamenti che l'amministrazione ha fatto proprio qual è il problema l'ha presentato anche freschi quello presentato ha fatto l'osservazione noi riteniamo che l'osservazione sia corretta e abbiamo corretto la secondo capoverso dell'articolo 7 perché messo così com'è era un errore di scrittura da parte nostra e ringraziamo anche coloro che sono stati attenti e che hanno intravisto questa questo errore di scrittura quindi è per quello che non è un errore concettuale ma è un errore di scrittura è per quello che facciamo l'autoemendamento sì è quello è anche quello del consigliere del Ben è corretto nel senso che non c'era un regolamento precedente per cui l'abbiamo accettato come un emendamento correttivo della scrittura allora ricapitolando ci sono due emendamenti presentati per iscritto sì signora presentate sono quelli della allora i vostri due dell'amministrazione poi c'è quello della consigliera Piccin poi c'è un emendamento della consigliera Piccin che è l'emendamento terzo e poi ci sono altri due ma gli altri due emendamenti sono stati presentati con l'intervento non per iscritto non per iscritto e voi li fate vostri se va bene chiedo al segretario se può andare bene perché gli emendamenti dovrebbero essere tutti per iscritto lo mettiamo lo mettiamo verbale se vi va bene possiamo accettare allora gli emendamenti scusate gli emendamenti presentati dal consigliere del Ben e dal consigliere Freschi e da è un'altra sembrazione sono verbali però l'amministrazione dice che li fa propri e va a modificare l'ho dichiarato a voce e a verbale si va bene pertanto sono recepiti tutti gli emendamenti perfetto va bene grazie assessore bene dichiaro aperte le dichiarazioni di voto consigliere De Bortoli prego assessore lei non mi ha convinto capisco che noi abbiamo parlato come dice ma non abbiamo parlato solo di Europa di Italia della regione abbiamo parlato anche del comune perché i cinque punti integrativi che lei ha inteso porre alla norma ISEE nazionale le avete proposti voi come comune di Pordenone e io non vorrei domani trovarmi a Spilimbergo dove questi cinque punti che lei ha aggiunto a queste ISEE non ci sono è così ecco allora dipende anche da dove si nasce cioè allora Spilimbergo magari non approva i cinque punti che lei ha messo in integrazione ma quello che mi fa specie è che i cinque punti che lei ha messo non vanno a favore dei cittadini residenti e dei cittadini italiani allora quando lei mi dice regolamento applicabile l'assessore dice una falsità perché le sa bene più di me e glielo ha detto il tecnico prima che è a fianco che gran parte dell'accertamento ISEE non è applicabile se uno è nato magari in Slovenia è applicabile perché c'è una collaborazione a confine ma se uno è nato in Svizzera non è applicabile perché hanno leggi diverse e non le dicono cosa ha dunque non è applicabile questo è il problema che lei fa un regolamento discriminatorio che tra comune e comune è diverso tra stato e stato diverso dove uno è nato dunque non è applicabile e auspica a richiesta nostra se ci sono dei fondi dedicati a sopportare questi anni futuri dove avremo una grande fenomeno di migrazione e lei stesso ha detto non ci sono e allora come noi possiamo oggi darle atto di farle questa delibera quando sappiamo che domani per mille ragioni per scelte fatte a livello europeo lei si potrebbe trovare 10.000 persone che vengono qui e come le fa affrontare quelle 10.000 persone che arrivano qua senza nessun coordinamento a costo e discriminando coloro che sono qua da una vita che lavorano qua da una vita che sono i nostri cittadini che noi dobbiamo rispondere e quando parlo cittadini parlo non di italiani ma tutti coloro che fino ad oggi hanno scelto a tempi non sospetti di vivere in questo paese in questo comune e avere regolamenti applicabili a tutti nella stessa maniera e lei oggi non può affermare che questo regolamento che lei sta facendo sarà applicabile sarà applicabile nei comuni di Pordenone non sappiamo se domani sarà applicabile nell'Uti Doncello che ha 5-6 comuni ancora che delibereranno la stessa cosa e allora ci sarà una disparità tra Pordenone e San Quirino e questo non sarà possibile perché entra nell'ambito ma sarà possibile magari con un comune non nell'ambito capisce quello che le sto dicendo allora no allora lei doveva applicare l'ISEE come detto in campo nazionale e non fa nessuna integrazione che allora quella è legge nazionale e non è integrata e verrà applicata com'è era meglio così e mi deve dare l'altro di questo è per questo che io con l'ospicio del mio gruppo che nel futuro ci sarà una chiarificazione in campo regionale nazionale quello che lei vuole noi ci asterremo ma solamente per questo fatto altrimenti saremo costretti a votarle contro perché questo è un arbitrio che fa questa amministrazione comunale quindi che lo facciamo grazie consigliere nessun altro iscritto consigliere Loperfido prego grazie presidente non vi ruberò molto tempo però dopo l'intervento dopo l'intervento del collega Ribetti il quale ha correttamente evidenziato i dubbi e anche devo dire il collega De Bortoli cioè noi non possiamo pensare di agire come se fossimo separati dal resto del contesto cioè come se fossimo separati dal resto del contesto nel quale viviamo cioè abbiamo l'esempio dei profughi i quali vengono a Pordenone tramite il Tantam che arriva per gli sms probabilmente il messaggio del tenore guardate a Pordenone in modo o nell'altro si trova un posto e poi ci sono alcuni comuni che hanno un tasso di immigrazione più alto rispetto ad altri perché magari si è sviluppata la voce per cui in un determinato comune i servizi che vengono concessi che vengono erogati dal comune nei confronti delle persone di nazionalità straniera sono di come dire più facilmente accessibili rispetto ad altri comuni allora visto che noi dobbiamo iniziare ad operare veramente con criterio abbiamo risorse limitate forse dovremmo iniziare ad utilizzare dei criteri di definizione dell'accessibilità un po' più attenti per fare in modo che si eviti quanto anche il collega De Bortoli dice ovvero essere più restrittivi qua a Pordenone nei confronti dei nostri stessi residenti e magari la stessa cosa non avviene nei comuni limitrofi ecco allora che ci troveremo a risorse limitate a dare magari più servizi a chi meno magari ha contribuito a creare anche quella che è una certa ricchezza del territorio perché a fin dei conti dobbiamo anche essere riconoscenti nei confronti di chi sul nostro territorio ha investito tante risorse tanto nel proprio tempo ha scelto di vivere a Pordenone anche se magari paga più tasse allora a un certo punto dice fin dei conti una volta che è finito di contribuire alla ricchezza della tua città comunque ti veniamo anche incontro non che deve essere cornuto e maziato fino alla fine dei suoi giorni è questo che si vuole anche concedere a nostri concittadini io faccio l'esempio parlando col collega Cabibo lui dice io alla fine sono andato ad abitare a Pordenone è meglio costa meno io ho scelto di abitare a Pordenone perché mi piaceva l'idea però di continuare ad abitare nella mia città però sì sì però questo ha a che fare con quello che si diceva anche con le politiche della città cioè quando si parla delle politiche abitative si parla delle politiche per fare in modo che la città sia appetibile anche questo vuol dire cioè fin dei conti facciamo in modo che i nostri cittadini rimangano a Pordenone ad abitare facciamo in modo che possano contribuire alla ricchezza della città ma facciamo anche in modo che poi tutte queste cose vengano ritornate una volta che finisce la capacità contributiva ecco allora i dubbi che abbiamo sulle modalità che vengono definite per quanto riguarda l'accesso a questi servizi erogati dal comune ovviamente tanti vincoli dipendono dalla legislazione nazionale non è che possiamo andare a controllare in Eritrea ma andiamo non so l'assessore Romor che è abituato a viaggiare in giro per il mondo magari combina a fare il giro delle varie nazioni a controllare poi però appunto sicuramente non ha difficoltà quello che ha il comune di definire quella che è l'effettiva ricchezza da parte del richiedente però di fronte a un mondo che facilmente può prevedere persone che si spostano da una parte all'altra informazioni che possono passare da una parte all'altra con molta rapidità dicendo guardate che a Pordenone ci sono porte più aperte rispetto che ad altri comuni ecco allora che chiediamo di fare particolarmente attenzione per tutelare chi ha contribuito per lungo tempo alla ricchezza del comune di Pordenone ecco che annuncio quindi il voto di assenzione richiedendo appunto che maggiore attenzione vengono fatti i criteri di accesso al servizio erogato dal comune grazie grazie consigliere consigliere Franchin prego grazie signor presidente la mia dichiarazione di voto che la dichiarazione di voto del gruppo che faccio parte si velocissimamente si sviluppa sui tre livelli il primo ringraziamento sincero penso ai tecnici perché alla dirigente tecnici perché di fatto ha messo vicino una valutazione prettamente come si può dire amministrativa a una valutazione invece fortemente umana rispetto al problema della gestione di chi non ha l'autosufficienza e solo chi ha contatto con questa situazione può capire l'importanza del secondo aspetto quindi un ringraziamento da parte nostra per questa sensibilità la seconda è perché di fatto il problema dell'immigrazione è un problema che magari dovremmo affrontare ma non è il problema dell'oggi per questo tipo di persone perché questo tipo di persone è fondamentalmente in riferimento alle persone che noi abbiamo sempre conosciuto che sono vissute con noi quindi in questo momento il problema riguarda questa fetta di persone ma il terzo punto che mi sembra il più importante è perché si tenta almeno attraverso questo regolamento di esprimere una visione futura di quello che sarà il welfare e c'è un rapporto chiaro e con regole precise tra chi offre un servizio cioè la comunità e chi lo riceve cioè l'utenza io penso che questa sia l'unica possibilità che abbiamo per mantenere in piedi un welfare o un servizio sociale pubblico il più possibile gratuito e il più possibile rispondente ai bisogni della comunità e cioè questo terzo punto io lo ritengo fondamentale la chiarezza di rapporto la dottoressa la signora più volte ha espresso questo concetto durante la sua esposizione una chiarezza di io ti do un servizio tu me lo devi pagare per quello che puoi ma se non puoi io te lo do lo stesso e questo a me sembra la base di quello che è una gestione come noi la possiamo interpretare per questa componente che culturalmente esprime questa amministrazione grazie quindi il nostro voto è favorevole chiaramente grazie consigliere consigliere buonanza grazie grazie presidente anche io volevo unirmi ai ringraziamenti che già ha espresso Frank King e De Bortoli innanzitutto ai funzionari che hanno analizzato l'attuazione di questo nuovo ISEE delle ricadute a livello del quotidiano vivere degli impegni che hanno gli assistenti sociali nell'analizzare le famiglie volevo ringraziare anche la giunta perché tutto sommato bisogna essere onesti l'intera giunta e l'intera maggioranza continua a tenere come principale obiettivo la tenuta del sociale quindi il nostro bilancio sul tema sociale finora non è mai stato toccato ha bisogno sicuramente di essere rivisto e riprogettato però bisogna essere onesti e il capitolo generale è sempre stato mantenuto ai stessi standard mentre altri assessorati sappiamo che sono stati tagliati io voglio portare solo una piccolissima riflessione sull'ISE perché è doveroso in un anno di applicazione dati del ministero del lavoro dicono che ci sono degli elementi assolutamente positivi il primo è che finalmente possiamo mettere in collegamento gli archivi dell'INPS e dell'agenzia delle entrate che abbiamo già detto cioè i dati sono certificati anche da questi due enti il 47% degli italiani con il nuovo ISE è più favorevole agli accessi dei servizi il 16% non gli è cambiato nulla rispetto alla precedente normativa e quindi bisogna essere onesti e dire che l'ISE meno favorevoli sono dipesi dai valori patrimoniali come proprio questo regolamento va a toccare cioè dopo un anno di osservazione si osserva che ad esempio il patrimonio mobiliare nullo è passato dal 76% al 20% anche perché è stato annunciato i controlli perché ci sono stati i vari archivi che si mettono in collegamento quindi i controlli ci sono da parte del governo e anche delle agenzie e questo porta sicuramente a migliorare a capire bene chi è veramente necessità di sostegno inoltre per i nuclei delle persone con disabilità le nuove regole hanno portato l'isee a zero dal 9% al 20% quindi ritengo che il regolamento presentato è un atto dovuto anche per tutte le categorie accennate appunto dalla signora Gemma Romano anticipo la dichiarazione dico appunto la dichiarazione di voto come in questo momento e dico che è confermata visto la bontà del regolamento è confermata come un voto favorevole da parte di tutto il partito democratico grazie grazie consigliere consigliere freschi prego grazie presidente solo per confermare il nostro voto positivo a questa delibera e ringraziare chi ci ha lavorato perché questo regolamento in questo regolamento traspare chiaramente una lunga esperienza traspare una lunga storia della città e una lunga esperienza nello specifico per cui io non tocco altri argomenti perché sono già stati sviscerati mi è piaciuto anche il fatto che in terza commissione sono state sollevate alcune obiezioni e sono state fatte proprie dall'amministrazione per cui il lavoro di commissione è servito anche a sottolineare alcuni passaggi per cui il nostro voto è positivo grazie grazie consigliere freschi nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 46 approvazione del regolamento per il contributo per il pagamento di rette e di servizi residenziali a ciclo continuo residenziali a carattere temporaneo e semi residenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale così come emendata dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 38 votanti 38 maggioranza 20 favorevoli 24 contrari nessuno astenuti 14 la deliberazione è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 38 votanti 37 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari nessuno astenuti 13 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla deliberazione numero 42 l'eseguibilità è più alta perché la prima maggioranza è la maggioranza dei presenti ovviamente con il numero regalo la seconda è la maggioranza degli assegnati 21 non so adesso ha capito l'immediata acquisibilità deve essere la maggioranza degli assegnati maggiore sì consigliere scusi consigliere consigliere lo perfido la delibera viene approvata con la maggioranza dei votanti e pertanto siamo 22 bastano 12 voti ed approvati per 22 il 21 è il numero legale 22 possiamo operare la maggioranza di quelli che votano mentre la immediata eseguibilità deve essere la maggioranza degli assegnati perciò siamo 41 21 voti sempre allora passiamo alla deliberazione numero 42 proposta di deliberazione di iniziativa consigliare per l'approvazione scusate per l'approvazione del regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani do la parola al consigliere se la mia ti dà la parola a lei prima prego consigliere consigliere salvador sì infatti volevo infatti no infatti infatti no no ma anch'io sono contento però infatti secondo me avrebbe dovuto però forse era l'assessore di riferimento dovermi dire il rimbalzo della parola però se la vuoi la prendo no 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 un attimo no no va benissimo qua va benissimo qua scusi lei deve presentare la deliberazione e poi l'amministrazione va benissimo qua tanto ho poco da dire no ruberò pochi minuti quelli che mi sono concessi un po' perché l'argomento è stato più volte masticato sia all'interno della commissione sia nei dibattiti poi anche nei giornali finalmente si arriva alla discussione di questa proposta che è una proposta di consiglio si sente metto così come volete voi no si sente così vai vai sì grazie Dicevo appunto che è stato un argomento abbastanza masticato già sia in termini di commissione, sia per quanto riguarda poi il dibattito che è avvenuto sui giornali, anche a volte contratti di polemiche, però non legati tanto all'argomento stesso ma ad altri, poi magari lo specificherò. Sono contento perché poi si arriva finalmente al dibattito di questa proposta che è di tipo consigliare. È stata proposta dalle tre forze in questo momento in maggioranza, quindi dalla lista Il Fiume, lista Civica, Vio Pordenone e dal Partito Democratico. In realtà fu condivisa anche con gran parte delle forze all'opposizione. Credo che poi molto banalmente la raccolta delle firme non fu fatta per questione di tempo e quindi si decise di procedere semplicemente con la condivisione delle tre forze in maggioranza. Però è vero che come proposta è stata anche sottoposta a un processo di partecipativo, ovvero se non ricordo male il segretario fu messa a disposizione della cittadinanza sul paragrafo del sito Pordenone più facile che è la schermata che è stata utilizzata anche per il metodo partecipativo legato al piano regolatore. Dentro a questo modello partecipativo chiunque poteva fare delle osservazioni, dei suggerimenti, integrazioni o tagli o qualsiasi forma di consiglio. Si erano messi a disposizione per accogliere le osservazioni di chi avrebbe voluto farle. Se non ricordo male eravate come assessori Martina Toffolo e Flavio Moro, c'era il presidente del consiglio Nisco Bernardi, appunto a garanzia del fatto che questa fosse una proposta il più condivisa possibile del consiglio comunale. E poi ringrazio anche il consigliere Emanuele Loperfido e il consigliere Giuseppe Pedicini che però qua non vedo. Ho voluto appunto che fosse il più possibile e vorrei che fosse anche poi nella discussione e nella votazione fosse il più possibile anche un elemento di condivisione del consiglio comunale. Perché credo che non appartenga a nessuna delle forze politiche, in realtà appartiene a tutte le forze politiche perché parla di una cultura di governo che a mio avviso dovrebbe essere quella che dovremmo porre dal fronte nei prossimi anni. Perché credo che sia anche un elemento di innovazione per come noi ci rapportiamo come amministratori ma anche noi come cittadini ci rapportiamo nei confronti della cosa pubblica e dell'amministrazione. Quindi io trovo che sia un elemento qualificante per l'intero consiglio comunale e come tale io vorrei che fosse del consiglio comunale. Allora se dovessi spiegare brevemente cos'è un regolamento dei beni comuni, è semplicemente un dispositivo, uno strumento che in qualche maniera cerca di rendere tutte quelle iniziative popolari che vogliono prendere cura di parte della città, nella maniera più flessibile e trasparente. Cercando di togliere qualsiasi tipo di ostacolo amministrativo burocratico in maniera tale che i cittadini, qualsiasi essi siano singoli ma anche in forma associata, possono proporre alle amministrazioni per curare parti di questi beni comuni. Allora si potrebbe esaurire così, chiaramente poi uno si va a leggere il regolamento e lo si può declinare, però a me farebbe piacere in questo mio breve, spero, elencazione, mettere sotto riflettore alcuni principi che credo che siano a me cari ma credo che dovrebbero esserlo per tutti coloro che hanno un ruolo come il mio, ovvero di consiglieri comunali. Il primo è quello della sussidiarietà al quale questo regolamento si ispira, ovvero quello che poi è enunciato nell'articolo 118 della Costituzione, leggo, traduco, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base della sussidiarietà. Secondo me dentro a questo principio è l'articolo 118 che se non sbaglio credo che sia l'unico in Europa in qualsiasi Costituzione, non c'è, solo in quella italiana è presente, ci sia una piccolissima rivoluzione perché quando se qualcuno si prende la briga di andare a interpretare i vari articoli ce n'è uno, il numero 3, che in qualche maniera pone l'ente pubblico, l'istituzione, come colei che in qualche maniera deve rimuovere gli ostacoli per il cittadino per favorire l'interesse pubblico. Qui si ribalta completamente la visione, è l'autonoma iniziativa del cittadino che sceglie il tipo di interesse pubblico e generale e l'amministrazione, l'ente pubblico, l'istituzione deve favorire l'iniziativa autonoma del cittadino. E' la prospettiva che cambia completamente, non è più legata, non è più l'ente, o soltanto l'ente che sceglie cos'è l'interesse pubblico, l'interesse generale e anche il cittadino. E in qualche maniera poi l'ente e l'istituzione deve rimuovere questo tipo di passaggio. Ora, deve favorire questo tipo di passaggio. Ora, questo secondo me racchiude all'interno di un piccolo dispositivo, un piccolo strumento, come è il regolamento, che è una cosa, se volete, anche banale in un certo senso, ma pone culturalmente un'iniziativa e una cultura di governo e di essere cittadini completamente diversa e, a mio avviso, anche rivoluzionaria. Alla sussidiarietà è legata un altro principio che vorrei mettere sotto il riflettore, che è quello della responsabilità. Molto spesso, la responsabilità in che senso? Perché qualcuno potrebbe anche, come dire, fraintendere la parola responsabilità, il sostantivo della responsabilità. In realtà, la responsabilità non è dei cittadini, perché l'amministrazione dice sei responsabile di una cosa che io ti do il permesso di gestire al posto dell'istituzione. No, è la responsabilità che il cittadino ha di occuparsi della cosa pubblica. E' quello l'elemento di responsabilità che è strettamente legato alla sussidiarietà, se il cittadino può porre delle autonome iniziative, è responsabile proprio perché produce delle autonome iniziative. In questo sta il senso di responsabilità, che è un principio che è fortemente legato e fortemente legato alla sussidiarietà. E credo, e credo, e per come la vedo io insieme alla trasparenza, è uno degli elementi, è una delle ricette che in qualche maniera può risolvere quella lontananza che è quella distanza che a me pare ci sia ultimamente tra politica, cosa pubblica e cittadinanza. Se noi facciamo in modo che le persone si occupino della cosa pubblica in maniera condivisa, ed è il terzo elemento che mi piacerebbe mettere sotto il riflettore, cioè l'amministrazione condivisa insieme, non è sostitutiva a, è condivisa con il cittadino, condivide con l'amministrazione la possibilità di amministrare. L'istituzione ne è garante, perché questo è il ruolo dell'istituzione, di essere garante. Il cittadino opera in una forma di sussidiarietà circolare, propone, l'ente favorisce e ritorna gli strumenti e le risorse perché il cittadino si occupa dello stesso progetto che ha pensato e ideato per la propria comunità. Il terzo elemento, il quarto elemento, perché abbiamo già parlato di amministrazione condivisa, e poi l'amministrazione condivisa rientra in quella cultura che si sta avanzando negli ultimi anni, che fa parte anche in un contesto più generale, anche di sharing economy, ovvero quando adesso non è più importante il possesso del bene, ma in quanto l'utilizzo, l'uso condiviso. Chi ha un po' di confidenza con questi temi e sa che le forme di economia più moderne sono quelle legate allo sharing, alla condivisione, ovvero non più il bene privato, produco bene privato, ma produco l'utilizzo di un bene che è condiviso. Uber si basa, il trasporto pseudo pubblico si basa su questo tipo di principio. E la condivisione è un elemento di innovazione, lo deve essere anche in forma amministrativa. Pertanto anche l'utilizzo e la gestione del bene pubblico, anzi del bene comune, che a mio avviso è una cosa un po' diversa dal bene pubblico e dal bene privato, va condivisa. Bene comune, che era il quarto elemento insieme a sussiderità, responsabilità e amministrazione condivisa, era il quarto elemento che volevo evidenziare. Il bene comune è qualcosa forse di diverso, perché? Perché è quell'elemento, in qualche maniera, che a differenza del bene pubblico, a mio avviso, del bene privato, la comunità si identifica. Allora, se la comunità si identifica su un bene pubblico, su un bene comune, e quello rappresenta se stessa e rappresenta anche generazione di comunità, io credo che la stessa comunità se ne deve prendere atto, deve prendersela in capo e deve gestirla. Deve gestirla, ripeto, in amministrazione condivisa con la pubblica amministrazione. Tra l'altro l'amministrazione condivisa la troviamo anche, prima vedevo Conficoni anche là, quando si parla anche di raccolta e di riciclo dei rifiuti. Cioè la raccolta differenziata si basa su che cosa? Sul fatto che la gente prende e di sua sponte, come dire, segue a volte, però è quella lì, una forma di amministrazione condivisa. Non è che ti puoi mettere a controllare 52.000 abitanti di quello che fanno, è chiaro che c'è un elemento di fiducia ed è quello sulla quale. Quello è già un tipo di amministrazione condivisa in realtà, anche se non se ne parla in questo senso. Ma fa bene Conficoni quando elogia i risultati ottenuti, perché tutto sommato, lo devo dire, lo fa anche per risaltare l'aspetto civico dei cittadini, in questo senso, perché altrimenti senza quel tipo di cultura non puoi raggiungere determinati tipi di obiettivi, è inutile, chiaramente. Oggi sì, è vero. E non ha fatto ancora foto. Tra l'altro, qualcuno potrebbe, a proposito, mi è avuto anche in mente, qualcuno poi, l'importanza dei beni comuni, rientrano anche in un elemento di crisi economica. Ovvero, se la crisi economica è legata alla incapacità di produrre beni privati, cos'è che, su cosa noi possiamo in qualche maniera arricchirsi? Attraverso la condivisione dei beni comuni e l'arricchimento dei beni comuni che ci potrà, in qualche maniera, in parte, salvare anche dal tipo di crisi che abbiamo di fronte. Perché, chiaramente, la crisi è legata all'incapacità più di produrre beni privati. E, pertanto, è chiaramente l'unica forma di arricchimento e la valorizzazione dei beni comuni. Il quinto, il sesto elemento, era invece l'elemento scuole. Allora, io sono particolarmente felice del fatto che l'assessore Rubino insieme anche all'assessore Flavio Mora abbiano posto come, come dire, late motive del Consiglio Comune dei Ragazzi il regolamento dei beni comuni o comunque la forma condivisa da parte dei cittadini di parte della città. Ecco, questo credo che sia il stesso elemento che questo aspetto, di questo strumento, nasconde e vorrebbe svelare ovvero la capacità di creare cittadinanza, di creare classe dirigente che parte solo, esclusivamente, da questa capacità di prendersi cura di ciò che è anche nostro. E quindi il fatto che il sesto elemento, le scuole siano l'elemento baricentrico di questo regolamento. Vorrei che, perché chiaramente la cosa più importante non è tanto l'approvazione di questo regolamento ma è come poi si innescherà i principi, i progetti che ne nasceranno e chiaramente anche la capacità di questa amministrazione di poi portare questo regolamento all'interno delle scuole e di farlo veicolare all'interno della cittadinanza in maniera tale che poi davvero scaturiscano delle forme di partecipazione perché approvarlo e basta è semplicemente un atto burocratico che conta veramente poco. È tutto l'aspetto che l'amministrazione e credo anche un Consiglio Comunale possa portare all'interno della stessa città. Quindi per me il fulcro di questo riflesso che deve avere questo strumento che è il regolamento dei beni comuni devono essere le scuole. Lo specifico perché, e lo dico, vorrei che in qualche maniera se stasera ci sarà un dibattito come io spero e ci sarà poi una votazione come io spero, positiva io vorrei anche che fosse il dibattito completamente edulcorato dalla polemica legata alle cicloscrizioni. Lo dico senza mezzi termini. Allora, non c'entra assolutamente nulla o meglio, c'entra come potrebbe centrare qualsiasi cosa perché riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria, a questo tipo di strumento. Lo rientrano le cicloscrizioni ma come le scuole, il volontariato, l'associazionismo. Io non vorrei che stasera rientri nella polemica perché altrimenti sviliremo uno strumento che dietro porta con sé una cultura che è qualificante per qualsiasi forza politica di opposizione di maggioranza che lo voglia in qualche maniera adottare. Quindi io chiedo al Consiglio Comunale di edulcorare, ripeto, la polemica delle cicloscrizioni da questo strumento. Non c'entra assolutamente nulla. Nel senso, c'entra come c'entrano mille altre cose ma non è propedeutico a perché altrimenti se fossero state chiuse le cicloscrizioni nel 2010, 2008, 2009 che fosse e questo fosse propedeutico alle cicloscrizioni è evidente che cosa qualcuno ti dovrebbe dire allora il regolamento non l'avremmo mai scritto. No, il regolamento c'è a prescindere da questo. E quindi io chiedo veramente al Consiglio che il dibattito sia edulcorato è scevro da ogni polemica legata al discorso delle cicloscrizioni. Questo vale per i cittadini e vale per qualsiasi cittadino legato o in maniera singola o associata. Infine, chiudo, siccome io credo molto a questo tipo di cultura governativa e cultura partecipativa, io credo che in qualche maniera, se noi, visto che saremmo forse la prima capoluogo di provincia nel nord-est che ha adottato questo tipo di strumento, credo che tutto sommato se questa città è diventata quello che è diventata molto spesso anche modello amministrativo di governo negli anni passati per alcune scelte, alcuni obiettivi, alcuni percorsi che ha voluto intraprendere, io credo che questo potrebbe essere uno di quei percorsi che ci potrebbe permettere di tornare a essere un modello, un modello per denone, quanto meno per il territorio. E credo che sia uno degli argomenti sui quali noi dovremmo investire le nostre regie. Io guardo in questo, mi scuso con l'opposizione, ma io guardo la maggioranza, questo è uno, questo tema, la cultura partecipativa, è quell'elemento che ci può distinguere e far tornare a essere quel modello per denone invidiato del resto del territorio. Grazie. Grazie, consigliere Salvador. Prego, Assessore Moro. Perché Moro è consigliare? Prego. È consigliare? Sì, ma l'amministrazione può intervenire, mi ha chiesto di poter intervenire. Puoi anche dirgli no? Puoi anche dirgli no? Io no. Io no. Sul funzionamento dell'amministrazione, mi sembra che l'amministrazione abbia... C'è un ordine iscritto? Si rispetta... No, beh, l'ordine... No, no, l'ordine... Ma dovete chiedere chiarimenti? No, è un'osservazione. No, visto che mi tocca parlare, perché tocca a me... Ma forse se l'amministrazione... No, no, no. No, noi abbiamo degli obblighi di rispettare le regole. E come Consiglio Comunale abbiamo un regolamento che vale a prescindere. L'articolo 19, quindi qua richiamo il regolamento, dice tutti i consigli circoscrizionali direttamente interessati devono essere obbligatoriamente, preventivamente consultati in ordine A. E comincia con provvedimenti normativi riguardanti la gestione dei beni, dei servizi esistenti nella circoscrizione. Quindi, per non il fatto di circoscrizioni, questi beni sono dentro le circoscrizioni. Dico questo per polemica assolutamente no. Ma dico solo che abbiamo delle regole cogenti che sono regole che ci siamo dati. Tutti quanti sappiamo che Ken ne abbia detto molto bene Salvador che questa proposta l'allegato è l'allegato alla proposta giuntale del febbraio 2014 di Bologna approvata dal Consiglio Comunale il 14 maggio 2014 al numero 142 come si trova sui siti. L'articolato è praticamente identico e tranne 50 parole. Allora, detto questo, cosa dice Bologna che è antessignano su questo? Che su quel regolamento hanno avuto il parere dei consigli circoscrizionali e che questo parere è stato utile per migliorare il regolamento. Questa è anche la funzione della partecipazione. Detto questo, ma in modo molto fermo, noi abbiamo un regolamento che dobbiamo rispettare e con il regolamento il Presidente deve far rispettare. E questo articolo 19 che parla della obbligatoriamente è preventivamente se non osservato non consente legittimamente di continuare la discussione su questo argomento. Veda lei. Ripeto, ed è un richiamo forte, la prosecuzione di questa discussione è in contrasto con l'articolo 19 del regolamento perché non vi è il parere delle commissioni che devono essere preventivamente e obbligatoriamente consultate. siccome questa è una questione di legittimità chiedo al segretario che ITER che ITER ha seguito questo documento perché io non sono la corrente dell'ITER si è passato in commissione beh insomma bisogna rispondere al consigliere del bene non è passata la commissione prego questo è un regolamento è un regolamento che definisce i rapporti che definisce i rapporti e le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la rigenerazione di beni comuni quindi con beni ancora da individuare no 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 per cui no sì grazie a tutti 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 io vi rilego la previsione dell'articolo 19 del regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni tutti i consigli circoscrizionali direttamente interessati devono essere obbligatoriamente e preventivamente consultati in ordine a provvedimenti normativi riguardanti la gestione dei beni e dei servizi esistenti nella circoscrizione stiamo parlando di un sistema di regolazione dei rapporti diversi fra cittadini comitati e pubblica amministrazione allora dopo di che io vi dico un attimo sentiamo la parola al consiglio dei beni dei beni comuni in questo caso non della circoscrizione definizione di beni comuni urbani i beni materiali immateriali digitali che i cittadini o l'amministrazione ritengano essere attuazione dell'articolo 118 ultimo come dell'attuazione cioè il fantastico principio di sussidiarietà orizzontale che dà benessere e parità sociale ai sensi dell'articolo 3 primo comma della costituzione rodotà docet interribile diritto punto allora il problema è questo come si inserisce il rispetto del regolamento della circoscrizione su un iter normativo che stiamo svolgendo in questo momento siccome prevale la natura sostanziale dell'articolo 19 che in ogni caso è compresa all'interno della delibera che stiamo facendo è evidente che ci sarebbe un bonus perché noi violiamo il regolamento non della circoscrizione in quanto tale ma il regolamento del consiglio e dello svolgimento normale di una delibera questo è il concetto perché lei comunque va a incidere su un bene che in qualche modo starebbe all'interno delle circoscrizioni no ma è chiaro ma è chiaro ma tu a maggior ragione devi prevederlo ti dirò anche di più secondo me il tuo regolamento di cui vuoi portare vuoi approvare potrebbe anche starci potrebbe anche starci ma comporta una modifica anche dello statuto comporta una modifica dello statuto segretario regolamento di beni comuni comporta una modifica dello statuto perché voi scrivete una norma in bianco e domani mattina teoricamente salvo i beni patrimoniali i beni demaniali i beni indisponibili o i beni soggetti a un regime tale per cui non può essere alienato in ogni caso l'intesa comune in virtù dell'articolo cos'è che leggevo prima dell'articolo 2 esporrebbe qualsiasi bene potenzialmente alla nozione di bene comune che è un terzio gamus rispetto al quale non esiste una normativa di riferimento se voi volete fare una cosa contro legge fateva noi andiamo via dal consiglio siccome con maggiore attenzione potreste avere la nostra attenzione grazie a tutti 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 scusate silenzio do la parola scusate do la parola al segretario allora visto che cioè su questo atto Comunque ho dato un parere favorevole di legittimità e spiego perché. Dopodiché, anche il segretario può sbagliare, ma quando mi sono posto il tema se era suscettibile o meno obbligatorio porlo all'attenzione delle circoscrizioni, ho esaminato la tipologia di atto e le prassi che aveva questo comune. Cioè qui siamo andati in circoscrizione ogni qual volta andavamo a disciplinare puntualmente o meno comunque un bene che insisteva in quella circoscrizione o a alienare, dipende dalla tipologia. Se andavamo a disciplinare l'impianto sportivo D, ovviamente andavamo in circoscrizione. Questo è un regolamento che tocca i beni comuni, tocca i beni in generale, ma complessivamente è un regolamento di rapporti che cambia il rapporto dai tipici strumenti che sono la concessione, la locazione, il comodato. Cioè affronta un modo diverso di utilizzare i beni. No, no, ma insomma anche un po' di più. E quindi io dico, se posso dare... Allora, dal mio punto di vista io confermo quel parere di legittimità, perché il regolamento di circoscrizione dice beni specifici puntuali. E qui sul regolamento non ce ne sono. E quindi non ce ne sono. Dopodiché, sotto il profilo della consultazione, della partecipazione, il Consiglio Comunale ovviamente è libero di fare le più ampie consultazioni. Su questo non vi è dubbio. No, quindi... Grazie. Bene, allora do la... Scusate, il segretario ha chiarito. Do la parola adesso all'assessore Moro. Prego. Scusate, il segretario ha chiarito. La formalizzerà, la formalizzerà dopo in discussione. Silenzio. Scusate, ha già formalizzato a verbale le motivazioni per le quali ritiene che l'atto non sia legittimo. Questo è già stato verbalizzato. Il segretario ha risposto alle contestazioni del consigliere del BEI. Mi sembra che sia stato fatto tutto. Adesso, può rincarare? Prego, Assessore Moro. Prego. No, no, è già stata risolta dal segretario. Fine. È stata risolta dal segretario, perciò, signori, lo impugnerete il regolamento se verrà approvato. Assessore Moro, mi faccia la cortesia di dirci quello che deve dirci e che poi proseguiamo. Accettate il dibattito. Prego. Posso? Grazie. Ma io, vi dico la verità, se la questione è politica e non tecnica, credo che noi abbiamo la coscienza pulita, nel senso che è stata data ampia e puntuale informazione e diffusione del regolamento, perché è stato pubblicato sul sito con lo scopo proprio di poterlo integrare e modificare. Era un'operazione partecipata. Per cui, da questo punto di vista, politicamente, diciamo, credo che ci siamo mossi correttamente e ne stiamo parlando da parecchi mesi. E ci sono stati anche, tra l'altro, dei contributi da parte dei cittadini rispetto al regolamento. Posso parlare o siete voi padroni di casa? Grazie, grazie. Dopodiché, io sto parlando politicamente, tecnicamente, il segretario ha già risposto. Per quanto riguarda i contenuti del regolamento, è vero, consigliere del Ben, è quasi copia e incolla del regolamento di Bologna. Tenga conto che il Comune di Bologna ha lavorato due anni in un processo partecipato che, al di là del coinvolgimento dei centri civici presenti a Bologna, perché non mi risolta che a Bologna ci siano delle circoscrizioni vere e proprie, c'è stato un coinvolgimento di tutta la città, di tutta la città per un paio d'anni, tra l'altro supportati da una fondazione, da un laboratorio che ha elaborato questo regolamento. È un regolamento che è stato adottato da, ad oggi, circa una sessantina di comuni e altri tanti, poco più, lo stanno adottando. E uno di questi è il Comune di Pordenone. Ed è un regolamento che ha un valore al di là, ovviamente, della collocazione politica, anche perché, come ha detto giustamente il consigliere Salvador, dovrebbe essere patrimonio di tutto il Consiglio Comunale, non solo di una parte. Ed è questo l'obiettivo che noi ci siamo prefissati, ed è questo il motivo per cui è una proposta di iniziativa consigliare e non è della Giunta. L'avremmo potuto presentare come Giunta, abbiamo preferito, proprio per scelta politica, che questa sia una proposta che fa il Consiglio Comunale. Poi il risultato finale lo vedremo al voto, insomma. Quello che ci premia, come amministrazione, è il sottoscritto in particolare che ha contribuito alla redazione e all'integrazione rispetto al regolamento di Bologna, che tra l'altro, proprio per volontà del Comune di Bologna, è un regolamento open source, cioè aperto all'utilizzo da parte degli altri comuni. L'unica cosa che chiede il Comune di Bologna è che quando viene approvato sia comunicato al Comune di Bologna, che è stato adottato anche dal Comune di Pordenone, in questo caso. Si basa su alcuni principi base questo regolamento. I principi base sono, partendo dal presupposto che alla data attuale non esiste assolutamente alcuna normativa nazionale organica sulla sussidiarietà e sull'articolo 118 della Costituzione, si parte dal presupposto che la potestà regolamentare dei comuni, per quanto riguarda le competenze dei comuni, può essere esplicitata. E in questo caso l'amministrazione comunale del Comune di Pordenone e i consiglieri comunali hanno inteso proporre questo regolamento di collaborazione tra cittadini ed amministrazione. I principi politica strutturale permanente. Questo regolamento intende in sostanza definire una cornice normativa che ponga la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi al centro di una politica strutturale permanente e trasversale per la cura della città. Noi oggi siamo in un ambito in cui già oggi esistono delle iniziative di collaborazione a vario titolo, ma non esiste una norma e un regolamento che strutturi politicamente e anche tecnicamente questa modalità di rapportarsi con la cittadinanza. Democraticità e pariteticità. Cosa viene contestato spesso alle pubbliche amministrazioni? Di essere sullo scranno, per cui il cittadino è suddito. Il regolamento intende far sì che i rapporti tra cittadini attivi e la pubblica amministrazione si basi su un principio democratico in cui entrambi i soggetti siano posti sullo stesso piano. Per cui il cittadino non si deve sentire suddito dall'amministrazione, ma si deve sentire sullo stesso piano. Sostenibilità. Si basa sul principio della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Per cui tutte le iniziative che saranno contenute all'interno del patto di collaborazione, che è lo strumento principe all'interno del regolamento, si devono basare su questo principio. Trasparenza e pubblicità. L'amministrazione dovrà incentivare e coordinare le azioni dei cittadini attivi e dovrà instaurare meccanismi di trasparenza e pubblicità delle azioni dei cittadini. La proporzionalità. Gli adempimenti amministrativi che oggi vengono richiesti ai cittadini, anche per fare una cosa banalissima, sono enormi, sono uguali a quelli che sono necessari per fare iniziative di grosso valore. Gli adempimenti amministrativi, il regolamento stabilisce, devono essere proporzionali, per cui devono essere commisurati al patto di collaborazione e al tipo di intervento da svolgere. L'informalità. L'impegno dell'amministrazione sarà quello di assicurare la massima flessibilità e semplicità nella relazione con i cittadini attivi, riducendo le reciproche formalità solo laddove siano previste dalla legge. Poi ci sono alcuni punti che volevo evidenziare rispetto al regolamento. L'articolo 4 definisce i cittadini attivi, le definisce in maniera molto chiara e in buona sostanza dice che i patti per la cura e rigenerazione dei beni comuni sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriori legittimazioni, per cui il singolo cittadino, gruppi di cittadino anche non formalmente costituito, può presentare una proposta o può partecipare a una proposta di un patto di collaborazione. L'articolo 5, cosa sono i patti di collaborazione? Sono, come dicevo prima, lo strumento principe. È lì che si inseriscono tutte le caratteristiche dell'iniziativa, che sia di proposta dell'amministrazione comunale del comune o sia come proposta da parte dei cittadini. All'interno del patto ci devono essere tutte le norme e le regole che regolamentano l'iniziativa. Ovviamente ogni patto deve essere graduato in funzione, anche per il principio della proporzionalità che citavo prima, devono essere graduati in funzione del livello di intervento che viene richiesto o che viene proposto. L'articolo 10 prevede la definizione di una funzione istituzionale all'interno dell'ente finalizzata a garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati a relazionarsi con i cittadini attivi e di coordinamento con gli organi di indirizzo politico e amministrativo. Per cui ci deve essere la massima prossimità alla realtà cittadina in cui vengono svolti gli interventi. Poi al capo terzo si definiscono quali sono gli spazi pubblici, per cui c'è una definizione all'interno del regolamento anche di quali possono essere gli spazi pubblici e che cosa sono questi spazi pubblici. Il capo quarto definisce quali sono gli edifici e in questo caso possono essere sia edifici di proprietà comunale ma anche edifici di proprietà di terzi, fatto salvo che ci siano o le norme del codice civile che lo prevedono oppure la volontarietà da parte dei terzi a mettere a disposizione questo bene personale che diventa a quel punto nell'utilizzo un bene comune. Il capo quinto parla della formazione e qui si definisce cosa si intende per formazione. Riconosce la formazione come un strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che emergono dalle collaborazioni in occasioni di cambiamento. Per cui il valore anche degli interventi che si andranno a realizzare. E promuove il coinvolgimento delle scuole in ogni ordine e grado. Finalizzata la diffusione e il radicamento della pratica della collaborazione. Per cui già nelle scuole e il comune di Pordenone con il CCR di quest'anno ha iniziato questo processo, si inizia a parlare di patti di collaborazione e di beni comuni. Il capo sesto forme di sostegno, perché non sono escluse anche forme di sostegno a vario titolo. Allora, esclude le attività svolte dall'ambito dei patti di collaborazione e dalle imposte locali, per cui può essere previsto all'interno del patto di collaborazione anche l'esclusione dalle imposte locali, in particolare TOSAP e relativi canoni. E poi in osservanza al Decreto Legge 133, lo sblocca Italia convertito in legge, nell'esercizio della potestà regolamentare del comune si definiscono ulteriori esenzioni e degevolezioni in materia di tributi a favore di soggetti sottoscrittori dei patti di collaborazione. Regolamenta l'utilizzo a titolo gratuito di spazi comunali per la finalità prevista all'interno del patto di collaborazione. definisce inoltre la possibilità da parte dell'amministrazione di forniture di materiali incomodato d'uso, con particolare attenzione ai dispositivi di prevenzione individuale necessari allo svolgimento dell'attività prevista dai patti. L'amministrazione agevola le iniziative volte a reperire fondi necessari allo svolgimento delle attività previste dai patti. Laddove non siano possibili sostegni in natura, che sono i principali sostegni che l'amministrazione deve prevedere all'interno dei patti, non si esclude l'ipotesi di parziale finanziamento a copertura dei costi che i cittadini attivi devono sostenere nello svolgimento delle attività previste dai patti di collaborazione. La montare sarà prevista all'interno del patto stesso, per questo dicevo all'inizio che il patto è la parte principale, l'atto principe del regolamento. Il capo sesto, comunicazione, trasparenza e valutazione, è molto importante che queste tre, la comunicazione, la trasparenza e la valutazione siano inserite all'interno dei patti, il Comune utilizzerà tutte le forme e i canali in comunicazione a sua disposizione al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, l'amministrazione favorirà l'accessibilità alle opportunità di collaborazione. Al fine di favorire una concreta valutazione dei risultati nella redazione dei patti di collaborazione, si stabiliranno inoltre modalità di misurazione, documentazione e rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti e l'amministrazione ne darà ampia visibilità. Il capo settimo, la responsabilità e la vigilanza. I cittadini attivi sarà fornita adeguata informazione e formazione relativa ai rischi connessi all'attività prevista. Nel patto di collaborazione saranno definite inoltre le coperture assicurative necessarie. L'amministrazione favorirà attraverso la stipula di apposite convenzioni la formazione della sicurezza e la stipula di coperture assicurative a condizioni agevolate. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità con cui si definiscono eventuali controversie tra le parti sottoscritti del patto e nei confronti di terzi. Io ho finito, non so se l'assessore Toffolo voleva, visto che ha partecipato alla redazione... Grazie. 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 Grazie a tutti. Quando il consigliere Salvador, insieme ad altri consiglieri di maggioranza ai lavori avevano partecipato e infatti fanno parte del gruppo di lavoro anche dei consiglieri di opposizione, ha proposto all'amministrazione di lavorare sul regolamento bene i comuni di Bologna, dal punto di vista dell'amministrazione è stata una grande occasione, in quanto era il Consiglio Comunale che si rendeva promotore di un'iniziativa e che metteva i cittadini al centro della possibilità di rendersi attivi nella gestione diretta dei beni comuni. Per questo motivo, ed è stato di grande sostegno e di aiuto lavorare sul regolamento di Bologna che effettivamente aveva affrontato tutte le questioni tipiche di questi regolamenti, essendo stato il primo ed essendo arrivato alla sua stesura tramite un percorso lungo all'interno del quale avevano visto approfondimenti, erano stati affrontati approfondimenti legali legati alla giurisprudenza e quant'altro e regolamentari. Non è stato un passo indifferente quello del rendere coerente rispetto a quelle che sono le istanze del nostro territorio e l'apporto che l'amministrazione ha dato insieme al segretario è stato proprio questo, quello del contestualizzare il rispetto pordenone, l'esigenza del comune, un regolamento che nasce con dei principi precisi. Come è successo in molte amministrazioni che hanno fatto e hanno percorso questo ITER, il lavoro di contestualizzazione ha portato da un lato ad una rivisitazione del testo per legarla a quelle che sono le effettive capacità dell'amministrazione di intervenire e quelli che devono essere gli strumenti all'interno dell'amministrazione. Su questo il lavoro con il segrestario è stato fondamentale. D'altro canto c'è stato il lavoro anche di ascolto di quelle che erano le istanze. Credo quindi che sia un'occasione importante per questa assemblea non vedere questo strumento come un momento di contrasto, bensì come un'occasione che si dà di modificare il rapporto cittadino-amministrazione nella gestione di quello che è il principio fondamentale che tutti noi abbiamo, ovvero il bene della collettività, visto anche dalle diverse posizioni politiche che noi abbiamo, che è finalizzato al godimento massimo del bene comune. Per questo io chiedo che la discussione si sviluppi intorno a quelli che sono i principi che presenta questo regolamento e che francamente non riesco a vedere lontani da tutte le considerazioni e le posizioni dei consiglieri oggi presenti in questo Consiglio. Grazie. Consigliere Dalmas? Prego. Allora, mozione d'ordine, richiamo l'articolo 48, 48 mi pare da regolamento, cioè richiamo la legge e il regolamento in quanto ritengo che vi sia una per le ragioni, spesso prima da Delbenga, le quali mi richiamo che integro, nel pur parler amichevole che ho avuto con il segretario generale, io credo che sia in dubbio l'interpretazione che ne esce, cioè il regolamento delle circoscrizioni che è atto richiamato dallo statuto del comune dice che qualsiasi cosa che ha a che fare con i beni esistenti nelle circoscrizioni, quindi qualsiasi cosa delle circoscrizioni, non i beni delle circoscrizioni, ma esistenti nelle circoscrizioni, automaticamente in virtù della norma richiamata che va ad incidere l'articolo 2 sull'individuazione di beni e anche delle circoscrizioni, perché questo potrebbe essere, richiede preventivamente un parere obbligatorio delle circoscrizioni. Basta, io credo che il segretario comunale dà la sua ovviamente interpretazione molto più autorevole della mia, che sono un quisco del popolo, non sempre, però mi richiedo il segretario, lei qualora ci fosse un domani un problema su questa vicenda, noi abbiamo posto la questione, l'Aula decide di votare questo regolamento, formalmente però non potete dire che non lo sapevate, se magari ci sarà una qualche impugnativa, la vedo un po' difficile a dire la verità, anche noiosa, i beni comuni stanno solo nella testa di Salvador, perché neanche Rodotà sa quali sono i beni comuni, nonostante ci abbia scritto un libro, perché ancora non si riesce a capire cosa siano questi beni comuni. Allora voi, in difetto di una normativa nazionale, in assenza di una normativa che dica che cosa è un bene comune, se non questa capacità straordinaria di mettere e di parlare di niente, siccome non c'è questa legge, allora, quindi non incide su un bene specifico, dice il segretario, in questo caso non andiamo ad infrangere alcuna norma regolamentaria. Io penso l'esatto contrario da lei, signor segretario, penso che questo regolamento in realtà introduca delle possibilità forse importanti, sicuramente ad oggi inesplorate e inesplorabili per quello che potrà capitare un domani, quindi di conseguenza è potenzialmente destinato ad incidere sui beni insistenti ed esistenti sul territorio, anche dalle circoscrizioni, da qui l'obbligatorietà di sentire le circoscrizioni. Quindi chiedo che la questione venga dibattuta nelle sedi opportune secondo i regolamenti. Va bene. Allora, questa è una mozione d'ordine, pertanto adesso chiedo al Consiglio di pronunciarsi. Allora, chiedo chi vuole effettuare un intervento a favore e chi un intervento contro. Consiglio del Ben, intervento a favore. Prego. Intervento ovviamente a favore perché riprende quella che era l'impostazione. Nel momento in cui andiamo a parlare di beni comuni, di nuove regole, dobbiamo almeno arrivare da una credibilità sull'applicazione di norme cogenti attuali. Quali sono queste? Una partecipazione che è prevista dalla norma e che questa partecipazione, pur essendo in un concetto di sussidiarietà fra momento centrale e momento periferico, vede il Comune e vede la sua parte territoriale rappresentata, suddivisa, secondo dice la norma, in quartieri circoscrizioni. La norma ha messo come riferimento di queste circoscrizioni un Consiglio circoscrizionale eletto in modo democratico contestualmente al Consiglio Comunale che passa attraverso una serie di individuazione e formalizzazione di candidati e a un voto da parte della cittadinanza per rappresentare questo organo del Comune che è statutario, che è regolamentare, del quale dobbiamo tenere conto in questo momento di vigenza di queste regole. Quindi anch'io sono d'accordo che questo è solo un richiamo alla norma perché la norma prevede che la partecipazione abbia della possibilità di essere espressa, espressa attraverso organi competenti e a me consigliere comunale ho io consigliere comunale di Pordenone, ho diritto come scritto ai regolamenti di conoscere il parere delle commissioni per orientarmi al meglio e questo mio diritto è anche un dovere per quello che devo essere fatto. Per questo anch'io penso che sia necessario andare a riapprofondire questo regolamento dopo che saranno svolte le formalità che ci siamo dati e che sono cogenti e che questa cogenza è il parere dei consigli circosistionali che devo avere, che dobbiamo avere non che siamo obbligati a far nostro, casomai possiamo anche dire perché eventualmente prendiamo delle opere diverse ma che deve essere sul fascicolo di quello che noi andiamo a discutere e lo ribadisco proprio perché io per primo ho detto che si tratta di Bologna, ovviamente Bologna circoscrizione del nord-est che comprende anche l'Emilia Romagna, c'è un riferimento a questo orientamento al quale non sono lontano dal punto di vista politico, un orientamento dove esplicitamente sono richiamati e valorizzati i consigli delle circoscrizioni, basta leggere la delibera che hanno portato un contributo che il consiglio comunale ha fatto proprio. Allora per applicare questa norma sono completamente a favore della proposta del consigliere Dalmas e anche a favore di un passo di correttezza armonica di lavori consigliari. Bene, grazie consigliere. Prego consigliere Bianchini, intervento a contro. Grazie presidente. Credo che noi come maggioranza ma spero anche altri dell'opposizione si attestino sulla dichiarazione di legittimità data dal segretario generale. Noi di questo ovviamente ci fidiamo e per questo rispingiamo la mozione e chiediamo di andare avanti. Scusate, adesso passiamo alle votazioni sulla mozione d'ordine presentata dal consigliere Dalmas. Bene, votiamo la mozione d'ordine del consigliere Dalmas. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. L'esito della votazione è la seguente. Presenti 36, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 12, contrari 22, astenuti 1. La mozione d'ordine viene respinta. Bene, passiamo ora alle richieste di chiarimenti. Consigliere Piccinato, richiesti di chiarimenti? Prego. Era semplicemente un'eventuale mozione d'ordine nel senso che semplicemente invece di porre il problema sulle circoscrizioni si voti direttamente la mozione sulle circoscrizioni, si aboliscano e dopo si tagli direttamente il problema. Ricchiesti di chiarimenti? Nessuna richiesta di chiarimenti, pertanto dichiaro aperta la discussione. Nessun iscritto? Consigliere Piccinato. Consigliere Piccinato. Debbengo Piccinato, scusate perché non capisco qua e vedo... Consigliere Piccinato, prego. Allora, grazie Presidente. Ho ascoltato con vivo interesse la presentazione, ho letto con vivo interesse questo documento che è stato presentato questa sera. La Lega è nata con questa idea della sussidiarietà, dell'autogoverno, della socialità tra cittadini che mettono la propria attività al servizio della comunità. È un'idea che tutto sommato è anche di stampo libertario, di stampo anarcho-sociale, qualcosa che va al di là della canonicità di un'istituzione e quindi un po' di quella che può essere presa come responsabilità personale, autogoverno, autogestione e anche libertà, creatività, autonomia. Che sono poi valori in cui soprattutto la prima Lega e i primi intellettuali che hanno sostenuto la Lega a cui hanno sempre dato grande peso e grande importanza. Ma noi siamo lo Stato e lo Stato è noi, quindi non è soltanto una questione che lo Stato è lì e non si sa che cos'è. Lo Stato è tutti noi in qualche modo. E quindi oggi invece c'è la tendenza anche psicologica e anche fisica in qualche modo dove il cittadino fa qualcosa solo perché lo Stato glielo impone o glielo dice. E quindi è un po' un atteggiamento parassitario quello che avviene e succede. Quindi in questo caso cito un po' una frase che è stata trita e ritrita ma è importante capirla che è quella di Kennedy dove non si chiede che cosa lo Stato può fare per noi ma che cosa noi possiamo fare per lo Stato. E quindi già qui c'è... L'America che ha detto che è l'America, è l'America, è l'America, è l'America, è l'America, è l'America. Sì, ok, ma comunque insomma il succo è quello... Invece comunque c'è un'alternativa a tutto questo statalismo c'è un'alternativa a quello che viene imposto dall'alto con la forza magari spesso ed è un'alternativa un po' rivoluzionaria e credo che questo regolamento ne sia una parte che possa innescare un'alternativa ed è una presa di coscienza, di potenzialità di quelle che sono veramente il cambiamento che può attuare il singolo cittadino ed è qualcosa che deve ritornare nelle mani del cittadino il potere di poter cambiare le cose. E appunto tutto questo può darci veramente il senso di un cambiamento che può essere veramente enorme e questo regolamento può essere il grimaldello che può andare a modificare in maniera profonda la società perché... E qui mi svesto un po' dai panni del consigliere comunale ma metto quelli del presidente dell'associazione Cattaneo di cui ho portato qualche libro di cui leggo dell'associazione Cattaneo pubblicato da Cattaneo che dà il titolo la città sussidiaria, vivere oltre lo Stato è uno e l'altro dalle vicini al federalismo, autogoverno e responsabilità. Sono un insieme veramente enorme di idee, di concetti, di proposte per andare ben al di là di quello che ci viene propinato dall'alto ma che possiamo fare noi cittadini per cambiare davvero le cose. E qui citando anche magari quelli che sono intellettuali da Miglio a Gilberto Neto che ricordo ma veramente molti molti altri è quella di una rivoluzione sociale che è possibile partendo dal basso nel senso che non con conflitti, non con guerra e non con proteste eclatanti ma con la semplice idea di poter andare a fare quello che prima non si è fatto perché lo Stato non lo faceva e farlo noi. E in un qualche modo anche sentirsi liberi nel caso in cui lo Stato non funzioni nel caso in cui lo Stato ci succhi il sangue di dire queste cose le facciamo noi e non paghiamo neanche più le tasse perché siamo in grado di autogestirci, siamo in grado di autosistemarci le cose. E quindi in un qualche modo questo tipo di regolamento è veramente una porta verso un mondo estremamente diverso e variegato che può dare la possibilità ai cittadini di avere di nuovo il coltello dalla parte del manico perché hanno in qualche modo lo strumento per poter dire ok Stato ma fino a un certo punto. E quindi soprattutto in un concetto di sovranità monetaria come quello odierno di non sovranità monetaria come quello odierno basata sul semplice bilancio dei conti che devono sempre tornare. Nel momento in cui il cittadino decida di fare un'azione comune tranquilla come quella di non pagare più le tasse ma farsi i servizi da solo ecco che può innescare davvero la rivoluzione della gente comune perché è una cosa alla portata di tutti. Chiudo semplicemente con una piccola critica che è quella di dire che qui c'è davvero comunque una critica a questo regolamento che possono fare e che comunque è effettivamente molto complicato nella lettura nonostante ovviamente sia interpretabile ma per il cittadino comune, normale, medio che affronti questo tipo di regolamento la vedo un po' dura ecco quella di poter dire sì mi metto davvero a capire per poter fare le cose la vedo veramente qualcosa di assolutamente forzato e assolutamente burocratico e la seconda critica è appunto quella che è assolutamente burocratico c'è ancora troppo Stato in questo regolamento c'è ancora troppo in qualche modo vincolo da parte dell'ente comunque comunale ma sicuramente è un passo importante, è un passo molto interessante e che dal mio punto di vista va assolutamente sostenuto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Delben, prego. Ho letto il regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione proposto a Pordenone e a margine ho messo lo stesso regolamento di Bologna perché volevo un po' cogliere quali sono degli elementi di queste 50 parole 100 parole di differenza anche per avere un modo di dare un contributo eventualmente su ciò che è migliorabile, su cogliere qualcosa che è di diverso ma sulla quale si può fare un ragionamento politico ma fermo restando che avendo letto questo regolamento e avendo visto delle cose che sono migliorabili e cambiate penso e sono convinto che se questa fosse stata anche un approfondimento in sede istituzionale di consiglio di circoscrizione è possibile che i miglioramenti potessero essere di più di quelli che posso io adesso qui proporre o dividenziare allora questo è un regolamento che segue un suo articolato organico e salto ciò che tutto sommato è identico per cui vado alla definizione all'articolo 2 dove c'è la definizione di beni comuni urbani comune o amministrazione, cittadini attivi proposte di collaborazione eccetera e trovo che Pordenone inserisce un nuovo termine comunità di riferimento che si chiama soggettività autonoma la comunità è una soggettività autonoma che si attivano in modo stabile per quanto tempo stabile in relazione a un determinato bene comune allora questa è una frase che ha le parole in italiano ma che forse nella sua costruzione della frase diciamo che merita approfondimento vado giù ancora e arrivo al punto H quando parla gestione condivisa leggo la gestione condivisa è interventi di cura di beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di incisività allora vado a vedere come questa gestione condivisa possa essere incisiva prendo il vocabolario della Trecani e mi dice che incisivo è che ha la funzione e la forza di incidere in anatomia come i denti eccetera allora mi dico ma come mai questo può essere scritto nel regolamento di Bologna mi aspetto che Bologna abbia un altro valore e infatti sul regolamento di Bologna non è scritto incisività è scritto inclusività che è un forte valore di solidarietà del bene comune perché si fa insieme Pordenone lo ha tolto un problema di taglia in colla non penso che chi abbia letto il regolamento sia uno che non si accorge del significato delle parole quindi diciamo che quello che si cerca di tenere lontano cambiando la parola è la inclusività che prende le persone con disabilità che prende gli anziani quelli che magari pensano diversamente ma che sarebbe un valore forte da mettere in un regolamento come questo e ovviamente poi Bologna interviene dicendo che tutto questo deve essere fatto con processi sociali, economici, tecnologici e ambientali ampi ed integrati che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita della città Pordenone per risparmiata ha cancellato ampi e integrati bisogna tenere conto che noi siamo piccoli mentre Bologna è grande poi compaiono due cose che mi lasciano molto 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 perplesso all'articolo 2 compaiono le fondazioni aperte di scopo e le fondazioni di vicinato sono termini che ripeto possono anche essere visti in positivo ma mi preoccupano molto perché di solito dietro l'idea di fondazione ci possono essere senza far processo alle intenzioni delle cose che meritano di essere particolarmente oggetto di attenzione e quindi queste sono delle cose che abbiamo visto dopodiché arriviamo ai cittadini attivi ovviamente l'articolo 1 di Bologna da parte con l'intervento di cura e rigenerazione di beni comuni urbani inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è strumento per il pieno sviluppo della persona umana è aperto a tutti senza necessità di un ulteriore titolo di legittimazione ovviamente Pordenone che ha un'aggiunta fortemente caratterizzata da orientamenti sociali che cosa ha fatto? ha cassato inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è strumento per il pieno sviluppo della persona umana questa frase Pordenone l'ha cassata non offendeva nessuno diceva solo da che parte stai nella società i cittadini attivi continua sempre il regolamento possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione di beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità stabilmente organizzate o meno cosa fa Pordenone? cassa in cui esplicano la propria personalità stabilmente cioè quasi quasi l'espressione della personalità ostacola quello che è il cittadino attivo ok poi andiamo avanti ancora e troviamo il punto 7 dell'articolo 4 gli interventi di cura e di generazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini scrive Bologna Pordenone cassa secondo modalità concordate con i cittadini perché noi non siamo capaci di partecipare o di dirla al nostro a portare il contributo dopodiché il patto 5 parla del patto di collaborazione e alle 2e Bologna parla di un bel inquadramento degli aspetti delle tutele assicurative che tagliando la frase Pordenone ha reso meno agevole e secondo me anche meno di copertura per quelle che sono le attività dei cittadini attivi sulle interventi di Bologna era anche quello di osservare le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o clause del patto per paura di andare a conflitto con qualcuno Pordenone cassa quello di dover intervenire per riportare i cittadini alle regole di quello che è fatto andando avanti così andiamo al punto 6 dice punto 3 i cittadini possono altresì realizzare interventi tecnici o finanziari di rigenerazione di spazi pubblici o edifici Bologna dice possono altresì realizzare ovviamente Pordenone che ha paura di cittadini dice che possono proporre la realizzazione di interventi siamo proprio a un livello in cui si perde lo spessore della valenza politica di quello che si sta ponendo e andando avanti ancora siamo al punto 8 promozione della creatività urbana che dice che il comune Pordenone dice incentiva la creatività urbana Bologna dice che promuove la creatività urbana cioè un ruolo dell'amministrazione che sia anche attivo che è percorribile però questa è una frase che merita essere letta in tutta la sua parte il comune incentiva o promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva i suddetti beni possono essere destinati ad usi temporanei valorizzandolo la vocazione artistica evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e di luoghi di conflitto sociale per me è giustamente individuato il conflitto sociale come qualcosa che mette in movimento una crescita una negoziazione un fatto importante per la crescita e non è solo il conflitto sociale qualcosa di tradizione marxiana ma anche nel liberalismo anche in tutti questi elementi il conflitto sociale che va gestito è un motore importante ma per Pordenone che cos'è il conflitto sociale? il degrado allora quando io metto qualcuno che giudica situazioni che possono dare conflitto sociale a un movimento lo qualifico come degrado entro nella filosofia dell'integralismo che dice il bene della parte mia quello degli altri è degrado è negativo io non mi aspetto che queste siano parole che entrano dentro un regolamento per i beni comuni di un comune di un'amministrazione che vuole essere o politically correct e orientata come Pordenone quindi momenti di riflessione qui dentro ce ne sono tanti dopodiché finisco è stato introdotto da noi il garante civico se non ricordo male la figura del garante civico che è mal definita che può andare in contrasto anche con altri garanti mentre a Bologna continuano a utilizzare medium civica medium civici come definizione e in questo modo dà molto più correttezza anche a quella rete di medium civici che dà un'idea dei beni immateriali o delle risorse informatiche eccetera ho letto nove pezzi di articoli ai quali ho fatto delle osservazioni che mi paiono politicamente orientate politicamente orientate e che dovrebbero essere accolte da una giunta che rappresenta un'espressione del centro-sinistra ma anche io direi senza del centro-sinistra quella democratica di crescita di partecipazione di solidarietà tutto questo messaggio forte che l'amministrazione o chi ha proposto questo avrebbe anche potuto portare ai consigli di circoscrizione come un elemento di proposta e di crescita che magari giustificava anche in una città come Pordone il superamento della formalizzazione delle circoscrizioni ma andava in un modo aperto di coinvolgimento solidale e positivo quindi quello che vi ho detto è per me la rappresentazione di una necessità tutora di approfondimento e migliorie queste sarebbero condizioni importanti perché un regolamento come questo che ha visto a Bologna un'ampia partecipazione e voto favorevole anche da noi potrebbe avere la stessa qualificazione e una maggioranza estremamente ampia se la maggioranza sceglie un'altra strada io ricordo sempre che la verità non sta da parte di una maggioranza elettorale domani ce ne sarà un'altra ma avremo perso l'elemento importante la concezione dentro di noi della partecipazione della democrazia delle regole e del rispetto delle regole grazie consigliere consigliere bevi l'acqua prego grazie mi veniva la mi veniva l'inflessione bolognese ringrazio tutta l'amministrazione per aver voluto portare questa proposta di delibera una delibera bella una delibera importante perché ha veramente a cuore il bene della nostra città città intesa come insiemi di donne e uomini capaci di vivere in armonia perseguendo il nobile fine di salvaguardia del bene comune la bellezza di questa delibera la sua bontà la si evince già dalle sue premesse laddove cita lo statuto comunale quale fonte della nostra coesione sociale uno statuto che nei suoi articoli 1 e 3 proclama una città quella di Pordenone aperta tale deve essere e non dobbiamo mai dimenticarlo dove lo sviluppo morale ed economico viene promosso dove le pari opportunità vanno favorite così il benessere fisico psicologico dei singoli il benessere di ognuno di noi anche il più piccolo anche il diverso perché ognuno di noi è un essere unico e in quanto tale tassello della nostra comunità una delibera che trae spunto sì è vero dall'esperienza del comune di Bologna ma non per questo meno importante e meno incompleta una delibera dunque ambiziosa e lungimirante perché vuole dare applicazione ed in modo efficace al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 ultimo comma della nostra costituzione la delibera col suo regolamento dei beni comuni diventa il manifesto della cittadinanza attiva e ciò perché si riconosce come indispensabile per l'attuazione del principio di sussidiarietà e per la cura della città l'instaurazione di forme di collaborazione attiva e sostenibile tra il soggetto pubblico comune e la comunità intesa sia come singolo sia come associazione ma anche come gruppo spontaneo e qui sta il grande passo in avanti qui sta la lungimiranza politica da una parte si riconosce che Pordenone nella sua storia non remota ma anche prossima vicina di pochi anni fa decenni fa ventenni fa ha avuto ed ha ancora numerose esperienze di azione diretta dei cittadini di movimenti che hanno agito e agiscono dalla base ecco perché probabilmente non c'è stato scritto inclusione perché Pordenone è inclusiva lo ha dimostrato negli anni passati e lo sta dimostrando ancora dall'altra il regolamento diventa l'occasione e strumento concreto ed operativo per la costruzione di nuove relazioni sia tra i cittadini stessi sia tra i cittadini e del comune ente più prossimo alla comunità l'accordo è previsto dal regolamento stesso costituirà infatti un importante patto sociale che vincolerà le parti il singolo o il gruppo di persone che spontaneamente decideranno di prendersi cura di un bene materiale o immateriale della città e l'amministrazione ciò con ripercussioni positive e dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale culturale ed educativo dal punto di vista politico sarà l'amministrazione a tessere importanti relazioni col territorio il regolamento costituirà un'opportunità in più per l'amministrazione per intraprendere nuove e più profonde relazioni con il tessuto sociale del territorio diventa l'occasione del suo riscatto l'occasione per superare la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica dal punto di vista culturale verrà lanciato il messaggio che l'amministrazione non potrà operare bene senza il sostegno controllo dei cittadini questo regolamento non può e non deve da nessuno se non da chi ha visioni molto miopi e lontani dalla realtà essere considerato uno strumento per scaricare sulle spalle dei cittadini ciò che deve è e deve restare compito primario e prioritario dell'amministrazione con questo regolamento infatti il comune non si deve né si può dispare spogliare dalle proprie competenze la monotazione la sicurezza ma dovrà comunque mantenere in efficienza il patrimonio tutto mobiliare ed immobiliare materiale ed immateriale della città con particolare cura per i luoghi di studio e formazione culturale delle giovani generazioni i cittadini del futuro con questa nuova sinergia e con questo regolamento quale strumento operativo per il bene comune si apre una nuova epoca dove anche il cittadino diventa il custode del patrimonio della propria città si attuerà un cambiamento se lo si saprà cogliere anche al di fuori della politica della costruzione di adeguate convinzioni personali etiche e persino religiose ricordo allora l'intuizione dell'austerità di Berlinguer l'austerità di una vita più fragile scusate più fugale meno riempita da merci usa e getta più ricca di doni di servizi mutui e reciproci di condivisioni e co-usi a titolo gratuito di recuperi e riciclaggi riabilitare e rendere desiderabile questo genere di austerità come possibile stibile di vita liberamente scelto e coltivato come ricchezza comporterà una notevole rivoluzione culturale e una cospicua riscoperta della dimensione comunitaria grazie grazie consigliere Bevilacqua consigliere Dalmas prego io sono sorpreso stupefatto dall'atteggiamento e dal linguaggio e da ciò che ditte in questa delibera regolamento lo fa anche una persona che stimo intelligente voi scrivete qualcosa che va contrariamente a ciò che volete realizzare ciò che volete realizzare e se non erro quell'idea secondo la quale che va sotto il nome di costituzionalizzazione dell'uomo e costituzionalizzazione dei suoi bisogni secondo la quale la distinzione pubblico privato è superata secondo la quale i beni esistono in natura o perché vengono dati o perché ci sono e contano per ciò e per il modo in cui vengono utilizzati questa visione queste sono cose che tu avresti dovuto dire prima voi citate l'articolo 118 ultimo comma della costituzione non citate l'articolo 3 che ne è il suo fondamento non citate l'articolo 42 sulla proprietà privata che è la proprietà privata secondo il quale la proprietà privata deve assolvere ad una funzione sociale allora è combinato disposto di queste cose postato un insigne giurista italiano che non appartiene certamente alla mia parte politica che non ha giuristi non ha intellettuali non ha giuristi perché noi rappresentiamo il popolo dei cittadini inattivi non dei cittadini attivi perché voi avete i cittadini attivi sono quelli bravi no? sono i bene comunisti i bene comunisti quelli che si svegliano un giorno occupano un teatro in quanto sono una minoranza militante visto che gli altri hanno altro da fare non possono stare giornate intera ad occupare il teatro in nome del popolo questo è il bene comunismo questo è il bene comunismo queste cose io non voglio citare l'istituto Bruno Leoni quello che ha detto sui regolamenti dei beni comuni ma anche vai a leggerti Pierluigi Battista sul Corriere della Sera l'uso di quest'anno straordinario articolo su queste cose e non certo Pierluigi Battista è uno che appartiene come dire alla Lega perché se fosse tant'è che vedi lui che è leghista è favorevole all'iniziativa perché non so ho trovato qualche traccia di federalismo un filo rosso che unisce con il federalismo il fedus fidere patto e avere fiducia e tu sai benissimo che uno dei massimo l'unico teorico che avete avuto nella Lega a parte i Salvini di oggi si chiamava Gianfranco Miglio il quale sosteneva il cosiddetto federalismo competitivo l'essenza del federalismo sta nello scambio nel patto io do a te tu dai a me dalla competizione dei territori nasce qualcosa di vantaggioso e non qualcosa di svantaggioso per i più io non ho capito cosa sia la sussidiarietà non l'ho mai capita perché non sono un cattolico fervente non so cosa sia questa sussidiarietà orizzontale verticale la declinazione che voi avete cercato di mettere giù oggi richiamando questi principi tre fondamentali principi di uguaglianza e principio di utilità sociale e di dignità umana perché è lì che va a parare il professor Rodotà colui che nel 2007 aveva il compito di ridisegnare il libro terzo del codice civile sulla proprietà e da lì nasce quella cultura che poi ha anche generato il sostegno al referendum nel 2011 stravinto perché la destra la destra che allora stava al governo berlusconiana rettoroglada fatta di cittadini inattivi e io sono orgoglioso di essere tra coloro i quali fanno parte dei cittadini inattivi ecco già lì dal punto di vista semantico terminologico state realizzando la prima grave distinzione e ineguale non rispettosa del principio di quell'articolo 3 perché discriminate coloro i quali sono cittadini attivi da coloro che non lo sono tutti i cittadini sono cittadini sono persone stanno qui dentro stanno dentro lo Stato caro vicinato che tu lo voglia o no esiste molto più di questo consiglio comunale allora siccome il problema non sta o sta meglio nella parrebbe di capire nella distinzione del superamento tra pubblico e privato in un terzo genere non definito normativamente questo del bene comune io non so cosa sia un bene comune ci sono ipotizzati quali possono essere i beni comuni le reti informatiche la conoscenza che corre su internet è un bene comune ma in patrimonio di tutti l'acqua nel 2011 è stato demonizzato in questo paese con il referendum sull'acqua perché inutile che lei bevi l'acqua che ti agiti su questo perché così è stato perché si diceva che avremmo privatizzato l'acqua una mistificazione terribile che però così è andata sono andati a votare pensando che avremmo privatizzato l'acqua privatizzato l'acqua un bene che per sua natura non è privatizzabile secondo quanto invece i sostenitori del referendum stavano ipotizzando si parlava di gestione quindi abbiamo consentito che in Italia si continuasse ad avere aziende inefficienti e fonti di malaffare e praticamente al di fuori in qualsiasi controllo questo è stato il risultato questo è stato il risultato bene io termino perché perché evidentemente è anche ora di chiudere questo consiglio comunale per quanto mi riguarda perché no no cioè mi ha un po' appassionato inizialmente il regolamento sulle gestioni dei comuni io non ho visto cosa hanno fatto a Bologna francamente non è che mi interessi molto sicuramente hanno fatto delle cose importanti e fa bene del ben a richiamare dice avete copiato il regolamento in Bologna almeno copiatelo bene ma neanche quello riuscite a fare copiatelo bene avreste dovuto copiarlo bene i punti che ha citato del ben hanno un senso una logica io non li condivido però ce l'hanno allora il mio atteggiamento è a parte ovviamente adesso devo ribadire ciò che è stato detto prima nella mozione ma fa parte dell'atteggiamento il sindaco lo vedo distratto un po' tetragono che ogni tanto richiamo lei sa lei sa che devo richiamarla in questo un atteggiamento potetragono di questa maggioranza che non accetta mai nessun consiglio suggerimento quando invece avrebbe potuto ottenere potrebbe ottenere anche di più dalle opposizioni semplicemente collaborando cercando le forme di collaborazione non avete bisogno fate un regolamento per i beni comunisti i quali un domani potranno occupare tranquillamente teatro verdi e dirci questo bene comune bene comune non è più quello che è è un bene comune è una minoranza organizzata di pochi democratici in servizio permanente effettivo che stanno in assemblea tutto il giorno perché gli altri devono andare a lavorare e decideranno che cosa sono e come hanno privatizzato i beni comuni questa è l'obiezione ideologica che io faccio a questa concezione dei beni comuni non ha né capo né coda che è assolutamente dal mio punto di vista uno strumento per esprimere il disprezzo dal punto di vista ideologico intellettuale che una corrente di pensiero in questo paese ha avuto ed ha nei confronti dei processi di aziendalizzazione e nei confronti della proprietà privata perché il concetto è questo questa è la filosofia che ne sta alla base la filosofia che ne sta alla base significa costituzionalizzazione dinamica e significa che la concezione liberale che abbiamo avuto della costituzione come fonte normativa che avrebbe fermato o quantomeno garantito che le forme diverse di potere magistratura e stato sarebbero stati sottoposti alla costituzione da questa concezione invece superano i fondamenti i presupposti della funzione statuale costituzionale come norma sovraordinata per una concezione invece non dinamica che esprime già il governo di quello che deve essere perché ripeto il fondamento vero è il superamento della distinzione pubblico privato quel fondamento della distinzione pubblico privato porta ad una gestione per l'uso dell'uso comune per la soddisfacimento dei bisogni individuali dell'uomo ti cito il caso di Napoli dove addirittura mi pare che ci sia nella bellissima amministrazione di Napoli ed efficiente soprattutto una gestione di servizi quali il verde o le immondizie esiste un regolamento di beni comuni che l'hanno chiamato l'irregolamento dei diritti dell'umanità perché il bene comune può essere un diritto che appartiene a tutti e quindi voglio dire non è una questione solo come dire domestica nostra ha una finalità ben precisa allora però chiudo veramente io sono un po' scettico mi astengo anzi proprio non partecipo al voto proprio per questo perché non so se questa sia la strada non so se facilmente noi possiamo così pensare che superiamo queste cose insomma la nostra codificazione ci inventiamo e apriamo queste strade meravigliose dove solo il cittadino attivo io per pigrizia formazione mentale tutto il resto amo il cittadino passivo e basta sono molto più attivo però di voi grazie consigliere consigliere prego grazie presidente personalmente devo dire che sul merito del regolamento non ho nulla da eccepire in quanto come è stato sottolineato anche dagli interventi che mi hanno preceduto come posizione politica io sono favorevole anzi sono per la promozione per quello che riguarda la partecipazione del singolo cittadino alla gestione dei beni comuni quando appunto penso a diciamo così aree dismesse o comunque beni che non hanno svolgono più la loro funzione primaria sempre però nel rispetto insomma del diritto di proprietà perché insomma credo che questo anche questo abbia diritto alla sua tutela come stabilito nella Costituzione ma dicevo è importante che venga valorizzata la partecipazione del singolo cittadino quello che mi ha lasciato un po' perplesso stasera è più che un discorso appunto come dicevo di merito del documento che è chiaramente è perfezionabile perfettibile anzi io vi invito a continuare sulla strada della condivisione pubblica per cui insomma allargatevi incontrate le associazioni sentite cosa ne pensano di questo tipo di strumento che noi andiamo questa sera a esaminare dicevo sono rimasto un po' perplesso per un discorso di opportunità la legittimità è stata chiarita dal segretario lui ha dato un parere legale dice che comunque è legittimo il documento presentato stasera a prescindere dal parere delle circoscrizioni ecco io invece ritengo che sarebbe stato e mi meraviglia che non sia stato fatto proprio per in virtù dei principi che sono stati enunciati prima da Marco e quindi la partecipazione la condivisione e la sussiderietà secondo me quale strumento migliore per andare a coinvolgere i cittadini nelle sedi istituzionali in cui essi sono stati chiamati a leggere i propri rappresentanti per cui appunto sarebbe stato un passaggio che avrebbe rafforzato secondo me questo tipo di principi che ha questi tipi di principi che ha enunciato il collega ecco è un'impressione che si può a meno che io ho avuto magari non è condivisa ma io ho avuto questo tipo di impressione che è come se si avesse paura cioè dico allora io mi invito non abbiate paura del parere delle circoscrizioni perché comunque sono un esercizio di democrazia e partecipazione ad ogni modo ad ogni modo avrebbe anche garantito secondo me vista la forzatura che un po' è stata fatta anche il coinvolgimento dell'opposizione che secondo me quando si fanno delle riforme non è mai sbagliato insomma chiedere e cercare di avere il maggior coinvolgimento di tutti e mi faccio un attimo trascinare dalla conclusione del collega di Marco e giusto è vero quello che tu dici e anzi ho recepito quello che hai detto che bisogna scindere il passaggio della cancellazione delle circoscrizioni con il regolamento dei beni comuni ma il problema qual è? che presupponendo la buona fede di entrambi io ho sentito anche il tuo collega il capogruppo dire l'esatto contrario ha dichiarato l'esatto contrario quindi siccome io presuppongo in sede di commissione sede di commissione anche in un'assemblea pubblico vabbè insomma allora diciamo che è una mia interpretazione le interpretazioni sono sempre verificabili e quindi sono personali perché appunto si interpreta comunque io presuppongo sia la sua buona fede che la buona fede del collega per cui insomma a questo punto le due chiaritevi insomma mettetevi d'accordo chiaritevi e nel momento in cui vi siete chiariti ecco no ma può intervenire dopo vabbè e comunque presupponendo la buona fede di entrambi io invece quello che suggerisco è di portare avanti questo tipo di regolamento accanto alla riforma delle circoscrizioni ma sapete perché? perché in questo modo funziona meglio semplicemente non si lascia come ha detto prima il collega dal MAS si incanalano le iniziative dei cittadini e si impediscono ad esempio che dei comitati come ha detto prendere occupo in uno stabile se viceversa abbiamo uno strumento rappresentativo che gestisca queste problematiche e le incanali diciamo così nella partecipazione che noi vogliamo ottenere non avremmo questo rischio per cui sul metodo io questa sera mi dispiace non l'ho condiviso grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente allora arriviamo a trattare questo argomento non dopo dieci quindici giorni o un mese dalla commissione ma ben dopo dieci mesi da quando questo argomento è stato presentato è stato presentato se non ricordo male la data ce l'avevo da qualche parte a febbraio del 2015 e quindici e guarda caso non è stato presentato in una sede comunale non è stato presentato in una conferenza stampa in un locale ma è stato presentato in una sede circoscrizionale fatto secondario? Assolutamente no è una delibera di iniziativa consigliare e pertanto voleva essere un qualcosa di diverso da come normalmente vengono presentate le delibere e voleva scegliere anche il luogo per dire che si usciva dal palazzo per entrare più direttamente a contatto con con la gente per quello io questa polemica questa sera sulle circoscrizioni sono dentro sono fuori da questo regolamento sinceramente non la capisco e mi pare completamente fuori luogo mi pare completamente fuori luogo perché parlare delle circoscrizioni in questo momento è una cosa che non che non calza come ha detto Marco Salvadoro nella sua presentazione le circoscrizioni non sono né incluse né escluse da questo ragionamento le circoscrizioni sono un luogo un ente un organismo che nel momento in cui si andrà a trattare un problema specifico di quel territorio e si andrà a identificare un luogo e un metodo le circoscrizioni saranno coinvolte quando andremo a parlare della casa X o Y che dovrebbe essere gestita in un modo piuttosto che in un altro in quel momento diamo un nome a questo regolamento con una specifica che dovrà secondo il mio parere essere trattata in quel luogo specifico che in qualche modo ne diventa attore protagonista qui siamo sui principi generali è come se noi in consiglio comunale approvassimo una mozione che è iniziativa dei consiglieri e siccome l'abbiamo provata qua ma non abbiamo coinvolto le circoscrizioni questa mozione è monca di un qualcosa non è così questo è un regolamento sui principi ma questo non esclude le circoscrizioni e io penso che su questo dobbiamo metterci d'accordo perché se non capiamo questo passaggio vuol dire che stiamo andando avanti per posizioni nostre che sono posizioni politiche e non di sostanza il regolamento di beni comuni è una cosa importante è uno strumento importante che è stato declinato da un comune importante quale quello di Bologna che può avere delle differenze nel suo testo io non ho niente in contrario a quanto diceva il consigliere del Ben sulle sue osservazioni puntuali per punto e per comma io penso che l'amministrazione forse con qualche accorgimento ma mi pare che almeno per quello che ho sentito io e che ho cercato di seguirlo nella puntualizzazione di passaggi mi pare che possa essere accoglibile non so se c'è qualcosa che mi è sfuggito ma al di là di questo mi pare accoglibile nella sostanza io penso che però noi dovremmo concentrarci su quello che significa questo regolamento io ho provato a seguire anche alcune così osservazioni riflessioni che venivano fatte al di fuori della nostra città e non a caso l'università di Trento ha messo in piedi o sta mettendo in piedi di corsi di formazione che riguardano i funzionari per la gestione dei beni comuni e dei funzionari per interagire con i cittadini per poter in qualche modo usufruire di questi beni comuni vuol dire che se viene messo in piedi una cosa di questo genere a livello universitario il problema oppure il quesito che si pone è un quesito che è importante che la nostra società comincia a recepire io penso che siamo in un passaggio di cambio di paradigma cioè noi veniamo da una cultura nella quale era lo Stato che faceva ed era naturale che lo facesse ed era un po' di retaggio ottocentesco a una cultura dove è il cittadino che può fare è il singolo che può intervenire e qui si va a in qualche modo anche a declinare alcuni passaggi costituzionali dove si dice che lo Stato deve mettere in condizione il cittadino di poter fare questo regolamento nei suoi principi generali sfrutta questo passaggio comune nel tuo piccolo ambito puoi avere degli strumenti per permettere al cittadino di non essere uno che fa qualcosa contro ma per essere uno che fa qualcosa a favore e tu lo regolamenti in questo caso e gli dai gli strumenti e anche la sicurezza di poter fare perché mi dispiace che sia uscito il consigliere dal MAS ma volevo chiedergli nel momento in cui uno si mette a organizzare un qualsiasi cosa in questa città deve passare attraverso regolamenti attraverso richieste di permesso vedo che perché ho avuto una discussione con la giornalista tra riguardo che ha detto non fare quel titolo su quell'episodio ma entra nella sostanza e mi ha fatto il titolo per fare una festa bisogna pagare la TOSAP ecco la sostanza era non per fare una festa bisogna pagare la TOSAP ma permettere al cittadino di poter fare un qualcosa in maniera semplificata questo era il principio che volevo che volevo esprimere allora questo regolamento permette al cittadino di fare un qualcosa di sua iniziativa di singoli o associati in forma semplificata allora a quel punto il cittadino comincia a ragionare e a dire ma se io voglio fare qualcosa mettermi a disposizione e qui subentra il discorso della responsabilità dalla quale esoneravamo i cittadini perché la responsabilità era dell'ente pubblico succede qualcosa deve intervenire l'ente pubblico però il cittadino può avere un ruolo responsabile dice io voglio prendere cura adotto un cassonetto faccio l'esempio semplice e sto attento se in quel cassonetto ci mettono le borse guarda neanche farò posta con ficoni in qualche maniera entra sempre nei ragionamenti ma lo so che lo perfido non vuole ma insomma dai lasciamo questa concessione il cittadino che diventa in qualche modo responsabile di un luogo di uno spazio ma è suffragato è supportato dall'amministrazione non è un singolo che prende un'iniziativa ed è da solo in questa iniziativa è in qualche modo appoggiato allora cosa voglio dire con questo ragionamento voglio dire che questo regolamento seppur sembra una cosa semplice seppur sembra una cosa anche banale ma cambia completamente l'approccio cambia completamente il modo di vedere le cose dietro a un bene comune dietro a un bene comune ricordiamoci c'è una comunità il bene comune è di tutti e la responsabilità è di tutti di trabandarlo agli altri in qualche modo salvaguardato e il bene comune è universale ed è locale il bene comune è l'aria e l'acqua ma il bene comune è anche il marciapieda il bene comune è anche il cassonetto che citavo prima allora ognuno di noi può essere chiamato nel suo ambito nel suo piccolo a rispondere ad una necessità e solo se avverte questa necessità anche come una responsabilità quell'azione avrà un compimento vedete la cosa che io sto notando in questi ultimi anni che il concetto di delega è finito il concetto per il quale uno dava un voto e poi per cinque anni non ci parlava più sopra e aspettava le prossime elezioni è finito ogni momento uno è sotto controllo è sotto esame per qualsiasi cosa fa e dice i network ti mettono continuamente in discussione se tu pubblichi qualcosa al giorno dopo hai dieci venti che ti rispondono per cui sei continuamente sotto esame e siccome sei continuamente sotto esame è anche giusto è corretto che ci siano delle regole che ti danno la possibilità di partecipare e di partecipare in forma informativa poi se noi non lo facciamo se noi non ci prendiamo cura ci sarà qualcun altro che sicuramente si prenderà cura e forse non si prenderà cura con lo stesso spirito e con lo stesso amore con cui potremo prenderci cura noi che in qualche maniera siamo chiamati essendo seduti in questo contesto ad essere i rappresentanti di questa di questa comunità i beni comuni non hanno confini i beni comuni non sono né di destra né di sinistra i beni comuni sono di tutti sta a noi utilizzarli in maniera corretta sta a noi utilizzarli con intelligenza sta a noi utilizzarli per la crescita della società noi stiamo entrando in una società stiamo già vivendo questo tipo di società in cui siamo meno legati al possesso e più portati all'uso i giovani ce lo stanno dimostrando prima qualcuno forse Marco stesso citava il discorso mi pare un po' indirettamente del bla bla card qualcosa del genere cioè il fatto di mettere insieme alcune cose per poter utilizzarle che non è il possedere quelle cose ma avere lo strumento per poter per poter arrivare a qualcosa anche perché le possibilità le possibilità che avremo davanti saranno sempre meno e soprattutto per i giovani saranno sempre meno per cui dovranno essere sempre più condivise vedete i punti che sono stati citati sul nel declinare questo 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 regolamento sono punti che sono fortemente fortemente incisivi e sono quelli della sussidiarietà anche se diceva che il consigliere Dalmas che non capiva troppo questo concetto ma non è un concetto che appartiene a una fede religiosa è un concetto che deve appartenere alla comunità la responsabilità che è un concetto ampiamente dovrà essere sempre più ampiamente condiviso la trasparenza e questo è uno strumento che ci permette di essere trasparenti la condivisione e un altro elemento che 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 insito in queste righe è il discorso della fiducia perché nel momento in cui ci mettiamo a confronto reciprocamente dobbiamo fidarci di ciò che facciamo e poi per ultimo è quello della formazione e il coinvolgimento come veniva detto prima delle scuole questi sono tutti i passaggi che in questo regolamento in qualche modo vengono declinati e questo deve essere uno strumento di tutti qua non dovrebbe esserci una maggioranza o un'opposizione che ragiona su questo regolamento ma devono essere dei concetti condivisi poi ci possiamo dividere perché è chiaro le elezioni sono vicine ognuno gioca la sua parte ognuno deve mettere in evidenza un ruolo piuttosto che un altro un aspetto piuttosto che un altro ma non è questo che mi interessa a me interessa che abbiamo degli strumenti a disposizione che ci permettono come comunità di crescere e chiudo dicendo che la città è il luogo dove convivono gli estranei e questo è un passaggio che sempre più mi sto rendendo conto che è attuale e se vogliamo che gli estranei non continuino in qualche modo a impossessarsi della città dobbiamo provvedere con degli strumenti che permettano in qualche modo l'integrazione la socializzazione la conoscenza e lavorare insieme per un qualcosa è uno strumento che permette anche di conoscerci Grazie 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 Due premesse importanti La prima è che apprezziamo che il Consigliere Salvador abbia appunto specificato che questo tema cioè il regolamento dei beni comuni sia assolutamente svincolato al tema e alla delibera sulle circoscrizioni questo come il gruppo consigliare ci sembriava importante e queste due cose siano ritenute assolutamente separate un'altra premessa è che riteniamo comunque di condividere il rilevo dal punto di vista del metodo fatto dal Consigliere del BEIN anche se non è inficia da parte nostra la legittimità di questo provvedimento questo è il nostro pensiero riteniamo però assolutamente prioritario che questa città si possa adottare di questo regolamento perché è un passo assolutamente in avanti tutto poi sicuramente può essere perfettibile e in questo caso sicuramente si potrà migliorare però ritengo che molte persone domani e non solo le associazioni che hanno già diciamo sono già hanno già un'istituzione un gruppo di persone che già si interfaccia con il comune ma penso a tutti ai singoli ma penso soprattutto a quei gruppi spontanei e ce ne sono sempre di più in questa città che si occupano già dei beni comuni sia materiali che immateriali che hanno si trovano di fronte a un bivio o penso anche ai genitori a un gruppo di genitori che domani mattina decida di mettere mano un alo di una scuola ecco non lo può fare se non incappando in tutta quella burocrazia necessaria per costituire un'associazione per chiedere i contributi al comune per chiedere ovviamente i patrocini e le iniziative che vuole fare tutto questo con regolamento viene semplificato quindi domani mattina i cittadini in Pordenone potranno avere un strumento utilissimo e importante per facilitare dei processi partecipativi e per prendersi cura di parte di questa città quindi da parte nostra ci sembra un'occasione sprecata se non la sosteniamo qui e questa sera credo che abbia due risvolti importanti un risvolto che la politica faccia in qualche modo un passo indietro e faccia proprio le istanze della società civile la società civile ha sempre voluto e vuole interagire col comune e con l'istituzione ma spesso le porte di accesso sono strette non sono dirette questo patto dei sindaci invece apre le porte del comune alla collettività ai cittadini un suggerimento ci permettiamo di fare questo patto questo regolamento per i beni comuni sarà tanto più utile quanto più semplificata sarà la procedura e quanto più semplificato sarà l'accordo successivo cioè questo patto che legherà il comune ai singoli alle associazioni o ai gruppi di persone tanto più diciamo tanto più semplice meno burocratico sarà quell'accordo tanto più utile sarà questo regolamento e tanto più sarà utilizzato per tutte queste ragioni il gruppo consigliere del ponte voterà a favore di questa delibera grazie consigliere Daniello prego grazie allora voglio iniziare dicendo che questo poteva essere un'occasione veramente utile a tutti a tutti i cittadini singoli o associati però non mi aspettavo questa sera che mettessimo in discussione tutto e il nulla rispetto a quello già detto consigliere Marco Salvador la cultura di governo e dice che crede al futuro di un'amministrazione aperta passa anche attraverso la partecipazione dei cittadini queste sono parole tue e io le sottoscrivo in pieno queste cose figurati se non dovessi sottoscrivere la partecipazione attiva da parte dei cittadini ma hai anche detto che è stato un elemento di superamento delle circoscrizioni quale passaggio post la commissione in cui il tuo collega Bianchini ha spiegato il superamento delle circoscrizioni ok o l'una o l'altra stasera hai detto che non è legato al superamento delle circoscrizioni in sede e qua ci sono le tue parole e ci sono anche le parole di Bianchini quando ha presentato la in commissione la delibera sul superamento delle circoscrizioni dicendo che questo era la modalità per che queste fossero superate delle due l'una bene allora ripartiamo da un altro concetto che a me è piaciuto che tutti i cittadini singoli o associati chiederei un po' di spiegazione su quanto riguarda per quanto riguarda le fondazioni che non è un passaggio di non poco conto per quanto riguarda il regolamento sull'uso aspetta che lo trovo eh sull'uso interventi di cura e rigenerazione di edifici allora questa sera ho ascoltato e ho immediatamente interrotto mi scuso il sindaco quando parlava della rete solidale la rete solidale non è l'associazione a cui si rivolgeva lei ci sono delle persone che lavorano per la rete solidale ma che e che fanno parte anche dell'altra associazione degli immigrati ma non è la stessa cosa la rete solidale sono tutte quelle persone compresi alcuni parroci che hanno fatto rete per portare vestiti biancheria coperte il tè caldo da mangiare eccetera 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 anche piantare le tende anche piantare le tende al parco San Valentino ma non è quello benissimo domani mattina quando avrete firmato questa delibera e quando avrete accolto questa delibera i cittadini si sentiranno in donere di venirvi a chiedere dove sono e quali sono gli edifici che possono essere messi a disposizione nella gestione condivisa chiedendovi bene io mi faccio mi prendo in carico questa fetta di edificio e qui ci voglio mettere dentro per un tempo più o meno limitato gli emigrati cosa direte? no perché siete cattivi? o sì? eh? dopo mi daranno una risposta e quindi questa è una bella cosa però a chi spetta poi dire se questa associazione o di un'altra o perché è simpatica all'amministrazione avrà diritto o meno all'uso di eh un edificio che non è che è in stato di parziale o totale disuso da parte dell'amministrazione? Piccinato tabon allora varie sono le ipotesi rispetto a questo regolamento e che io voterò contro semplicemente sai perché Marco? non perché eh l'hai presentato ma per il metodo in cui è stato presentato avevamo chiesto io e la collega per il son in commissione capigruppo che venisse posticipato alla delibera sulla soppressione delle eh delle circoscrizioni come era normale fosse perché come ho detto prima dell'uno o l'altra mh perché la eh rispetto ad una come certo lo faccio propedeutico sì perché il patto sì no niente niente il patto io non eh quando non è malevole la l'interruzione non non disturba secondo me allora il patto tra i cittadini ci vuole anche un'intermediazione perché l'avete detto voi questo è rivolto non più alla macchina è rivolto più alla macchina amministrativa che quella politica quindi è un decentramento amministrativo eh su quello su cui si basa il eh il regolamento dei beni comuni e qui questa è l'altra mia il mio venire un po' meno e dubbioso rispetto a dare un consenso a questa delibera perché con questa delibera qui si eh viene esautorato il ruolo della politica perché solo la prassi invece va mediata la politica serve a questo serve hai ragione ad un cambiamento culturale e qui ci poteva stare e qui ti dava ragione e qui ti ho dato ragione anche in commissione questo è un cambiamento culturale ma il cambiamento culturale mette alla pari tutti i cittadini cosa che stasera non avete dato ad esempio in questo consiglio comunale proprio su questa delibera perché se il eh consigliere del ben vi chiedeva una cosa che c'è scritto sul regolamento e nessuno di voi ha dato una spiegazione politica di contrarietà ma vi siete appellati ad un pezzo di legge per cui il segretario generale ha dovuto assumersi la responsabilità di rispondere eh non è banale la cosa che poi eh sono dubbiosa è che da una parte volete la città dei centomila dall'altra create questo tipo di ehm regolamento la città ha bisogno delle circoscrizioni perché ci sia l'applicazione di questo regolamento si chiamino centri civici del bolognese ma eh o si chiamino circoscrizioni o quello che volete ma esistono devono esistere per dar gambe a questo tipo di regolamento l'altra cosa che eh sarebbe stata bella è appunto la eh possibilità di essere considerati dei cittadini attivi sulla città molta gente lo fa comunque Roberto pulisce il cassonetto si pulisce il marciapiede senza lo si fa comunque Roberto lo si è sempre fatto perché eh lo si è sempre fatto bagnano le aiuole e non vi appellate ad un'assicurazione perché altrimenti le persone eh che cadono per terra e che non sanno che c'è l'assicurazione che eh che il comune copre la caduta perché c'è il tombino e perché la signora non ha visto e perché è caduta sarebbero migliaia i ricorsi all'assicurazione dai del comune la condivisione eh che voi auspicate che ci sia in questo patto tra i cittadini doveva essere proprio e portata come esempio nella circoscrizione e da lì sarebbe partita la vera condivisione per quanto riguarda poi il la collega bevi l'acqua è vero eh è è stata è una città aperta Pordenone condivido però eh questo regolamento sottende a una cosa ad un principio ad un valore che è universale che è il rispetto che è un atteggiamento ed è un comportamento improntato sulla consapevolezza dei diritti e dei meriti anche altrui per questo dico che si è sempre fatto al di là dell'assicurazione Roberto non c'è la persona che vuole l'assicurazione per pulire il il cassonetto certo che hai fatto un ragionamento anch'io e te l'ho seguito e l'ho seguito bene comunque il mio voto sarà sicuramente contrario grazie consigliere Loperfido prego grazie presidente la posizione del sottoscritto in quanto anche sottoscrittore della proposta è sicuramente un po' complessa visto come si è evoluta la discussione del dibattito indubbiamente come anche specificato in un'e-mail la cui evoluzione dinamiche non mi erano ben presenti all'interno dei vari sottoscrittori di questo progetto regolamento sulla collaborazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni in cui sembrava che fosse l'opposizione a remare contro questo regolamento e come specificato anche all'interno di questa e-mail ho dovuto specificare che i dubbi sicuramente non erano tra i membri dell'opposizione riguardo questo regolamento e che ogni eventuale posticipo della discussione come avvenuto da tre mesi ad oggi non era assolutamente riconducibile a dubbi dell'opposizione riguardo la qualità della proposta ma erano unicamente riconducibili a dinamiche interne alla maggioranza a noi sconosciute ufficialmente ma che non riguardava assolutamente l'opposizione e allora nel momento in cui si pone una questione di dubbio regolamentare non mi azzardo a dire di dubbio di legittimità perché stiamo parlando di una cosa minimale ma di dubbio regolamentare allora poi emerge quella che è la vera problematica riguardante questo regolamento ovvero il timore da parte di qualcuno di vedere cambiate le sorti del funzionamento delle circoscrizioni allora io credo che fino a quando vogliamo far parte di un organismo democraticamente eletto dobbiamo essere primi a rispettare prima di tutto la democrazia partecipativa popolare gli organi democraticamente eletti che vengono disciplinati da regolamenti approvati a maggioranza e regolamenti che non dovrebbero essere piegati in base alla forza dei numeri ma dovrebbero essere fatti propri nel momento in cui ci siedono i banchi di consiglio comunale e tenuti in considerazione sempre indipendentemente dal fatto che si possa avere o meno la forza dei numeri scusi e dico questo perché veramente io quando ho avuto la possibilità di parlare con Salvador e altri colleghi della maggioranza riguardo questo regolamento non ho avuto nessun dubbio a sostenerlo però andando a verificare eventuali miglioramenti eventuali emendamenti andando a vedere come sono evolute le cose negli altri consigli comunali dove è stato approvato questo la cosa fondamentale era approvato all'unanimità e una cosa che deve essere approvata all'unanimità deve comunque tenere in considerazione tutte le sensibilità presenti all'interno del consiglio comunale perché altrimenti quando si parla di beni comuni sono beni di tutti a 360 gradi e quindi bisogna tenere in considerazione le sensibilità di tutti ma vedo che qua praticamente se non per un senso di responsabilità in quanto promotore e quindi un patto tra gentili uomini tra il sottoscritto e i sottoscrittori probabilmente non sarebbe a parte il collega appiccinato praticamente non avreste nessuno del centro-destra perché per l'ennesima volta come nel caso del del famoso patto dei sindaci avendo voi la maggioranza avete calcato la mano voterete anche questo documento bravi complimenti ma di fronte alla possibilità di avere la maggioranza e l'unanimità avrete un regolamento dei beni comuni sicuramente uno strumento utile ma impoverito dal fatto di non essere sostenuto da non essere sostenuto da tutti sicuramente sarà un dato positivo ma probabilmente non sarà una nota di vanto e me ne dispiaccio perché è uno strumento sicuramente utile uno strumento sicuramente migliorabile non è uno strumento rivoluzionario perché adesso non è che nel 2015 possiamo dire che stiamo facendo qualcosa di rivoluzionario quando ci sono convenzioni con associazioni sportive che mantengono già i nostri impianti sportivi ci sono associazioni che tengono impianti e strutture dove si fa cultura abbiamo convenzioni dove alcuni spazi comuni vengono già gestiti insomma è sicuramente uno strumento migliorativo di quanto già esiste di quanto già accade nel comune di Pordenone come in tanti altri comuni quindi giustissimo perché quando noi per esempio abbiamo fatto quell'iniziativa quest'estate per quanto riguarda la la deroghe per la musica in città alla fine uno dei problemi principali stupidamente era e si qua però fanno le iniziative ma devono pagare la TOSAP e quindi uno strumento che che cercasse di eliminare queste limitazioni di una sciocca burocrazia asburgica per non dire borbonica erano abbastanza impegnative allora era necessario individuare uno strumento e questo è sicuramente lo strumento utile perché per esempio nel momento in cui si vanno a fare le iniziative una delle cose principali era l'esenzione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone quindi uno strumento che semplifica la vita a chi vuole fare qualcosa per il bene comune e quindi benissimo questo tipo di strumento però appunto stiamo parlando di un qualcosa che dovrebbe essere orgoglio e vanto di tutti ma con questa forzatura che c'è stata per cui andando a toccare quello che è il bene comune presente in tutto il territorio comunale quindi essendo ancora suddiviso in circoscrizioni mi si viene a dire che non si entra nello specifico è una questione probabilmente di lana caprina ma con questo regolamento effettivamente e lo dico anche senza vergogna non mi ero posto il problema nel fatto che dovessero essere contattate prima in circoscrizioni perché il regolamento dice questo nel momento in cui si affronta una tematica qualsiasi argomento che riguarda un bene presente in circoscrizioni bisogna obbligatoriamente convocare il parere convocare il circoscrizione per un parere non si entra nello specifico questa è la vostra interpretazione io sostengo che essendo una cosa rivoluzionaria come è stata definita da qualcuno e che riguarda il bene presente all'interno del comune di Pordenone proprio perché è rivoluzionaria e che riguarda i beni del comune di Pordenone presenti all'interno di circoscrizione le circoscrizioni devono essere contattate devono essere convocate e alle quali deve essere richiesto un parere si ha timore del confronto la democrazia fino a quando le istituzioni funzionano così secondo regolamenti che tutti quanti abbiamo approvato nel corso degli anni dobbiamo fare conto con le regole previste le regole del gioco previste dalla democrazia nella quale abbiamo deciso di giocare e quindi se c'è un timore del confronto mi dispiace non è il principio per il quale ci stiamo battendo secondo questo tipo di regolamento noi diciamo noi mettiamo a disposizione della società nella quale viviamo diamo a disposizione dei nostri cittadini dei quali ci fidiamo ciecamente diamo i nostri beni comuni a loro disposizione però sulle modalità siccome abbiamo timore che qualcuno non la pensi come noi allora le modalità decidiamo noi quali sono le regole del gioco e oggi abbiamo deciso che le circoscrizioni non dovevano essere contattate non dovevano essere non dovevano avere non dovevano rilasciare un parere per carità non muore nessuno ma credo che sia un grosso precedente perché anche quando si approva il bilancio si chiede il parere delle circoscrizioni quando si deve rifare un tombino si deve rifare un marciapiede si convolga le circoscrizioni sono le regole che abbiamo deciso quindi di fronte a questa tipologia di regolamento validissimo utilissimo migliorabile come tutto ma sicuramente utile per poter magari dare vita a migliorie degli stabili presenti nella comune di Pordenone e per esempio adesso mi viene in mente la presenza anche dell'elemento del baratto amministrativo che al giorno d'oggi è una cosa molto utile visto che delle volte alcune persone non sono in grado di poter pagare risarcire con una multa il danno fatto nei confronti dei beni dell'amministrazione pubblica e allora c'è la possibilità grazie anche a questo regolamento di poter trasformare la multa in opera di pubblica utilità quindi ripeto un regolamento migliorabile per esempio mi ricollego a un altro tipo di azione volta alla tutela alla cura del bene comune un'iniziativa che sicuramente lei sindaco presidente della provincia conosce lavori in corso comune dove cittadini studenti vengono utilizzati per ridipingere qualche edificio la propria scuola e così via dove però per esempio il comune di Pordenone non ha potuto partecipare perché non c'è stato nessuno in grado o disponibile in tempo per fare la domanda per partecipare al bando della provincia e il collegamento qual è il problema Marco e questo è da verificare queste opere devono essere seguite sempre dagli uffici del comune abbiamo la forza dal punto di vista del personale di poter seguire poi tutti questi progetti dal punto di vista della sicurezza dal punto di vista dell'essere in linea con quanto il progetto promette di fare verificare 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 l'andamento del progetto nel corso del tempo verificare che non vengono fatti danni nei confronti degli edifici verificare eventuali responsabilità nel caso in cui ci siano dei danni questo è dal punto di vista del comune un altro onere che deve essere verificato appieno perché tante volte capita che magari non siamo in grado di seguire un progetto perché non c'è il personale disponibile e quindi questa è una tematica da approfondire ripeto niente di rivoluzionario sicuramente la sussidiarietà finalmente può vedere uno sbocco anche nel nostro comune non siamo il primo comune del nord est Trento l'ha approvato ad aprile probabilmente all'interno della maggioranza non avevano le stesse baruffe non c'erano le stesse baruffe che c'erano all'interno del comune di Pordenone e quindi loro sono stati più celeri io ricordo che le prime conversazioni approfondite le abbiamo fatte maggio-giugno siamo a dicembre e siamo arrivati ad un consiglio comunale che da approvare all'unanimità uno strumento simile si ritrova ad approvarlo a ranghi ridotti io facevo parte di coloro i quali per dare forza e validità a questo documento avrebbe preferito posticipare la discussione a no semplicemente dopo aver sentito le circoscrizioni mi avete detto che non ha senso vi risparmio l'intervento per la dichiarazione di voto voi mi dite che non ha senso quello che dico io e io dico che proprio per questo pur condividendo l'utilità del documento pur convinto del fatto di averlo sottoscritto rimango nel dubbio del fatto che si poteva affrontare meglio dal punto di vista regolamentare le vostre motivazioni per le quali siete andati non mi hanno convinto e quindi non parteciperò al voto va bene grazie consigliere bene nessun altro iscritto per il primo intervento prendendo dichiaro chiusi chiuso il primo intervento passiamo al secondo nessun iscritto dichiaro chiuso anche il secondo intervento ah no scusate prego prego consigliere Danilo non l'avevo vista non avevo calma 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 grazie allora non basta approvare un regolamento per essere capaci di cambiare cultura. Non basta approvare un regolamento per essere capaci di decentrare tutte le funzioni essendo il comune che organizza e gestisce il tutto. Ci vuole un organismo intermedio. La cosa che Marco mi è proprio poco piaciuta nel tuo intervento quando hai presentato questo regolamento è quando hai affermato che siamo in una società liquida e che la rappresentanza politica territoriale non ha più senso in questa città. Amor, qua è scritto questo. No, no, no. Quando hai presentato in commissione io mi sono fatta proprio dare la trascrizione della... e l'ho letta, guarda, e l'ho sottolineata. Perché è un autogol questo, aver affermato questo. Probabilmente non avevi le intenzioni di dire questo perché altrimenti non staresti lavorando per riconfermare questa maggioranza a guida di questa città. E te ne do atto. Però quello che hai detto, probabilmente il passaggio è sottile ma ha un peso politico molto importante. Quindi credo che tu debba fare un passo indietro su questa cosa che la rappresentanza politica territoriale non ha più senso in questa città. Ha senso e come. E le circoscrizioni ne sono l'esempio pratico e vivente. E se voi aveste dato rispetto alle circoscrizioni avreste avuto un punto in più rispetto a questa delibera. Non avendo fatto passare questo regolamento in circoscrizione, cadete in un autogol che è lo stesso di quello che hai sottolineato tu. È strettamente connesso. È strettamente connesso, Marco. Mi dispiace ma questo è il punto fondamentale su questa delibera qua. Grazie. Grazie consiglio Daniello. Bene, non vedo nessun altro iscritto, pertanto dichiaro, chiuso il secondo intervento. Chiedo all'amministrazione, sì, all'assessore Moro. Prego. Sì, grazie. Non vorrei ritornare sulla questione delle circoscrizioni ma io credo che non ci sia stata assolutamente mala fede dal punto di vista della procedura. Semplicemente si è ritenuto di rendere ancora più capillare la partecipazione con la pubblicazione sul sito e chiedendo ai cittadini di poter dare un contributo. Al di là del fatto che non era, come ha ben specificato il segretario, non era assolutamente obbligatorio ma non c'era la volontà assoluta di emarginare le circoscrizioni in questo momento. Per quanto riguarda invece gli interventi, io ringrazio da parte dell'amministrazione i contributi che sono arrivati dai consiglieri che sono intervenuti. In particolare rispetto agli interventi, ai contributi che ha dato il consigliere del BEN, è specifico che in alcuni punti c'erano effettivamente dei refusi, siamo andati a vederci il regolamento pubblicato e c'erano degli errori nella trascrizione poi del regolamento pubblicato e portato alla discussione in Consiglio Comunale, per cui li abbiamo corretti e abbiamo anche recepito alcune altre segnalazioni che ci ha fatto il consigliere del BEN. Non so come funzioni, l'abbiamo trascritti su un foglio, li abbiamo consegnati, l'ho sottoscritti io, io credo che essendo una delibera di iniziativa consigliare, possono essere accolti dal Consiglio in questo caso. Allora gli emendamenti sono quelli che sono stati distribuiti, sono stati distribuiti per velocità perché non capivamo quanto tempo avevamo e quindi vado a riassumerli. All'articolo 2, comma H, sostituire le parole incisività con inclusività, questo era un errore di correttore, e dopo le parole ambientali aggiungere ampi e integrati. Al comma N, sostituire la parola garante con la parola medium. Anche lì c'era un appunto che era stato fatto poi in fase di confronto che è rimasto sulla tastiera. All'articolo 4, comma 1, dopo le parole comuni, un attimo, comma 1. Allora, l'intervento di cura e rigenerazione di beni comuni urbani, ecco virgola, vengono aggiunte, è giunta la frase, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è strumento per il pieno sviluppo della persona umana, virgola, e riprende il comma 1. Al comma 2, dopo la parola formazioni sociali, è giunta la frase in cui esplicano la propria personalità stabilmente. Allora, il comma 7, aggiungere alla fine della frase, dopo selezionati, secondo modalità concordate con i cittadini. All'articolo 5, comma 1, all'inizio aggiungere le conseguenze di eventuali danni occorsi a cose o persone in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione. All'inizio del comma E. No, no, prima di la necessità. Allora, l'articolo 5, comma K. Anche qui. All'inizio inserire le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento delle clausole del patto, poi virgola, gli assetti, eccetera. Articolo 6, comma C. Sostituire le parole, proporre la realizzazione di, con le parole, possono altresì realizzare. Articolo 8, comma 3. Sostituire la parola incentiva con le parole promuove. Articolo 9, comma 2 dell'articolo 9. Dopo le parole collaborativi, dunque piattaforme digitali, dunque. Dopo le parole collaborativi, quindi alla seconda riga, aggiungere la frase è del medium civico. E poi, dopo le parole piattaforme digitali, quindi verso la fine, aggiungere quali la rete e i medium civici. Allora, può rispondere anche l'assessore, ma ho il microfono acceso. Il medium civico, nell'accezione pensata a Bologna, cioè di questo regolamento, inizialmente anche, cioè noi pensavamo, sembrava un mediatore, invece non è un medium proprio, cioè è uno strumento di comunicazione, quindi è un assieme, è un blog, esatto, è un facilitatore, però mediatico di network. No, però dietro deve avere una redazione, cioè comunque, dietro ci sta comunque una mediazione, ma è uno strumento, cioè il medium è inteso in termini di strumento, strumento digitale. Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego. Consigliere Piccinato. Grazie, Presidente. Ribadisco, l'intenzione è quella di dare un voto favorevole alla proposta per i motivi che ho espresso prima. Ribadisco comunque, da un certo punto di vista, che il testo in ogni caso è complesso e dal mio punto di vista dovrebbe essere, anzi deve essere, semplificato per renderlo più alla portata di un cittadino qualunque che voglia aiutare la propria cittadina, la propria società, mettendoci del proprio. e auspico anche che poi nelle versioni future in qualche modo ci sia meno burocrazia possibile per poter appunto dare un compimento più effettivo a quello che è l'intento di questa proposta. Chiudo semplicemente con un ragionamento, nel senso che essendosi tutti seduti dalla parte della ragione noi non possiamo sederci che dalla parte del torto, però è un po' così un messaggio culturale dal punto di vista della Catania, come associazione culturale che anche rappresento e quindi è sempre un po' un messaggio controcorrente. Volevo un attimo rispondere con una frase di Nietzsche al ragionamento che ha fatto il consigliere Dalmas scusate, tanto ormai siamo già oltre. Datemi un secondo sul bene comune da quanto ho capito insomma il ragionamento suo che poteva essere quello che cos'è il bene comune è una cosa che ha poco valore dice Nietzsche perché appunto è comune. Grazie consigliere giusto, prego. Grazie presidente. L'intervento brevissimo è per sostenere a nome del Partito Democratico questo regolamento che a nostro modo di vedere è uno strumento potentissimo per raggiungere tutti i cittadini e fare in modo che ci sia davvero un governo diffuso del territorio e crediamo che sia una forma di rappresentanza e di governo diretto che va sostenuto in ogni modo e per questo che il Partito Democratico sostiene convintamente il regolamento. Grazie consigliere. Cossigliere Salvatore. Sì grazie, chiaramente per dare il voto favorevole. Rispondo solo a Delben. Mi è parso di leggere tra le righe quando lei, collega, ha affermato che fosse mutuato dall'esperienza bolognese con molta sincerità. Ho captato un po' di superficialità nel senso sì l'avete semplicemente fatto un copio in colla. Posso permettermi, per rispetto non tanto verso me stesso ma per il lavoro che abbiamo espresso in due o tre mesi io, Martina Toffolo che ringrazio, il segretario che tra l'altro si è dedicato a questa stesura e ha fatto imparare a me che sono poi un semplice consigliere, molte cose della macchina burocratica in questa occasione e all'assessore Flavio Moro che ci abbiamo presi da briga di sviscerare, snossolare ogni singolo comma per capire la validità e quello che c'era dietro in termini culturali e poi anche in termini amministrativi ed è stato un lavoraccio che poi dopo si sia, come dire ridefinito nella stessa fisionomia che ha il regolamento di Bologna questo è quello che pare poi a lei sul tavolo ma dietro c'è stato un grosso lavoro di ricerca e di elaborazione quindi lo dico non tanto nei miei confronti ma quanto nel rispetto dei confronti di chi mi ha accompagnato in questo tipo di processo è vero quello che dice poi Sperotto che è fondamentale poi l'elemento, bruttissimo termine ma macchina amministrativa perché poi in realtà ci sono delle persone dietro ed è quello poi il senso della rivoluzione che non è tanto nello strumento regolamento ma quanto è, intendevo, nel principio di sessualità espresso in Costituzione questo era il principio di rivoluzione però è vero che noi in qualche maniera diciamo alla popolazione, alla cittadinanza guarda che la tua autonoma iniziativa autonoma iniziativa a casa mia è un principio liberale assoluto in risposta dal MAS che ora non c'è anche se io credo che poi nella creazione di una comunità la vita partecipativa abbia un ruolo più importante di quella competitiva e io che non sono un uomo del 1900 come probabilmente lo è dal MAS per me la liberalità e quindi l'autonoma iniziativa va di pari passo con la non competitività in termini di creazione di comunità mi sono perso in questo ragionamento ma per dire che no perché per dire che cosa? per dire poi che in realtà noi diciamo la nostra cittadinanza guarda che la tua autonoma iniziativa noi la favoriamo grazie al fatto che predisponiamo la nostra macchina amministrativa ad accogliere e agevolarti a renderti lo zaino più leggero per portare a compimento questo tipo di iniziative grazie grazie consigliere consigliere del ben prego sono cinque minuti? sono cinque minuti questa sera lascia almeno per quanto il mio giudizio dei vulnus delle ferite in consiglio comunale uno perché si è messo in discussione un ragionamento di diritti e legittimità il secondo perché si è bypassato la presenza in quel organo istituzionale sui generi che vive che sono le circoscrizioni ma non possiamo sicuramente fermarci a questo perché dobbiamo fare una visione di prospettiva e questa prospettiva è che la giunta che ha portato il proprio contributo anche alla discussione come sa fare adesso può anche essere per dire quella che recepisce alcune istanze che sono nate anche di ulteriore partecipazione questa è una delibera di iniziativa consigliare ma questo non vuol dire che sia tolta dalle competenze che può fare dalle migliorie che può fare la giunta e tenendo conto di questo può fare ciò che ritiene opportuno sul piano politico amministrativo per il prosieguo di questo regolamento quando io ho preso in mano questo regolamento sapendo come funzionano alcune cose sono andato in internet e ho scritto alcune parole mi è venuto fuori subito il regolamento di Bologna e questo mi ha anche confortato nel senso che è un percorso che enti locali di orientamento simile a quello che è il mio hanno per dire lavorato molto su questo argomento dopodiché che mi sia imbattuto su quello di Pordenone con incisività e quando io ho detto che c'erano delle cose da migliorare uno mi ha detto se l'ho letto l'ho scritto io allora è chiaro è chiaro che nasce anche un po' di sana polemica nel dire che quel regolamento è valido in sé magari con quella possibilità di fare piccole migliorie quindi per dire il giudizio positivo sul regolamento era andato perché è in quelle iniziative di enti locali che si orientano verso la partecipazione in sé e quindi quello che era fatto dopodiché che a Pordenone ci sia un forte movimento anche di presenza civica che porti innovazioni che qualche volta stimoli anche alcuni partiti che sono dentro le circoscrizioni a pensare a pensare in modo evoluto indipendentemente da che fine faranno le circoscrizioni nulla è immutabile per me hanno ancora una funzione almeno fin quando c'è questa consigliatura dopo dopo se ne può parlare allora di fronte a questa a questa situazione la la mia prospettiva è che questo momento che è di buoni contenuti lo diceva anche Lopez lo perfido prima per dire l'avremmo anche votato tutti quanti tutto sommato è un modo nuovo di vedere le cose e quindi su questo regolamento non può non darsi un giudizio complessivamente favorevole e positivo ci sono delle questioni di metodo che magari è giusto che vengano criticate e magari visitate anche da un voto che non sia favorevole a quello che è a questa proposta consigliare allora per dire nell'insieme io dico no a strumenti di divisione no a trovare per dire qualcosa che possa impedire una grande alleanza che mantenga contenuti di questa giunta magari li espande e li allarghi rispetto a recenti esperienze che non sono ancora da giudicare completamente positive quindi su questa valutazione e quindi possa fare anche delegando la giunta a fare alcune cose ulteriori migliorie e poste in essere quindi sul piano del metro quello che è successo non può esserci dato un giudizio favorevole neanche se è un'iniziativa consigliare sul contenuto in sé il giudizio è positivo per cui il mio sarà un voto di astensione sul voto non un'astensione dal voto per dire velocemente vista l'ora che lo strumento che si è discusso stasera è sicuramente un strumento positivo per la comunità spero che abbia quelle virtù miracolissiche che qualcuno ha sottolineato anche in quest'aula io penso più diciamo non pessimisticamente ma bisogna che abbia alcuni strumenti attorno nel senso che come tutte le cose innovative e sperimentali come sarà questo regolamento avrà bisogno di tutti e non solo dei consiglieri comunali ma credo anche delle circuzioni seppur riformate come mi auguro nei tempi previsti insomma peccato che ci sia stata una questione di metodi rispetto delle regole che io non riesco per coerenza a superare e pertanto un voto che poteva essere favorevole diventa di astensione grazie silenzio per cortesia bene nessun altro iscritto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunica da ravi o le procedure di votazione silenzio grazie pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 42 proposta di deliberazione di iniziativa consigliare per l'approvazione del regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani così come emendata dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 30 votanti 29 maggioranza 15 favorevoli 25 contrari 1 astenuti 3 la deliberazione è stata approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 28 votanti 27 maggioranza 21 favorevoli 25 contrari nessuno astenuti 2 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene signori dichiaro chiusi i lavori del consiglio sono ore mezzanotte 21 e il consiglio verrà ricovocato a domicilio auguro a tutti buon fine anno auguri buon Natale e di fine anno e ci vediamo il prossimo anno arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti